Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Sussurri di Hermes. Di Maurizio Bettini. Io sono Maurizio Bettini e sono qui per parlare con voi di comunicazione. È un gioco un po' doppio, un gioco un po' meta. Alla radio parleremo di comunicazione. Però vorrei rassicurare agli ascoltatori che non parleremo di problemi di canali satellitari, di connessioni di computer e di altro. Parleremo della comunicazione in una prospettiva che spero risulterà abbastanza insolita. Cioè parleremo dei miti e dei racconti leggendari legati alla comunicazione nel mondo antico, in particolare in quello greco e romano. Insomma, racconteremo delle storie o dei fatti strani, delle pratiche culturali, degli avvenimenti curiosi, eccetera, legati al modo in cui gli antichi comunicavano o sognavano di comunicare nei loro racconti e nei loro miti. Oggi per noi la comunicazione ha dei referenti molto precisi. Sono per l'appunto la radio, dalla quale io sto parlando, ci sono degli gentili ascoltatori che vi stanno appunto ascoltando. La comunicazione, poi la televisione, è il telefono, è il cellulare, è il fax, insomma tutti questi strumenti, questi oggetti, questi meccanismi che stanno fuori di noi. Però abbiamo dimenticato che la comunicazione un tempo era un qualche cosa di essenzialmente fisico. Si identificava con parti del corpo innanzitutto, la bocca, poi la lingua, l'orecchio, gli occhi e altre parti che sono un po' meno, diciamo, per noi immediatamente legate alla comunicazione di cui parleremo più avanti. Noi abbiamo dimenticato tutto questo, abbiamo dimenticato il fatto che un tempo i messaggi non si mandavano con la posta elettronica, ovvero email, non si mandavano col telefonino, con l'SMS, ma si mandava attraverso una persona che era il messaggero, il nunzio. E così come per ricordarsi le cose non c'erano le agende elettroniche o le agendine sulle quali si scriveva, ma c'erano addirittura delle persone, degli schiavi nella fattispecie, che funzionavano da ricordatori. C'erano delle agende viventi che le persone si portavano appresso, i quali dicevano ricordati di fare questo, saluta quest'altro, se no si offende, eccetera, eccetera. Insomma, c'è un'archeologia della comunicazione che oggi sembra veramente archeologica, probabilmente 20 o 30 anni fa lo era di meno, ma che sarebbe comunque archeologica perché a quel tempo, ai tempi in cui noi ci riferiamo, non si usava neppure la scrittura. Ma di questo parleremo. Adesso vorrei cominciare con raccontare una storia di comunicazione. Allora, immaginate di essere in una città della Grecia, alcuni secoli prima di Cristo, questa città è Farai, una bella cittadina della Caia. In mezzo alla piazza del mercato sta una statua del dio Hermes. Hermes è un dio molto simpatico, brillante, anche un po' birichino a volte, ma questo qui è rappresentato con la barba ed è lì tutto di pietra. Di fronte a questa statua c'è un focolare dove si accendono il fuoco, si fanno delle offerte votive, si avvicina alla statua una donna, però potete immaginare anche che sia un uomo come voi preferite, la quale sale sulla statua, letteralmente, si avvicina all'orecchio del dio e gli sussurra delle parole. Il sussurra delle parole, dopo aver sussurrato queste parole, scende, si tappa le orecchie e si allontana attraverso la piazza. La piazza è una piazza, una gorà, una piazza greca, è piena di rumori, è piena di persone che parlano, che litigano, che commerciano, che ovviamente, soprattutto, che si scambiano pettegolezze, perché mondo in mondo questo si fa nelle piazze, e la nostra consultante, quella che ha sussurrato le sue parole all'orecchio di Hermes, sta attraversando, per l'appunto, questo spazio. La donna, dunque, con le orecchie tappate, quella che ha appena sussurrato delle frasi misteriose nelle orecchie di Hermes, sta attraversando la piazza del mercato. Improvvisamente, la donna si toglie le mani dalle orecchie e potete immaginare che le sue orecchie sono invase dai rumori, dalle grida, dalle frasi di questi greci che si trovano nella piazza. La regola è questa. La prima parola distinta che la donna, oppure l'uomo, se voi preferite che sia o no, che la donna, oppure l'uomo, ascolta, riesce a identificare, ad ascoltare, quella è la risposta del Dio. Che cosa era successo? Era successo che la consultante aveva sussurrato nell'orecchia del Dio Hermes una richiesta di consultazione, insomma, voleva avere un pronostico, un consiglio, una guida per il suo futuro. Questa guida, questo consiglio per il futuro arriverà dalla prima parola che la donna ascolta attraversando quella piazza. Si tratta di una pratica che è abbastanza normale, tutto sommato, per i greci e soprattutto per i romani, come vedremo fra un momento, è uno dei modi in cui si comunica con gli dèi. In altre parole, il problema è un po' questo. Se ci sono gli dèi, se c'è un Dio e io ci voglio parlare, voglio che lui mi dica cosa devo fare, che cosa mi aspetta nel futuro, eccetera. In altre parole, se io voglio stabilire una comunicazione con gli dèi, ecco che siamo di nuovo al nostro problema della comunicazione, come faccio? Gli dèi non parlano, gli dèi ci sono, stanno di là, da qualche parte, in cima a un monte, nel cielo, chissà dove, sono sicuro che loro mi ascoltano, perché quelli sentono tutto, però io come faccio ad ascoltare loro? Allora, uno dei modi creati dalla tradizione antica per parlare con gli dèi è proprio questo, rivolgere loro una richiesta, una richiesta che qui viene formulata in maniera abbastanza folcloristica, con la persona che si avvicina all'orecchio di Hermes e gli sussurra nell'orecchio le sue richieste, e dopodiché arriverà una parola dal Dio, che però è una parola che non è pronunziata dal Dio, è pronunziata da qualcuno che è lì, qualcuno di innocente, qualcuno che non pensa che in quel momento la sua voce è stata presa, lui l'ha prestata il Dio e le sue parole sono appunto le parole del Dio. Questa pratica di prendere una parola scelta a casa e di dire lì sta scritto il mio destino, i greci la chiamavano cledon o cledonismos, i romani la chiamavano omen, omen è una parola più familiare, perché ancora un po' si usa, è un omen, è un omen positivo, noi la usiamo in senso di augurio o qualcosa del genere, in effetti è un augurio, ma si tratta di un augurio molto specifico, perché è una parola che qualcuno pronunzia. Ora noi non sappiamo che cosa diavolo sentissero questi consultanti di Farai che avevano sussurrato le loro richieste nelle orecchie di Hermes, però sappiamo altre storie di cledonismos, altre storie di omina raccolte casualmente con le orecchie quando si passava in qualche luogo oppure in una situazione particolare. Dunque a Roma si usava questo. Io mi trovo di fronte a una scelta difficile oppure sto per iniziare un'azione importante e ricevo dagli dèi una comunicazione, un omen, una parola pronunziata da qualcuno che non sa ovviamente di determinare in quel momento il mio destino. La storia di omina più famosa è certamente questa. Lucio Licinio Crasso, un importante personaggio romano che con Cesare e Pompeo aveva formato il primo triunvirato, molto ricco di straordinaria ricchezza, era però anche un comandante militare e si accingeva a una spedizione contro i parti, una popolazione molto temuta dai romani perché erano molto bellicosi, stava dunque per salpare per la sua spedizione. Si trovava sulla bandina del porto di Brindisi e che cosa succede? C'è un venditore di fichi, un venditore di fichi il quale vende i fichi gridando cauneas, cauneas, cioè vendo fichi di cauno. I romani non avevano dolcetti, non avevano caramelle, chewing gum eccetera, le loro cose dolci erano fichi secchi, dolci di miele, altra frutta secca, cioè lui vende i fichi di cauno, cauneas. Ora la parola cauneas può voler dire sì fichi di cauno, io vendo fichi di cauno, però potrebbe anche essere la pronunzia volgare di questa frase, cave ne eas, non andare, pronunziata poi cauneas, cioè nella maniera diciamo popolare, quotidiana del latino. Crasso, cosa fece Crasso? Non capì l'omen, era distratto, pensava che quello vendesse solo fichi, in realtà quel venditore stava determinando il suo destino. Non capì, andò, il suo esercito a carre fu completamente distrutto e dopo si disse fu distrutto perché Crasso aveva mancato la sua comunicazione con gli dèi, non aveva capito che quello era un omen e non una semplice vendita di fichi. Ci sono poi altri casi di omina molto celebre, di altre comunicazioni con gli dèi, per esempio questa che è abbastanza graziosa perché è legata a una ragazza, a un matrimonio. Dunque, una nobile ragazza romana che voleva sposarsi ma non aveva pretendenti, secondo un costume molto antico, se ne andò con la zia materna in un certo tempietto vicino Roma, alla notte, un luogo abbastanza misterioso, e le due donne si sedettero lì e aspettavano gli omina, cioè aspettavano di avere un qualche segno che dicesse chi poteva essere il pretendente e chi poteva essere lo sposo. Ho detto si sedettero lì, era una cosa sbagliata quella che ho detto perché in realtà c'era posto per una sola. Allora la zia prima si sedette lei, la ragazza stava in piedi, poi dopo un po' la zia disse, ma no, guarda mi alzo, prendi tu il mio posto e siediti al posto mio. La ragazza si sedette, non arrivò nessun omen, ma cosa successe pochi giorni dopo? Che la zia morì e la ragazza si sposò con l'ex marito della zia, cioè gli aveva effettivamente ceduto il posto questa zia. Ma voi Hermes come ve lo immaginate? Io me lo immagino così, è un bel giovane, simpatico, con uno sguardo furbo, ha le alucce ai piedi, in mano un bastone ricurvo che si chiama caduceo, che è il suo strumento, quello con cui si manifesta, quello con cui accompagna all'Ade le anime dei morti, è quello che porta con sé come bastone dell'araldo quando va a portare i suoi messaggi, perché Hermes è anche questo, anzi essenzialmente questo, è il messaggero degli dèi, non come dire il messaggero fra gli dèi, perché gli dèi non hanno poi molto bisogno di qualcuno che porti loro i messaggi reciproci, gli dèi si capiscono, si intuiscono da soli, però a volte c'è bisogno riportare un messaggio degli dèi a qualcuno che è fuori da questa comunicazione superiore, divina, che appunto accomuna gli dèi. E allora ecco arrivare Hermes. Allora Hermes sta arrivando in effetti in questo momento, sta volando sopra il mare, dice Omero, simile all'uccello Laros, che è un uccello marino, e si sta dirigendo alla volta dell'isola Ogigia. È lì che infatti la ninfa Calipso trattiene con il suo amore Ulisse. Hermes, in qualità di messaggero, sbarca dunque nell'isola di Ogigia e dice a Calipso, devi lasciare andare Ulisse perché deve continuare il suo viaggio e questa è la volontà degli dèi. Ecco una delle tante innumerevoli storie di Hermes, messaggero, portatore di messaggi. Vogliamo continuare a seguire Hermes? È un po' difficile perché è un Dio molto veloce, rapido, guizzante, un Dio che vola, un Dio che si sposta in maniera estremamente veloce, però possiamo provare a farlo. L'ideale sarebbe avere una macchina da ripresa per immaginarci lì mentre inseguiamo Hermes. Allora, oltre che nella sua qualità di uccello Laros che vola verso l'isola di Ogigia, possiamo anche dirigerci per seguirlo verso le piazze dei mercati, perché lui è lì che spesso si annida, resta il suo volo nelle piazze dei mercati perché è proprio nelle agorai che si fanno gli scambi. Hermes è Dio dello scambio, è Dio della transazione, è Dio della comunicazione, l'abbiamo detto tante volte, quindi si occupa molto volentieri anche di commerci. Se Hermes ha lasciato in questo momento la piazza del mercato, come credo che abbia fatto, ci conviene a questo punto dirigerci subito verso gli incroci, perché è anche lì che Hermes volentieri si dirige e si trattiene. Possiamo addirittura seguire Hermes ovunque, nelle porte, nei sentieri, dovunque ci si sposti, ovunque si cammini. Possiamo persino seguirlo in riva a un fiume, e a questo punto poi, dopo questo ultimo incontro lo saluteremo, in riva a un fiume dove qualcuno, appartenente a una certa popolazione, a un certo villaggio, ha lasciato degli oggetti la notte. E questo perché qualcun altro il giorno dopo si rechi in quel luogo, prenda gli oggetti che sono stati lasciati dall'altro e ci lasci al suo posto del danaro. È quello che gli antropologi chiamano commercio silenzioso, silent trade, e che anche i greci praticavano, un commercio fra persone che non si incontravano mai, ma che magari per lungo tempo mantenevano rapporti commerciali, lasciando uno gli oggetti, l'altro soldi o altri oggetti. E in questi incontri notturni, misteriosi, anche in questi incontri, i greci dicevano che c'era di mezzo Hermes. Hermes. Bulgakov, il celebre autore del Maestre Margherita, in uno scritto minore che si chiama La Capitale nel block notice, in diorama muscovita, detto una volta una curiosa definizione del dio Hermes, il dio della comunicazione di cui ci occupiamo. Dunque lui disse, scrisse questo, ogni dio è diverso dagli altri. Hermes, per esempio, con le alucce ai piedi, è un neppman e un furfante. Furfante è chiaro, neppman un po' meno, e dunque, dato che la nepp era la nuova politica economica che fu introdotta da Lenin nel 1921, neppman significa uno che si è fatto i soldi con la nepp, insomma uno che si è approfittato della nuova politica economica per diventare ricco alle spalle degli altri. Insomma, Bulgakov non aveva una grande concezione, non aveva un grande concetto del dio Hermes, lo riteneva un trafficone e un neppman. Lo era? Beh, sì, Hermes era un dio furbastro, comincia la sua carriera imbrogliando da bambino il fratello Apollo, insomma, quindi è uno che prometteva bene fino da piccolo. Però certo, Hermes è un personaggio assolutamente affascinante, proprio perché aveva questo potere di mettere in comunicazione la gente, e questo è fondamentale. Anche i filosofi antichi lo dicevano, ci speculavano sopra, addirittura Platone nel Cratido sosteneva, dice non bisognerebbe chiamarlo Hermes, bisognerebbe chiamarlo Eiremes, dal verbo Eireine che vuol dire dire, significa dire, perché è il dio che dice in qualche modo. E la sua funzione di, come dire, fondatore, autore del linguaggio la si vede bene anche nel mito di Pandora, in Esiodo, quando appunto si racconta che, allorché gli dei, e Zeus in particolare, costruirono questa meravigliosa creatura Pandora, la donna bellissima, ricca di doni, eccetera, che poi invece si rivelerà una grande rovina per gli uomini, quello che mise dentro Pandora le menzogne fu Hermes, ma fu lo stesso che ci mise dentro anche la voce. Cioè lui aveva la capacità di dare la voce a questa utoma di fango a cui gli dei avevano dato miracolosamente la vita. Insomma, quando si tratta di comunicare, lì salta fuori il dio Hermes. Lui ha anche suggerito delle bellissime immagini e delle bellissime metafore. E qui dobbiamo rifarci a una storia che ci viene raccontata dal retore Eliano. Dunque, il retore Eliano era un personaggio buffo perché era di palestrina, però lui scriveva in greco, c'era fatto un'identità greca, si ficcava di scrivere il greco meglio dei greci stessi. Era uno un po' matto che invece di, lo dice lui, invece di fare i soldi a corte raccontando i fatti della storia o occupandosi di retorica aveva la passione degli animali, raccoglieva storie e credenze sugli animali. Diceva, io preferisco vivere povero però occupandomi di quello che mi piace che non fare i soldi in un modo che non mi piacerebbe. Allora, il retore Eliano in questa sua natura degli animali, un libro che è tutto dedicato agli animali, a un certo punto si mette a parlare anche dell'uccello Ibis. Questo uccello Ibis, secondo lui, era l'uccello caro ad Hermes, in particolare Hermes egizio. Perché proprio la Ibis doveva essere caro a Hermes? Perché, diceva Eliano, nella sua apparenza la Ibis rassomiglia alla natura del linguaggio. Infatti, le penne nere, di cui l'uccello è dotato, possono essere paragonate al linguaggio tasciuto e rivolto verso l'interno. Quelle bianche, al linguaggio proferito e ascoltato, quasi si trattasse di un servo e di un messaggero di quel che sta dentro. Insomma, per Eliano la Ibis era un simbolo perfetto del linguaggio perché aveva delle penne nere e delle pene bianche. Le pene bianche erano, come dire, il risvolto positivo, il messaggero che portava fuori quello che stava dentro, proprio come fa Hermes e del resto. E le penne nere? Beh, le penne nere erano il silenzio, le parole non dette, le parole non pronunziate. È molto profonda questa metafora che si inventa Eliano a proposito delle pene dell'Ibis. Perché è profonda? Io penso per questo motivo. Perché hai il coraggio di dire esplicitamente che nella comunicazione lo stare zitti conta tanto quanto il parlare. Le penne nere sono tanto importanti quanto le penne bianche. Tante volte tacendo si comunica molto di più che subissando le orecchie altrui di parole, anzi infarcendo le orecchie altrui di parole, secondo un'altra metafora di cui parleremo più avanti, che era cara ai romani, quale dicevano spesso, mi ha infarcito le orecchie di parole. Le penne nere sono belle, sono importanti e sono esse stesse un modo di comunicare. Certo, bisogna che anche il silenzio sia condiviso e per questo c'era Hermes dietro. Se si sta zitti da soli non significa nulla, ma se si sta zitti quando qualcuno ci ascolta, allora il retore Eliano ci ammonisce del fatto che si sta comunicando proprio come se si stesse parlante. Di simboli di animali che riguardano la comunicazione ce ne sono tanti. Abbiamo già detto il caso dell'Ibis con le sue penne bianche e le sue penne nere. Ce n'è un altro che a dir la verità è quasi più bizzarro del precedente. Dunque si raccontava che a parere di qualcuno i corvi e le ibis, guarda caso siamo di nuovo lì, si unirebbero sessualmente con la bocca. La fonte di questo che sto dicendo è il filosofo Aristotele, quindi insomma è abbastanza autorevole, anche se lui non credeva onestamente a queste cose. E fra i quadrupedi, continuava Aristotele, partorirebbe dalla bocca la donnola. Ma guarda un po', le donnole partorirebbero dalla bocca. Come è nata questa credenza è un altro discorso. Probabilmente qualcuno aveva visto le donnole che, come fanno i nostri gatti, portavano in giro i loro piccoli tenendoli in bocca. Da lì poteva essere nata l'idea che la donnola partorisse dalla bocca, ma si sa che le credenze fantastiche sugli animali difficilmente possono essere spiegate su base proprio razionalistica e realistica. Ma insomma, tant'è, la donnola partorirebbe dalla bocca. A questo si riagganciava un altro filosofo antico, Plutarco, il quale pure lui insisteva dicendo che gli egiziani dicono che la donnola partorisce dalla bocca, eccetera, eccetera, e lui aggiungeva addirittura che la donnola concepiva dalle orecchie, come se non bastasse. Ma d'altra parte, come dire, nella logica bizzarra e assurda delle credenze animali, questo è meno assurdo di altre cose, nel senso, se un animale partorisce dalla bocca non si vede perché non possa concepire anche dalle orecchie. Allora, lui diceva, della donnola si dice che partorisce dalla bocca e concepisce dalle orecchie, e gli egiziani dicono che questo è un'immagine dell'origine del linguaggio. Cioè, la donnola, questo animale curioso, bizzarro, che concepisce dalle orecchie e partorisce dalla bocca, è un simbolo del linguaggio perché? Ma certo perché? Perché il linguaggio ha le sue origini nelle orecchie e la sua vita nella bocca. Cioè, è tutta una circolazione continua, no? Si va dalla bocca all'orecchio, dalla buscia all'oreglie, ma qui ci si va in maniera fisica, diciamo, in maniera curiosamente oggettiva, nel senso che si immagina che si vada dalle orecchie e alla bocca, non tanto con le parole, ma addirittura con il seme e la generazione. Ciò nonostante, o meglio, proprio per questo motivo, gli egiziani ritengono che la donnola partorisca dalla bocca e concepisca dalle orecchie per simboleggiare la produzione linguistica. Per il resto, il filosofo e il filologo Gottlob Haine, un grande studioso che lavorò a Göttingen verso il 1734-35, insomma, poi negli anni successivi, dopo la fondazione e quell'università, aveva una sua teoria su queste credenze mitiche. Lui diceva che il mito come il simbolo è qualche cosa che nasconde un linguaggio filosofico più profondo, ma non nel senso che, come dire, sono dei dotti che apposta velano queste cose per rendere difficili, no, è che l'umanità primitiva, dalle sue origini, non si sapeva esprimere se non attraverso immagini, figure, metafore. E quindi, diceva lui, quando gli antichi volevano dire causare, cioè provocare qualche cosa, loro dicevano direttamente generare. E da questo sarebbero nati tutti i miti relativi alla generazione, così, di esseri fantastici, mostruosi, divini, eccetera, eccetera, perché altro non si voleva dire che causare determinati fenomeni. E allora, nella donnola che concepisce dalle orecchie e partorisce dalla bocca, secondo Heine noi avremo per l'appunto una grande metafora del causare il linguaggio. Se Hermes è il dio che sta dietro la parola, il dio a cui sacra la lingua, a cui sacra la bocca, non sorprende il fatto che i greci attribuissero a lui anche la scrittura, ossia il modo per fissare, per conservare la parola, la comunicazione sopra una tavoletta o sopra un foglio di papiro. Di questo si narrava un mito, un racconto specifico che, in maniera abbastanza inattesa, fa degli uccelli i suggeritori, coloro che avrebbero suscitato nella mente di Hermes l'idea di inventare i caratteri dell'alfabeto. Ma prima di raccontare questa storia, questo mito di Hermes e degli uccelli, di come nacque la scrittura, bisogna raccontarne in realtà un'altra, anche se molto brevemente, cioè la storia della scrittura, come si sviluppò, per fortuna o per sfortuna, non saprei dire, al di fuori di Hermes, insomma la storia della scrittura, quella vera, non quella mitica, sulla quale noi possediamo ormai molte informazioni e quindi sappiamo come essa si formò inizialmente nella forma di una scrittura prima a carattere pittografico o geroglifico, ossia una scrittura che utilizzava un segno diverso per ciascuna parola o ciascun concetto o un esso grammaticale che dir si voglia. Ed è quel tipo di scrittura che poi viene usata in Misopotamia, viene usata in Egitto, verrà poi usata in maniera del tutto indipendente nelle civiltà dell'America centrale e via discorrendo. Un modo di riprodurre i suoni, di riprodurre le parole, la comunicazione umana che, come dire, è molto poco economico perché a quel punto ci vogliono un'enorme quantità di segni per esprimere anche un discorso piuttosto semplice. Il cinese che ancora funziona, la scrittura cinese che ancora funziona su questa base, prevede per esempio che per leggere normalmente un giornale scritto attraverso questi caratteri di tipo ideografico bisogna conoscere almeno 3.500. Se poi uno è un vero intellettuale che vuole leggere anche i libri del passato, eccetera, deve conoscere, non so, almeno 7.000, forse di più. Potete immaginare quanto tempo ci voglia imparare dai 3.500 ai 7.000 errotti caratteri, insomma, una vita. L'acculturazione di una persona dal punto di vista della conoscenza dell'alfabeto diventa un fatto molto impegnativo. Al contrario, noi disponiamo invece di un alfabeto economico che utilizza soltanto pochi segni, la cui invenzione noi la dobbiamo ai Fenici, cioè c'è fu un momento in cui i Fenici scoprirono che non era necessario avere un segno per ogni parola, per ogni concetto, nesso e via di questo passo, ma bastavano pochi segni per riprodurre i suoni di cui ciascuna emissione vocale si componeva e che sono poi sempre quelli che non non sono più di 25, 30 o quanti se ne voglia scegliere, ma insomma sono in numero molto limitato. L'alfabeto fonetico scoperto dai Fenici costituì un straordinario impulso alla cultura umana perché conoscendo pochi segni si poteva scrivere tutto. Bastava semplicemente individuare i suoni e riprodurli con un numero limitato di segni. Questa scoperta ha effettivamente qualche cosa di mitico, nel senso che è talmente originale, talmente potente che poi permise lo sviluppo di tutti i grandi archivi di informazione dell'antichità, ma anche della modernità, perché tutt'oggi continuiamo a usare esattamente il medesimo alfabeto elaborato dai Fenici e permise di trasformare la cultura umana, la cultura ovviamente del bacino del Mediterraneo e del mondo che gli gravitava attorno da una cultura prevalentemente di carattere orale o con una scrittura molto complessa e limitata solo ad alcuni gruppi di persone, in una cultura scritta e che veniva messa proprio per la sua semplicità a disposizione di moltissimi. Ma mi sono accorto che per raccontare così brevemente e malamente la storia della scrittura non ho raccontato il mito di Hermes, inventore dei caratteri dell'alfabeto e quindi sono costretto a chiedere agli ascoltatori di avere pazienza fino alla prossima volta per ascoltare questa storia che garantisco essere molto interessante di come Hermes e gli uccelli scoprirono i caratteri dell'alfabeto. Una volta Hermes vide volare in cielo degli uccelli. Hermes era un dio curioso, guardava sempre quello che gli accadeva intorno, era molto attento e anche molto furbo. Questi uccelli erano le gru, sapete le gru sono quei volatili belli, eleganti, soprattutto quando li si vede da lontano, con le gambe lunghe, sottili, le ali ampie, ugualmente sottili. Quindi c'è quella famosa storia raccontata anche da Boccaccio, di Chichibio, il cuoco e la gru, perché appunto si erano rubati una coscia, allora lui dicevano che questa è una gru, perché le gru sogliano stare su una gamba sola, insomma hanno questi strani movimenti, anche queste strane linee, perché una gru che sta rita su una gamba sola è effettivamente un'immagine, una figura molto singolare. Allora Hermes vide le gru che volavano lontane nel cielo ed ebbe l'idea di inventare niente meno che i caratteri dell'alfabeto. Ma perché proprio le gru? Bisogna rifarsi qui, per capire questo mito, alla natura oggettiva, diciamo alla realtà di questi animali. In effetti le gru volano nel cielo in formazione e formano delle vere e proprie righe. Se qualcuno si ricorda Dante nell'Inferno, quando Dante si vede venire incontro alla schiera dei lussuriosi che piangono, lui dice che assomigliano a i gru, i gru al maschile, insomma, i gru che volano facendo in aere di sé lunga riga, perché le gru volano come se fossero delle righe, delle linee. Allora se uno immagina che le gru formano una linea, allora può anche pensare che zampe e teste stiano sopra e sotto questa linea, cioè siano veramente delle gambe, come ancora oggi diciamo, o dei capita, delle teste, come ancora oggi diciamo, di una lettera, di una scrittura verisimilmente di carattere corsivo. Questo non è un mito antico dei greci, è un mito probabilmente abbastanza tardo, ma è molto interessante pensare che le gru, gli uccelli, nel cielo scrivano, scrivano delle cose, scrivano dei messaggi. È un mito così bizzarro, così folle questo per i greci o per gli antichi in genere? No, assolutamente no. Non tanto, come dire, l'invenzione è bella, è poco usuale, no? Pensare che una formazione di uccelli nel cielo costituisca come una sorta di scrittura, di righe con sopra e sotto dei segni, sono appunto le lettere. L'invenzione è bella e originale. Quello che però è abbastanza normale è l'idea che gli uccelli comunichino messaggi, perché questa è la prassi dei greci, dei romani, soprattutto degli etruschi, ma anche lo era stata, lo era dei mesopotamici, eccetera. Gli uccelli sono i grandi, anche loro, i grandi messaggeri del volere divino. Anche gli uccelli sono uno strumento simbolico di comunicazione fra il cielo e la terra, fra il sopra e il sotto. Quindi il fatto che le gru scrivano nel cielo, altro non è che un modo per dire, gli uccelli esistendo, volando, cantando, presentandosi, invadendo il cielo in un modo invece che in un altro, costituiscono delle forme di comunicazione tra il cielo e la terra. Come si faceva a decifrare questi messaggi? Beh, possiamo immaginare che se Hermes aveva visto questi gru e gli sembravano dei caratteri dell'alfabeto, lui aveva messo le cose in modo tale che era come se questi uccelli scrivessero qualcosa nel cielo. In realtà gli uccelli però non scrivevano. E allora come si faceva a capire che cosa volevano gli dèi attraverso gli uccelli? Beh, c'erano degli specialisti. Da che mondo è mondo quando c'è qualche pratica comunicativa? Fateci caso, ci sono subito degli specialisti che vi si inseriscono. Un po' come oggi, no? Ci sono i grandi comunicatori televisivi o radiofonici, ci sono i presentatori, oppure ci sono i giornalisti, i direttori di giornale, gli opinion makers, cioè quando c'è da comunicare si creano delle categorie di specialisti che certo sono bravi nel fare il loro mestiere, ma anche assumono il controllo, come dicono gli americani, assumono il controllo di quella parte della società. Questo succedeva anche in antico e succedeva con la pratica della decifrazione del volo e degli altri canti degli uccelli. Facciamo il caso di Roma. A Roma c'erano proprio degli specialisti, degli specialisti che erano anche regolarmente, diciamo, assoldati dallo Stato e che facevano capo a dei magistrati eletti, quindi dai personaggi pubblici dei romani, quali interpretavano il volo degli uccelli. E lo facevano, questi aruspici lo facevano con un metodo abbastanza complicato, perché bisognava circoscrivere tutto ciò, quello che accadeva nel cielo con questi uccelli per renderlo in qualche modo decodificabile. Inutile dire che gli uccelli non esprimono nulla, non esprimevano nulla allora, non esprimono nulla oggi, sono tutte proiezioni simboliche delle società e delle credenze, ma siccome esiste quello che si crede e non sempre si crede quello che esiste, anche allora avveniva, come avviene oggi, che si prendevano molto sul serio fenomeni che erano sostanzialmente infondati, ma siccome erano condivisi da tutti, diventavano veri. Allora la ruspice come si comportava? Lui aveva un bastone ricurvo che si chiama litus, ne abbiamo trovati di questi litui etruschi negli scavi, bastoni ricurvi abbastanza curiosi con i quali si circoscriveva una parte del cielo e si diceva ecco questo è un templum, questa è la zona all'interno della quale il volo degli uccelli diventa significativo, perché se è fuori non conta niente. All'interno di quel templum poi si valutava il numero degli uccelli, da che parte provenivano, come si comportavano eccetera eccetera, dopodiché la ruspice diceva tramite gli uccelli il Dio vuole questo e questo. Ecco i latini chiamavano tutto ciò auspicium, che etimologicamente vuol dire proprio aves specere, cioè guardare gli uccelli, quindi l'auspex, quello che faceva l'auspicium, era per l'appunto uno che guardava, osservava gli uccelli e da lì traeva i messaggi che gli dèi mandavano agli uomini per comunicare fra loro. È ovvio che avere il controllo di questa sfera della religione, della divinazione, era uno strumento di potere straordinario, perché uno poteva dire, attenzione signori miei, la tale assemblea che voi volete fare non si può fare perché gli uccelli dicono che non si può fare, quindi gli dèi non la vogliono. C'è un caso famoso di un'assemblea che si doveva tenere per fare una riforma agraria, la quale era abbastanza sgradita ovviamente a chi aveva già la terra perché non la voleva perdere, guarda caso ci furono due cordi che cominciarono a battagliare lì sul cielo che stava sopra il terreno destinato all'assemblea e automaticamente l'assemblea fu disdetta perché venne detto, ma no, non si può, vedete che gli uccelli sono sfavorevoli. C'erano altri modi in cui in antico gli dèi comunicavano con gli uomini, ce ne erano moltissimi e questo era appunto il campo della divinazione. Abbiamo citato il più noto, forse anche il più affascinante, cioè quello dello studio degli uccelli, però ce ne erano altri. Quello classico, quello che a Roma era sicuramente parte della vita sociale, della vita della comunità, era riconosciuto come una procedura pubblica e statale, era l'osservazione delle viscere. Si praticava i sacrifici di animali, in genere pecore, come sappiamo, e in quell'occasione c'era anche lì una ruspice il quale andava a osservare le viscere degli animali e dalle viscere degli animali traeva appunto pronostici sul futuro della città e in particolare sulla impresa che si stava per compiere, sulla decisione che si sarebbe dovuta prendere e via di seguito. Perché proprio le viscere? Probabilmente perché era l'interno, la parte più interna dell'animale, quindi quella a cui si associano le forze vitali, a cui si associa appunto nell'uomo in particolare il potere dell'intelligenza, ma in generale in tutti gli esseri viventi quello che, come ancora oggi diciamo, sono un po' le midolla, si dice le midolla della questione, le midolla di una faccenda, ecco le midolla dell'animale, le interiore, le parti più nascoste erano anche quelle più ricche di significati, in particolare il fegato. Il fegato veniva osservato con grande cura da questi specialisti della extispicina, cioè l'osservazione degli extra delle viscere, e da lì si traevano una serie di informazioni, a quanto pare sconvolgenti, cioè si poteva osservare, non so, che cosa accadeva tra la parte ostilis e la parte familiaris, cioè la parte ostile, la parte invece amichevole e familiare, vedere quindi quali erano i rapporti di amicizia e inimicizia a cui si poteva andare incontro, si guardavano come erano le cosiddette fibre, cioè i bordi del fegato, per vedere se c'era abbastanza sangue, se erano floridi, se non lo erano, eccetera. Le immagini che abbiamo di queste pratiche di analisi delle viscere, di comunicazione tra dei e uomini attraverso le interiora, in queste immagini noi riscontriamo una cosa abbastanza singolare, cioè lo specialista tiene in mano questo fegato, una cosa abbastanza ripugnante. E perché lo tiene in mano? Probabilmente perché c'era un altro aspetto rilevante nell'analisi delle viscere, il palpito. C'era un nome specifico, palmomanzia si diceva, cioè analizzare l'analisi del movimento non voluto dell'animale e quindi a maggior ragione delle viscere. Probabilmente queste viscere appena tolte dall'essere vivente, tenute in mano, davano l'impressione, comunicavano anche qualche cosa attraverso il tatto. La palmomanzia poi, cioè questa pratica di fare pronostici dalle viscere dell'animale, aveva dei risvolti molto sconcertanti, perché, almeno per noi, nel senso che si traevano pronostici un po' da tutti i movimenti, i riflessi. Per esempio nella Mesopotamia era abbastanza praticata questa cosa, si prendeva un secchio d'acqua, si andava nella stalla, si lanciava un secchio d'acqua addosso a un povero animale, a una mucca, che stava lì e si vedeva come reagiva, cioè che movimenti faceva con la coda, con le zampe, e da lì si prendevano pronostici. Altre forme di palmomanzia, stavolta sugli uomini, erano appunto i movimenti non, come dire, non riflessi, non meditati, come per esempio lo sternuto. Lo sternuto è un oggetto di grande divinatoria, di grande rilevanza, si analizza come, da dove viene, e da lì si capisce se è un pronostico positivo o negativo. Un po' tutti i movimenti non voluti degli uomini sono importanti. Il movimento degli occhi, per esempio, delle sopracciglia, anche questo dava delle informazioni immediate. Dunque, gli specialisti antichi di divinazione guardavano gli animali e giudicavano dal loro comportamento quello che sarebbe potuto avvenire. Addirittura guardavano gli uomini, se sternutivano, se si muovevano gli occhi, le orecchie, eccetera, eccetera, e da lì trevano pronostici. Si trevano poi pronostici, come abbiamo detto, dalle viscere e dal volo degli uccelli, ma si trevano anche pronostici, non so, del modo in cui il fumo del sacrificio si muoveva, da che direzione prendeva, dalla sua intensità. Si prendevano pronostici dagli aromi, si prendevano pronostici dagli specchi, che nel corso dell'antichità, soprattutto tarda, presero sempre di più importanza come vettori di comunicazione fra gli dèi e gli uomini, fra il destino e i poveri uomini che erano soggetti a questa straordinaria potenza. Come vedete, queste sono tutte forme di comunicazione sostanzialmente mute, nel senso che non significano nulla se uno non possiede un codice per decifrarle. A tutt'oggi è così, se voi interpellate un mago televisivo, lui comincerà a distribuire delle carte, poi dirà, vedo, qui c'è l'asso di bastoni, qui c'è... cose che per esempio a me che non mi intendo di queste cose non dicano assolutamente nulla. Il mago ha un codice e riesce a mettere insieme un cuore così, un asso di bastoni, che sa o quel che sia, no? Sto mescolando un po' i semi, si vede che proprio non me ne intendo. Insomma, mette insieme tutte queste figure e alla fine tira fuori un'argomentazione, un pronostico che è fondato su un codice che lui conosce, che ovviamente non corrisponde a niente, come in ambiente corrispondevano le pratiche divinatorie degli antichi, però ecco, al solito ci vuole uno specialista. Anche qui ci troviamo di fronte a delle classi, delle consorterie, dei gruppi che controllavano la comunicazione fra uomini e dei perché possedevano il codice dei segni. Era quindi un'attività prevalentemente e straordinariamente semiotica. Un altro degli strumenti principi tramite cui i dei comunicavano con gli uomini erano poi i sogni. Vedete quante cose però ovvie, note, moderne, no? Stiamo citando tutto sommato, ma non è cambiata così tanto l'umanità. Anche noi continuiamo a dare grande importanza ai sogni. Gli antichi gliene davano moltissimo e avevano anche loro le loro teorie e tipologie del sogno come le abbiamo noi, soprattutto dopo il straordinario libro di Freud sull'interpretazione dei sogni. loro avevano un altro metodo, un'altra tecnica. La differenza poi sostanzialmente è questa per Freud. Il sogno è qualche cosa che comunica, ma che non comunica più il volere degli dei, ma comunica semmai la condizione più interna dell'individuo, la condizione dell'inconscio, quello che preme dentro e che non si esprime se non in questi modi deformati. Per gli antichi invece il sogno esprimeva qualche cosa che sta completamente fuori, cioè il Dio, il volere degli dei o del fato. Ciò detto però, anche loro avevano le loro brave tecniche di interpretazione dei sogni, che tra l'altro poi Freud conosceva, perché lui stesso cita Artemidoro di Daldi, uno dei grandi teorici dell'unirocritica, insomma di interpretazione dei sogni dell'antichità, e pare che lui stesso avesse lavorato in parte a una traduzione tedesca di quest'opera greca. Quindi c'è anche una continuità oggettiva fra le teorie antiche dei sogni e quelle moderne di Freud e dopo Freud. Come erano sostanzialmente queste teorie? Di questo tipo. Dicevano, i sogni possono essere o sogni immediati, i latini chiamavano oracula, cioè in pratica si presenta uno e ti dice guarda non salire su questa nave, perché se ci sali la nave dopo domani affonda e tu muori. E quello è un sogno, come dire, indiscutibile, no? Uno sta lì, dorme, gli arriva sto messaggio, come minimo il giorno dopo dice scusate ragazzi non parto più. Però esistevano anche sogni di carattere complesso, in cui non veniva uno a dirti non salire sulla nave, ma ti compariva qualche figura di carattere fantastico. Stiamo parlando di sogni. Ci siamo lasciati su un tema abbastanza affascinante, cioè sulla tipologia che gli antichi davano dei loro sogni, soprattutto dei sogni che comunicano, come dicevamo, qualche messaggio da parte degli dèi. Allora, esiste un tipo, gli latini lo chiamavano oraculum, cui semplicemente si presenta qualcuno e mi dice non salire domani su quella nave perché la nave affonderà e tu morirai. A quel punto io mi sveglio e dico non parto più. E questo è semplice. Ma non capita quasi mai questo. Quello che capita è piuttosto che uno si sogni, che ne so, la propria sorella piangente accanto a un bacino pieno di acqua. A quel punto uno dice ma guarda un po' mia sorella, come mai piangeva e perché c'era quell'acqua? Si va da chi? E beh, ancora una volta da uno specialista. Anche qui i gruppi tendono a prendere il controllo di uno spazio comunicativo importante, anche nei sogni. Si va da uno specialista e gli si dice guardi, io ho sognato questo e questo. Allora lui comincia a fare delle domande a questa sorella, ma come a cui parlare? Poi a un certo punto fa la domanda, ma lei cosa farà nei prossimi giorni? Devo partire. Eh no, caro signore, lei non parta perché sorella piangente vuol dire lutto. Infatti, le donne, solo le donne piangono, i loro morti, i congiunti morti, eccetera, eccetera. Bacile pieno di acqua significa mare, la sua nave affonderà, lei non parta. Questi sogni, che sono sogni di carattere indiretto o simbolico, erano poi quelli su cui si esercitava di più la fantasia, la creatività degli interpreti di sogni. Allo stesso modo dello psicanalista che si fa raccontare dal paziente i sogni, soprattutto i sogni quelli più ricorrenti o quelli più inaspettati o quelli che hanno creato più, insomma, ognuno poi le sue tecniche, e da questo tragano ovviamente non più auspici sul futuro, ma ecco, questa mi sembra la grande differenza, un po' auspici sul passato. Come dire, i tuoi sogni mi raccontano quello che tu sei stato, quello che tu hai sofferto, quello che ti è successo, eccetera, e quindi quello che tu adesso sei e non sai di essere. Per gli antichi invece il sogno mi raccontava ciò che mi avverrà nel futuro. Ci ho detto però, grosso modo, le tecniche di interpretazione sono le medesime, semiotiche erano le tecniche di interpretazione degli unirocritici antichi, semiotiche sono sostanzialmente le tecniche di interpretazione degli psicanalisti moderni, cioè in base a un certo codice che è più o meno stabile e condiviso, eccetera, si tendono a interpretare i sogni. Insomma, a tutt'oggi, in piena modernità, i sogni svolgono ancora un ruolo rilevante nella cultura. Non parliamo di coloro che, proprio come gli antichi, vanno a consultare uno specialista per avere un pronostico, per esempio, sul gioco dell'otto. Ecco, questo è la smorfia, altro non è che l'ultima reincarnazione dei manuali di unirocritica antica. Tra l'altro, se li si va a analizzare comparativamente, si vede che la smorfia e i manuali di unirocritica antica si rassomigliano abbastanza. A volte, come dire, l'interpretazione di certi simboli è la stessa, perché con una certa tenacità nel tempo questi rapporti simbolici si sono conservati. Però mi sono accorto che, parlando di sogni, ho lasciato da parte un po' il mio dio e il dio di queste trasmissioni, che è il dio Hermes. E quindi al dio Hermes vorrei tornare, in particolare, ai suoi sussurri. Infatti, si diceva che ad Atene ci fosse una statua dedicata a Hermes, detto Psiziori stesso, il bisbigliatore. Si andava da lui, un po' come si faceva a Farai, per bisbigliare. Gli uomini si recavano là e facevano dei discorsi segreti, si sussurravano l'un l'altro ciò di cui volevano parlare. Eccolo qua, Hermes, dio, anche della comunicazione misteriosa. Era un dio buffo Hermes. Quando nacque, e ce lo racconta l'innumerico Hermes, il dio fanciullo combina subito dei guai. Apollo lo accusa di averli rubato delle bestie, degli animali. La cosa è vera. Hermes nega e però emette due presagi. Di questo abbiamo già un po' parlato di questi movimenti irriflessi dell'uomo che costituiscono come delle forme di rivelazione di qualcosa di nascosto. Hermes emette uno starnuto, cosa ben nota, uno starnuto a valore molto divinatorio, e emette, ahimè, anche perché lui è un dio un po' trickster, un po' mascalzoncello, anche un crepito di ventre, come si potrebbe tradurre l'espressione greca. Apollo, che è anche lui un dio della divinazione, capisce al volo e gli dice, in forza di questi prodigi io ritroverò di sicuro le vacche che tu, Hermes, fratellino cattivo, fratellino Monello, mi hai rubato. A questo punto Hermes balza in piedi e si avvia lungo la strada tappandosi le orecchie, proprio come si tappava le orecchie, forse qualcuno lo ricorderà, il consultante di Farai che andava presso la statua di Hermes a Farai e gli sussurrava nelle orecchie qualche cosa e poi lui, il consultante, se ne andava con le orecchie tappate. Insomma, quando c'è di mezzo Hermes, ci si tappano e ci si stappano le orecchie, altro bel simbolo della comunicazione umana in cui si alternano lupuacità e silenzio, orecchie tappate e orecchie stappate. Parlando di orecchie, ci torna in mente la storia della donnola che concepiva dalle orecchie e parteriva dalla bocca ed era anche lei considerata un simbolo buono per rappresentare il linguaggio, ma più ancora ci torna in mente l'erudito greco Plutarco, il quale, dito, filosofo, storico, insomma, gran personaggio della cultura greco-romana del II secolo d.C., il quale scrisse anche un'operetta graziosissima che si intitola Sul parlar troppo, ovvero sulla loquacità, un'operetta che andrebbe fatta a leggere, obbligatoriamente, sicuramente a molte persone che lavorano in tv, insomma, ma un sacco di gente, ecco, mi trarrebbe vantaggio a leggere il Sulla loquacità di Plutarco. E lui ci spiega come era fatto l'orecchio dei chiacchieroni. L'orecchio dei chiacchieroni, diceva Plutarco, non è in comunicazione con l'anima, ma con la lingua. Per questo motivo le parole ascoltate che gli altri trattengono nel caso dei chiacchieroni scivolano via. Ecco dunque come Plutarco concepiva i chiacchieroni, ovvero coloro che soffrono di eccesso di comunicazione, perché questi sono i chiacchieroni, i loquaci, gente che eccede nella comunicazione, per questo sono così fastidiosi. Allora Plutarco diceva il chiacchieroni è altro non è che uno, il quale ha le orecchie non in comunicazione con l'anima, per cui quando riceve delle informazioni le seppellisce, le conserva nel cuore, nell'anima e poi ne fa l'uso che è necessario farne, sia ritirandole fuori al momento opportuno, eccetera. Ma ha le orecchie direttamente in comunicazione con la lingua, per cui le cose che entrano e escono subito di gran fretta, e per questo i chiacchieroni parlano tanto, ma sostanzialmente non dicono mai nulla di sensato. Dalle orecchie siamo dunque passati alla lingua, che secondo Plutarco nei chiacchieroni è direttamente collegata alle orecchie, e torniamo in questo modo a Hermes, però Hermes è sempre in agguato quando si tratta di comunicare, perché i filosofi antichi ci dicono che a lui era sacra per l'appunto la lingua, e questo è ovvio perché essendo dio della comunicazione non poteva non essergli sacra l'organo principale della comunicazione, la lingua. Non bisogna mai dimenticare che il linguaggio orale è all'origine di tutto, noi ormai siamo in un'epoca iper scritta, scriviamo in continuazione, se si guarda la quantità di carta da stampante che noi buttiamo via ogni giorno, questo dà immediatamente la misura di quanto scriviamo anche, e di quanto stampiamo. Insomma, siamo in una cultura iper scritta, sì c'è una nuova oralità, si dice, ma una nuova oralità fino a un certo punto, perché poi in realtà basta comprarsi, che ne so, un aspirapolvere nuovo e ti rifilano un libro di proporzioni colossali, se uno lo leggesse tutto non aspirerebbe mai la polvere e invece passerebbe il tempo a leggere il libro, per non parlare dei programmi di computer che richiederebbero un'intera vita per essere approfonditi, insomma è tutto un mondo di scrittura, però in realtà la comunicazione nasce dalla lingua, dalla bocca, è orale, ecco perché Hermes era dio della lingua, era dio della lingua, era dio a cui si sussurrava nelle orecchie, come abbiamo visto era dio che si tappava le orecchie al momento opportuno e molti di voi e di noi, anch'io, vorremmo farlo certe volte, però ecco, soprattutto era dio anche di un altro aspetto della comunicazione, che è quello dell'interpretazione, perché d'accordo, uno dice la comunicazione è fatta di lingua e di orecchie, di bocca e di orecchie, benissimo, ma se io non capisco niente? Cioè, ammettiamo che uno mi parli in una lingua straniera, lui usa propriamente la sua bocca, io uso propriamente le mie orecchie, ma non ho capito una sola parola, per non parlare invece dei casi in cui mi parlo nella mia lingua, ma in un modo tale che non riesco minimamente a rendermi conto di che cosa si sta dicendo, insomma l'interpretare è un atto fondamentale della comunicazione, anzi probabilmente il più importante di tutti. I greci avevano una parola per dire interpretazione ed era la parola hermeneuein, interpretare, ovvero, come sembra probabile dall'etimologia, fare come Hermes. L'hermeneuein, l'azione di interpretare, era l'azione di Hermes e l'interprete si chiamava Hermeneus, cioè colui che fa da Hermes. Insomma, Hermes è dio della comunicazione, dei commerci, dei contatti, dei contratti e che più ne ha più ne metta, era anche dio della interpretazione, intendendo con questa parola sia la traduzione, cioè il passare da una lingua a un'altra, sia anche l'interpretazione della lingua che ci è nota, ma tutti noi sappiamo bene quanto a volte sia difficile comprendere la nostra stessa lingua, basta andare a una riunione di condominio e leggere i regolamenti relativi all'uso del tetto o della terrazza condominiale, cioè che uno capisce che c'è un'hermeneutica, perché non si riesce manco a decrittare chi diavolo abbia la chiave della porta per accedere alla terrazza. Insomma, ecco, questa sarebbe un'azione da Hermes, un'azione di Hermeneuein. Il circolo in un certo senso in questo modo si chiude, perché Hermes è dio delle orecchie, dio della lingua, quindi della comunicazione, dio della comunicazione fra dei uomini perché porta i messaggi, è anche di dio della comunicazione scritta, perché è colui che ha inventato i caratteri delfabeto, è anche finalmente il dio che presiede all'atto principale della comunicazione, l'interpretare. Quando noi italiani diciamo interpretare, o perlomeno noi gente di tradizione linguistica latina o neolatina, noi usiamo una parola latina, l'interprete, altro non è che l'interpres dei romani. L'interpres chi è? L'interpres è per l'appunto uno che traduce, uno che fa un Hermeneus, direbbero i greci, uno che fa da Hermes. I romani però non utilizzano il loro dio Mercurius per farli fare da interprete come fanno i greci, hanno scelto un altro campo, un altro mondo metaforico per parlare dell'interpretazione o della traduzione. E da dove l'hanno preso questo campo? Una cosa abbastanza interessante perché nella parola interpres ci sono due elementi abbastanza ben riconoscibili. Uno è inter, l'espressione che non disegna ovviamente la squadra di calcio, ma che comunque è in qualche modo implicata anche nella squadra di calcio perché internazionale e inter è in latino la preposizione che significa il rapporto fra, quindi inter indica che c'è un rapporto fra due. E poi c'è questo pres che è una radice, se si vuole, abbastanza dolorosa e che anche in Italia noi abbiamo, che è la radice della parola prezzo, cioè di quanto si paga per. Infatti il genitivo di interpres è interpretis, quindi c'è di mezzo questo pret che è il pretium. Allora non sorprende il fatto che per i romani l'interpres non è solo colui che interpreta da una lingua a un'altra o che interpreta un testo nella propria lingua, è anche il mediatore di affari. Per esempio, quando in una commedia di Plauto si deve acquistare una schiava, uno dice a quell'altro, ma come? Anzi no, la schiava l'hanno comprata, poi adesso gli viene detta al personaggio che non l'ha comprata, lui si secca e dice, ma che stai dicendo? Io questo affare l'ho fatto te presente, in tua presenza, et te interprete, cioè con la tua mediazione. E così Cicerone una volta racconta di avere fatto delle negoziazioni con l'epido utilizzando come aiutanti e come interprete suo fratello e altri personaggi. Cioè l'interpres è quello che si mette in mezzo e che fa combinare l'affare, cioè quello che tra i due inter stabilisce il prezzo, il pretium. La cosa in sé è molto interessante se uno pensa all'eterno problema della traduzione, si sa che delle traduzioni poi nessuno è mai contento, no? C'è quella storia famosa, quell'aneddoto che si racconta sulle traduzioni, quello che diceva che la traduzione era come la donna, che se era bella non era fedele, se era fedele non era bella. Un modo di dire decisamente isogeno e antifemminile, che come tale oggi per fortuna non si usa più tanto, ma che esprimeva sempre questo concetto, cioè come dire, la traduzione non può mai funzionare, perché se io traduco parola per parola mi viene una cosa fedele ma brutta. Se io metto lì e invece riscrivo nella mia lingua, certo viene una cosa bella, però non corrisponde più all'originale. E perché non corrispondono più, non si corrispondono mai le traduzioni fra loro? Ebbè, per il motivo che ci spiega l'etimologia della parola interprete, in questa comunicazione fra lingua e lingua, questo stabilire, diciamo, qual è il testo corrispondente a un certo testo tedesco, greco, francese, cinese, chi più ne ha più ne metta. Perché l'interpretazione, altro non è che una mediazione, un interprezium, cioè io mi devo mettere lì e fra i due trovare un accordo. Chiunque abbia comprato una casa sa che quando uno è compratore non è mai contento dei soldi che gli fanno pagare per comprare quella casa, gli avrei potuto spendere meno. Quando uno è venditore non è mai contento dei soldi che gli danno, avrei potuto guadagnare di più. Che cosa è successo? Che quello che stava lì dell'agenzia immobiliare, l'interprez, direbbero i romani, che ha fatto combinare l'affare, alla fine ha trovato un punto di incontro che tutto sommato soddisfa tutte e due e anche scontenta tutte e due. Questa è per l'appunto la traduzione. Una specie di compromesso tra due cose, come se si fosse comperata o venduta una casa. Si sa, Goethe, Catullo oppure Marcel Proust, tradotti in italiano, non corrispondono mai all'originale, ma pazienza. Ci siamo trovati d'accordo su questo. Non so se qualcuno lo ricorderà, ma forse sì. Avevamo raccontato la storia che ci viene dal reto da Eliano delle penne dell'Ibis. Eliano diceva che le penne dell'Ibis sono un simbolo perfetto del linguaggio, perché le penne bianche significano le parole che escono dal cuore e raggiungono il destinatario. Le penne nere, invece, sono le parole che non vengono pronunziate, sono il silenzio. Il nostro uccello caro a Hermes, l'Ibis, ci faceva capire che per Hermes è Dio della comunicazione, anche il silenzio è importante. Abbiamo parlato a lungo di Hermes, del comunicare delle parole, dei linguaggi, degli scambi, eccetera, eccetera. Parliamo un po' anche di questo Hermes silenzioso, di questo Hermes che non parla, ma anzi provoca il silenzio. Permettetemi perciò di leggere qualche verso tradotto in italiano, non da Hermes, ma da un Hermeneus traduttore dal tedesco, qualche verso di un poemetto molto bello di Rainer Maria Rilke che si chiamava Alcesti. La storia è questa. Alcesti è sposata con Admeto, giovane Admeto, bel giovane, nel fiore degli anni, a un certo punto riceve un messaggero, come vedremo è il solito Hermes, che gli viene a dire, guarda, tu devi morire. E poi però gli dirà anche, siccome hai fatto un favore ad Apollo, Apollo ti mette a scelta, tu puoi far morire qualcun altro al posto tuo, in pratica. Lui cercherà in giro qualcuno che muore al posto suo, riceverà un sacco di delusioni, ma non riceverà delusioni dalla fedelissima, innamoratissima moglie Alcesti che morirà al suo posto. Poi però c'è un lieto fine, Eracle va agli inferi e libera Alcesti che torna fra i vivi. Qui è il momento in cui, in questo mito di Alcesti che Rilke riscrive nella sua Alcesti, è il momento in cui arriva il messaggero, arriva Hermes, è il banchetto di nozze, questi due poveretti sono appena sposati, arriva Hermes a dire, guarda, Admeto, devi morire. Come descrive Rilke tutto ciò, ve lo leggo. Ma improvvisamente nel mezzo dei discorsi uno degli ospiti vide il giovane padrone di casa, a capotavola, cioè Admeto, come se più non stesse sdraiato, ma fosse trascinato in alto e ovunque si rispecchiasse da tutto il suo essere qualcosa di estraneo che paurosamente gli parlava. E appena la confusione fu chiarita, ecco che si fece silenzio, solo con un resto a terra, di torbido rumore e un eco di balbetti caduti, già corrotti, che odoravano di sorde risa trattenute. Allora riconobbero l'agile Dio come gli stava in piedi. Lui era là. Hermes era arrivato e il suo arrivo nel mezzo del banchetto che cosa aveva provocato. Il fatto che il giovane padrone di casa, seduto a capotavola, sembrava non stesse più sdraiato ma fosse trascinato in alto e da lui uscisse qualcosa di estraneo che paurosamente gli parlava e soprattutto un grande silenzio. Era arrivato Hermes e improvvisamente la conversazione, allegra, spenserata di un banchetto di nozze, si era interrotta. Qualche borbottio, parole fuori luogo di qualcuno non aveva capito che era successo qualcosa di strano e poi un grande silenzio. In questo silenzio a banchetto, evocato da Rainer Maria Rilke nella sua Alcesti, dietro questo silenzio c'è un proverbio greco. Rilke evidentemente era buon grecista, aveva letto il trattato di Plutarco sul parlare troppo, sulla loquacità, in cui appunto veniva ricordato questo proverbio. Quando in qualche adunanza si è fatto improvvisamente silenzio, dicono che si è entrato Hermes. Dunque, tutti abbiamo fatto questa esperienza, molto imbarazzante, cinque, sei, dieci persone sedute che parlano, a un certo punto tutti stanno zitti. È una cosa imbarazzantissima, perché poi, come dire, nasce il sospetto, ma allora forse in realtà noi siamo qui ma non ci vorremmo essere, ci stiamo annoiando. La padrona di casa, il padrone di casa dice, ma forse questi non erano gli invitati giusti. Insomma, è un momento di grande imbarazzo. I greci dicevano che è arrivato Hermes, come dire, Hermes è passato di qui e ha provocato il silenzio. La cosa è abbastanza strana, perché in realtà noi Hermes lo conosciamo come Dio della comunicazione, come Dio che favorisce gli scambi di parole. Invece qui, com'è, com'è non è, ce lo ritroviamo come Dio che provoca il silenzio. In un certo senso Eliano ce l'aveva già anticipato questo, dicendo che nelle penne dell'Ibis, l'uccello cara ad Hermes, che rappresenta il linguaggio, sono le penne bianche, ma anche quelle nere, sono ugualmente importanti. Rilke, insomma, drammatizza, mette in scena un proverbio greco. La cosa interessante è che in Francia, Germania e Inghilterra, in analisi circostanze, quando la conversazione cade e tutti si guardano un po' smarriti, più o meno smarriti negli occhi, si dice, è passato un angelo. La cosa interessante è perché angelos, da cui la parola angelo, vuol dire messaggero e Hermes era per l'appunto messaggero. Sembra che la cultura cristiana abbia sostituito quella classica, quella greca, piazzando un angelo al posto di Hermes, ma il principio è sempre quello, se si crea un silenzio improvviso, vuol dire che sta passando qualche creatura soprannaturale. Plinio, grande erudito romano che ci racconta un sacco di cose anche di vita quotidiana di Roma, aveva un'altra spiegazione dei silenzi improvvisi. Invito un po' gli ascoltatori a riflettere su questo tema, che cosa dicono loro, cosa pensano quando, poff, improvvisamente nella stanza nessuno più parla, è interessante. Allora, Plinio la spiegava così, diceva che quando durante un convito i partecipanti si ammutoliscono improvvisamente, significa che è in gioco la reputazione di ciascuno di loro, cioè significa, secondo Plinio, che si sta parlando male delle persone che sono a convito, da un'altra parte, cioè è come se il pettegolezzo, il gossip, come oggi si usa dire con parola inglese, potesse provocare l'ammutolirsi di una conversazione anche a distanza. Questo è interessante, il fatto che il pettegolezzo alla parola cattiva sia così potente da spegnere le conversazioni altrui. Non so se anche noi possiamo sposare questa spiegazione di Plinio. Certo, come dire, è più affascinante quella greca, cioè è passato un Dio e ci ha fatto ammutolire. Il silenzio è un bellissimo tema e anche di carattere, per usare una parola usata Freud, perturbante, un Heimlich, cioè qualche cosa è il silenzio che può creare angoscia, può creare ansia, può creare l'impressione che sta accadendo qualche cosa di soprannaturale, di inspiegabile, soprattutto i silenzi all'interno di una conversazione che fino a un attimo prima era vivace. Un altro esempio di questi silenzi soprannaturali causati da un passaggio, da un avvenimento, da una presenza si potrebbe dire, ce lo dà sempre Rilke, stavolta nei quaderni di Malte e Lauris Prighe, quando in una sezione che si chiama Urnecloster, cioè un castello che portava questo nome, si racconta la storia di una signorina, Cristina Brahe, signorina Cristina Brahe, che era morta in circostanze misteriose nel passato. Si racconta di una scena Urnecloster, quando già si era arrivati alla frutta, e arriva il fantasma di Cristina Brahe. Il fantasma di Cristina Brahe attraversa la stanza ormai deserta e piena di un indescrivibile silenzio, in cui solo si sentiva il tintinio di un bicchiere. «Chi era?» credò mio padre interrompendo il nonno. «Una che ha il diritto di trovarsi qui», risponde il nonno, «non un'estranea, Cristina Brahe». Allora tornò quello strano silenzio e il bicchiere cominciò di nuovo a tremare. Cristina Brahe qui è come Hermes, arriva, passa e provoca il silenzio, ma curiosamente provoca anche un evento che è di carattere sonoro, il tintinio di un bicchiere. E l'unica cosa che interrompe questo silenzio è che evidentemente manifesta che c'è un qualcosa, c'è una presenza dentro la stanza che provoca questo rumore. Quindi il silenzio può essere provocato da Hermes, può essere provocato da un angelo, come dice il proverbio tedesco, francese e inglese, può essere provocato da un fantasma. Sembrerebbe insomma questo silenzio improvviso nella conversazione avere qualcosa a che fare con la morte, il che è possibile, nel senso che il nostro Hermes, oltre che messaggero e comunicatore fra cielo e terra, era anche, ahimè, comunicatore fra terra e sottoterra, cioè fra regno degli uomini e regno dei morti. I greci lo chiamavano in questa sua veste lo psicopomposso, cioè colui che accompagna le psichai, le anime, e quando compare nella sua funzione psicopomposso, certo Hermes è una figura decisamente funebre. Il finale dell'Odissea, per esempio, ha un racconto delle anime dei proci che Hermes psicopomposso conduce verso l'Ade dopo che Ulisse è provocato questa strage mai vista e le accompagna come se fossero praticamente un greggio. Beh, certo, se Hermes compare nella qualità di psicopomposso, di messaggero dei morti, di comunicatore della morte, è ovvio che provochi il silenzio attorno a sé, ma forse, forse con questa spiegazione, il silenzio improvviso in una conversazione evoca la morte, non siamo ancora arrivati del tutto al cuore della faccenda. Il fatto è che dobbiamo riflettere su quello che è veramente la comunicazione. Abbiamo detto che non è solo scambiare parole, notizie, informazioni, frasi, scritte o quel che sia. La comunicazione è anche tacere. Tacere è il momento opportuno. Non dire, reagire con un silenzio è altrettanto importante quanto parlare. Il silenzio è parte integrante della comunicazione. Quindi il fatto che Hermes, il Dio che in genere fa parlare, faccia anche tacere, non stupisce. Lui è padrone della comunicazione e quando gli antichi dicono che lui è signore della voce e del discorso, che cosa vogliono dire? Che lui sa mettere la voce nel cuore degli uomini, nel petto degli uomini, sa far pronunziare loro il discorso, però glielo può anche togliere. Se io ho il controllo, diciamo, di una certa sfera della vita umana come la comunicazione, significa che la posso attivare e la posso anche disattivare. Questo è l'Hermes che entra nelle conversazioni e fa cadere la conversazione. Questo è l'Hermes del silenzio, è l'altro aspetto della comunicazione. Anche qui, anche su questo, i greci avevano un racconto mitico. Infatti si dice che nell'inno a Hermes, l'innumerico a Hermes, di cui altre volte abbiamo parlato, si racconta di quando Hermes era andato a rubare da bambino le vacche di Apollo. È un comunicatore ladro Hermes, con questo non voglio dire che la comunicazione sia un'arte da ladri, me ne guardo bene, ma insomma c'è tutta una sfera di comunanza tra il comunicare, il commerciare, il sottrarre, che sarebbe un soggetto di affascinante riflessioni, cosa che qui però non faremo e invece torneremo subito a Hermes che sta strisciando nella notte per andare a rubare le vacche di Apollo. E rientra, dopo aver fatto il furto, nella spelonca della madre senza che i cani abbaino. E non faceva neanche rumore, come accade quando si tocca il suolo. Perché i cani non abbaiavano? Questa è anche una cosa interessante, ai ladri veri, diciamo non mitici, farebbe molto comodo sapere come si fa. Beh, dice il testo dell'inno a Hermes, perché per prima cosa aveva lanciato sui cani che le costudivano un attacco di letargia e di quinanche, e quelli si dimenticarono delle vacche e resero nulla la vigilanza. Dunque lui aveva gettato sui cani la quinanche, come la chiama il testo greco. Cos'è la quinanche? Letteralmente è il mal di gola del cane, insomma lo strangola cani. È una parola che significa proprio letteralmente questo, lo strangola cani, chiua nel cane, e che viene usato poi anche dai medici per indicare una malattia della gola, che è tipica del cane ma che può diventare anche la cosiddetta angina dell'uomo. Quindi Hermes aveva il potere di gettare la quinanche sui cani, di farli tacere, era come se quando passava lui i cani si sentissero strozzati, strangolati, e non riuscivano più ad abbaiare, e questo permetteva al piccolo ladruncolo, il giovanissimo Hermes, di rubare ad Apollo le sue vacche. Eccoci probabilmente in fondo alla spiegazione del silenzio che cade nella conversazione quando Hermes entra nella stanza. Lui sui presenti getta una specie di chinanche, è come se gli gettasse uno strangola cani addosso, un mal di gola, un angina. Perché? Perché lui, padrone della comunicazione, è anche padrone di quest'altro aspetto fondamentale della medesima che è il non parlare. Solo quando non si parla, non si può parlare, si capisce che cosa significa parlare. Stiamo parlando di silenzi. Lo so che è un po' paradossale dire stiamo parlando di silenzi, perché il silenzio è esattamente l'opposto del parlare. Qualche filosofo ci direbbe subito non si può parlare del silenzio, perché il silenzio è esattamente l'opposto della parola. In un certo senso è vero, ma noi qui dobbiamo, come dire, violare un po' questa regola e cercare di parlare del silenzio. Perché altrimenti che cosa facciamo qui alla radio se non parlare? Dobbiamo parlare. Se io sto zitto è un disastro. Si dice che Hermes è passato anche per la radio. Abbiamo infatti detto l'altra volta che quando la conversazione cade improvvisamente, questo significa che è venuto il dio Hermes. I latini avevano un altro modo per parlare del silenzio, un modo diciamo proverbiale, tipico, che ancora oggi si usa e che si utilizzava in una situazione molto precisa. Allora, questo proverbio, che ha riferimento con il silenzio, è il proverbio lupus in fabula. Sicuramente gli ascoltatori lo conoscono perché ancora oggi lo si usa spesso. Lo si usa più o meno la maniera in cui lo usavano i latini, nel senso, quando si vede comparire la persona di cui si sta parlando, uno dice lupus in fabula, eccoti lì, sei venuto, guardalo là. I latini che commentavano questo proverbio aggiungevano però un'altra cosa, che quando uno ha detto lupus in fabula, segue un immediato silenzio, è per forza. Perché se io sto parlando del mio amico o nemico Mario Rossi con un altro, stiamo dicendo Mario Rossi, certo, un bel disgraziato, e Mario Rossi compare, immediatamente la conversazione cade e si spegne. Quindi dicevano i latini, quando uno ha detto lupus in fabula poi sta zitto. Quindi lupus in fabula era un modo per indicare stai zitto, il silenzio deve succedere alla conversazione. I proverbi sono degli oggetti strani e molto appassionanti, affascinanti, perché si nota una cosa, che da una lingua a un'altra, da una cultura all'altra, ci sono gli stessi proverbi espressi in un altro modo, non so se ci avete mai fatto caso. Per esempio i latini in un caso del genere dicevano lupus in fabula, mentre i francesi dicono quando si parla del lupo si vede la coda, oppure si parla del diavolo e spuntano le corna, e via di seguito. Gli spagnoli cambiano perché il lupo e il diavolo non lo citano più e tirano fuori un certo ruin de Roma. Il ruin de Roma che sembra un personaggio negativo, il meschino, l'imbroglione di Roma, e si dice se si nomina il ruin de Roma lui compare subito. Insomma, come si vede il lupus in fabula è un mondo che ha a che fare con la comparsa di un personaggio in genere negativo di cui si sta parlando e che provoca l'immediato silenzio, subito dopo la sua comparsa. Se vi interessa un'amica studiosa di cinese, una volta mi ha detto anche il proverbio cinese corrispondente, non ve lo dico in cinese perché non lo so leggere, ma ha a che fare con il generale Cao Cao, e il proverbio è quando si parla di Cao Cao lui arriva subito. Ora Cao Cao era un potente generale vissuto nel secondo secolo dopo Cristo, che nella tradizione successiva è divenuta l'incarnazione stessa della malvagità. Quindi tu nomini Cao Cao e lui compare. Esattamente come quando si dice, si parla del diavolo, compaiono le corna, lupus in fabula, insomma sono sempre personaggi negativi che compaiono. Certo è molto impressionante il fatto che dalla Cina romantica alla Germania moderna o all'Italia moderna si usi grosso modo lo stesso tipo di immagini per dire la stessa cosa. Cambiano i nomi, i personaggi. Questo la dice lunga su quanto i proverbi in realtà sono importanti nella cultura e su quale peccato sia il fatto che noi ce li stiamo dimenticando praticamente tutti. Ma questo è un altro discorso. Dunque lupus in fabula. Sto parlando di qualcuno, questo qui compare e io dico lupus in fabula, eccolo là e l'altro si zittisce e io pure. Si provoca il silenzio. Ora in questo proverbio che come abbiamo visto corrisponde poi a tanti altri che evocano più o meno lo stesso personaggio negativo, una cosa colpisce. Ma come mai quando io sto parlando di qualcuno e qualcuno compare io devo descrivere questa situazione sempre con immagini così negative? Tipo un lupo, tipo il diavolo, tipo el ruin de Roma, che è un personaggio negativo della tradizione spagnola, il generale Cao Cao, malvagissimo, crudele, generale della tradizione cinese, eccetera, eccetera. Ma cos'ha questo poveretto che compare che mi mette così in imbarazzo, che io dico Dio, il diavolo, Dio, il lupo, Dio, Cao Cao, eccetera. Evidentemente la vita quotidiana riserva sempre delle sorprese, come dire? Anche delle circostanze apparentemente neutre invece sono molto perturbanti, sono molto sconvolgenti. Il fatto che io sto parlando di qualcuno e quello si materializza lì evidentemente bisogna dedurre da tutte le immagini che vengono usate per descriverle qualcosa che fa impressione, che fa paura. Per quale motivo fa paura? Beh, il linguista, grande linguista francese, Emile Benveniste, aveva una teoria del linguaggio, dell'espressione linguistica, che secondo me viene proprio bene, si potrebbe dire a fagiolo, ma è un'espressione un po' volgare, non la voglio dire. Insomma, viene proprio giusta per spiegare questo singolare fenomeno, cioè che quando io sto parlando di qualcuno e questo qualcuno mi compare, io sono gravemente in imbarazzo e percepisco questa comparsa come qualcosa di ostile che mi potrebbe fare del male. Benveniste, Insoldoni diceva, nel linguaggio, nella interazione linguistica esistono soltanto due persone, non tre, come ci insegnano con le grammatiche, non c'è la prima, la seconda, la terza persona del verbo, c'è una prima e una seconda persona e poi c'è una terza persona che in realtà è una non persona, una che non interviene nel dialogo, io parlo con te, tu rispondi a me, così ci scambiamo i ruoli e poi c'è un lui, un egli, che è la persona di cui si parla, ma non è una vera persona. Benveniste, diceva, sulla scorta dei grammatici arabi che lui conosceva molto bene, quella è la non persona. La persona, a questo punto potremmo chiamare, è una persona parlata. Io sto parlando del cugino di qualcuno e dico, ma lo sai il cugino di Mario, cosa ha fatto qui e là? Ma no, ma davvero, ha lasciato la moglie, ma che disgraziato con tre bambini. Insomma, la persona parlata. Improvvisamente la persona parlata, cioè il cugino di Mario, zack, compare e a quel punto lui entra nel dialogo e questa è la differenza. Lui comincia a funzionare se fosse un io, un tu, viene lì e interagisce con noi. Noi siamo in imbarazzo perché lui un attimo prima era una persona parlata, adesso diventa una persona parlante. Ecco perché io percepisco tutto ciò come se fosse un qualcosa di perturbante, che mi mette a disagio. In altre parole, è come se io e l'altro mio interlocutore avessimo creato una specie di simulacro, di immagine verbale di quella persona e la stavamo in qualche modo cucinando, insomma stavamo parlando di lui, scrivendo cosa ha fatto, giudicando. Ora, questo doppio improvvisamente, zack, viene sostituito dall'originale. È un po' come insomma se uno vedesse un'immagine riflessa da qualche parte oppure una fotografia, un'immagine televisiva e di colpo, paf, comparisse l'originale lì. Beh, certo, resteremo spaventati. Questo fa dire, ha fatto dire in passato ai latini lupus in fabula, ha fatto dire quando parli di cao-cao subito compare ai cinesi e ancora oggi ci fa dire quando si parla del diavolo spuntano a ricorda. Sempre parlando di silenzi, abbiamo detto sopra che c'è un legame fra il silenzio e la morte. È un legame ovvio, i morti per definizione non parlano, con loro non si parla, i morti sono gli assenti, ahimè esistono nei ricordi, nei discorsi che le vedono oggetti di dialogo, come dicevamo prima, ma non sono purtroppo soggetti con cui intavolare una conversazione. Ora c'è un'altra condizione però oltre alla morte a cui il silenzio sostanzialmente si riconduce e che distingue allo stesso modo la morte dalla vita. Oltre al silenzio c'è anche l'amnesia, la perdita della memoria. Quando Ulisse va a consultare i morti nell'undecimo libro dell'Odissea, che cosa scopre? Non scopre solo quale sarà il suo futuro, non scopre solo come si sta all'Ade, perché Achille glielo dirà con immagini in parole molto celebri, ma scopre anche che questi morti che stanno lì e che vengono a trovarlo, in realtà non hanno, come dice Omero, la mente salda. Cioè solo Tiresia l'indovino ha mantenuto la mente salda, mentre quegli altri svolazzano intorno come ombre, come pipistrelli, non si ricordano di nulla, non riconoscono nemmeno Ulisse, sì che lo conoscono bene. La madre, per esempio, di Ulisse, non lo riconosce se non dopo aver bevuto il sangue delle vittime sgozzate, altrimenti i morti di Omero non hanno più memoria né di sé né degli altri. Una grande studiosa del pensiero della cultura greca arcaica, un'archeologa che si chiamava Emily Vermeule, che ho avuto la fortuna di conoscere una volta in America tanti anni fa, ora è morta. Un bellissimo libro sul mondo dei morti in Omero scrisse un capitolo che si intitolava «Ma perché i greci si immaginavano i morti come se fossero degli stupidi?». E così, per quanto ciò possa sembrare singolare, i greci omerici si immaginavano i morti anche come degli stupidi, cioè come gente che non sapeva più né parlare né interagire né ricordare niente. La morte, oltre che silenzio, è pure amnesia. È un'immagine simbolica della morte, se si vuole, particolarmente angosciosa. Ora, l'amnesia fa parte, la perdita del ricordo, fa parte della cultura greca della morte anche da altri punti di vista. Per esempio, quando si va nel mondo dei morti, che cosa si fa? Che cosa fanno le anime prima di accedere poi a questi regni e eventualmente reincarnarsi? Bevono all'acqua della fonte lete, l'acqua della fonte dell'amnesia. Bevendo all'acqua di lete si dimentica tutto, si entra in pieno oblio. Perché? Ma perché i morti devono dimenticare, devono dimenticare per tanti motivi, perché sono morti, perché non devono avere rimpianti, ma anche eventualmente, e qui c'è come dire, si apre una luce un po' più positiva, più ottimista verso la morte. Anche perché, se si devono reincarnare, come avveniva secondo le credenze degli orfici, dei pitagorici, Virgilio stesso nel sesso delle neide ne parlerà, se le anime si reincarnano, è ovvio che devono perdere la memoria di quello che erano prima. Altrimenti, quando vengono fuori con un altro corpo, un'altra mente, un'altra identità, chi sono? Cioè, uno, se conservasse memoria di quello che era prima, direbbe sì, vabbè, adesso io sono tizio dell'Italia, però prima ero l'eroe euforbo, oppure prima ero un pavone, e così uno avrebbe una gran confusione dentro, invece uno ha dimenticato tutto, ricomincia una nuova vita, è come se non l'avesse mai vissuto prima. Insomma, morte e dimenticanza si legano profondamente, e i miti al solito evidenziano questo legame, questa caratteristica profonda di connessione tra l'oblio e la morte. Intendiamoci, quando c'è l'oblio, badate, non si comunica, perché se uno perde la memoria, non si parla più, non si comunica più con nessuno. Io spesso faccio, purtroppo, questa esperienza, ormai, di voler dire un qualche nome e di non ricordarmelo, questo penso che capiterà anche a molti di voi. Come famoso, e non ti viene la parola, oblio, dimenticanza, amnesia, si comunica a quel punto? No, non si comunica più. L'oblio, come il silenzio, è il contrario della comunicazione, ma mentre il silenzio è tutto sommato una forma di comunicazione, l'oblio, ahimè, è il vero nemico, il vero opposto della comunicazione. Dunque, i miti che associano la perdita della memoria alla morte. Ce ne sono due molto famosi, che vale la pena di ricordare. In primo luogo, quello di Orfeo, che scende agli inferi per un privilegio straordinario speciale che lui ha avuto per andarsi a riprendere la moglie Euridice. Lui ha avuto questo privilegio, dovuto alla straordinaria forza, alla suggestione del suo canto, e scende agli inferi, si riprende Euridice, però proserpina, la regina dei morti, quindi la regina di un luogo dove si tace e dove si dimentica, perché questo è l'ade degli antichi, il luogo dove si tace e dove si dimentica, gli fa una raccomandazione, non voltarti indietro. Cioè, tu uscirai da qui, Euridice sarà dietro di te, tu non voltarti finché non sarai fuori. Che cosa accade? In quel preciso momento, quando sono fuori, Orfeo viene colto da un accesso di amnesia, questo è Virgilio che ce lo racconta, diventa immemor, si dimentica, si sente in quel preciso momento rimbombare per tre volte il lago Averno, e Orfeo si è voltato, si è dimenticato, si è voltato a guardare Euridice, non la vede da tanto tempo, la ama, la desidera, è così contento, si volta e lei viene risucchiata nel mondo degli inferi. Qui poi il mito a volte è benevolo, a volte malevolo, cioè in certe versioni del mito, come quella stessa di Virgilio, Orfeo piomba semplicemente nella disperazione, viene pure fatto a pezzi, da delle donne impazzite. In altre versioni del mito c'è un po' di lieto fine, e Orfeo tornerà altra volta agli inferi, o insomma, alla fine Euridice sarà liberata, però la cosa interessante è che anche in questo mito c'è questo legame stretto fra morte e oblio. L'oblio provoca la morte. Un altro mito profondamente legato al rapporto fra morte e oblio è quello di Arianna e Teseo. Sicuramente molti ascoltatori lo ricorderanno. È la storia del perfido Teseo che prima si serve di Arianna, del suo figlio, del suo aiuto per uccidere il Minotauro e uscire dal labirinto, e poi però l'abbandona su un'isola deserta, dove Arianna morirà oppure diventerà addirittura la sposa di Dioniso, a seconda delle versioni del mito. Ma dove sta il legame tra morte e oblio? Qui, nel senso che Teseo, come racconta Catullo, si era dimenticato completamente dell'amore che Arianna portava per lui. Allora Arianna lo maledice in questo modo, dicendo lo stesso oblio che tu hai manifestato nei miei confronti, possa capitare anche a te. E anche Teseo dimentica, che cosa dimentica? Dimentica che con il padre, il vecchio Egeo, aveva concordato questo. Quando lui sarebbe tornato da questa terribile spedizione a Creta, se sulla nave fossero state issate delle vele bianche, voleva dire che tutto andava bene e che Teseo era vivo. Se fossero state issate delle vele nere, il contrario, che Teseo era morto e la spedizione era andata male. Teseo dimentica questo patto che aveva fatto col padre, la nave issa vele scure, il padre vede queste vele scure, si getta da una rupe a fuga e muore. Ed è l'oblio che ha avvolto sia la mente di Teseo che quella di Egeo, ha avvolto tutto di nuovo, oblio e morte si richiamano fra loro. Stiamo parlando di comunicazione, o meglio del modo in cui gli antichi si rappresentavano attraverso i miti, attraverso i racconti, attraverso pratiche come la divinazione, si rappresentavano la comunicazione, poi abbiamo parlato di silenzi, una parte così importante della comunicazione e adesso siamo entrati nel regno un po' malinconico dell'ublio e della dimenticanza. Abbiamo detto che l'ublio e la dimenticanza sono il vero opposto della comunicazione, non è tanto il silenzio, perché il silenzio poi comunica in qualche modo, ma l'ublio è veramente la comunicazione che cade, l'ublio corrisponde proprio alla linea telefonica che si interrompe, non si comunica più. Perché? Perché non mi ricordo cosa devo dire, perché non so che cosa devo dire e che cosa dirti. Allora, già gli antichi ovviamente si erano occupati lungamente del problema dell'oblio e della dimenticanza e avevano però escogitato anche alcuni rimedi. Questi rimedi non erano solo le arti della memoria, come quella di Simonide, o altri supporti scientifici e soprattutto cari agli oratori che dovevano mantenere nella testa una specie di mappa di ciò che dovevano dire e del modo di argomentarla. Erano rimedi anche più singolari, più curiosi e inaspettati. Uno ce lo racconta Seneca in una delle sue lettere all'Ucilio ed è relativa a un singolare personaggio dei tempi suoi che si chiamava Calvisio Sabino. La storia di Calvisio Sabino è meritevole, secondo me, di essere letta. Ve la leggo rapidamente. Chi era Calvisio Sabino? Un riccone, dice Seneca, uno che aveva l'indole è il patrimonio di un liberto. Qui si sente lo sprezzo dell'uomo nobile verso l'ex schiavo che poi liberato, che si era arricchito. I liberti a Roma diventavano ricchissimi, ma che però l'indole, dice lui, la natura era rimasta quella di un liberto. Allora Calvisio Sabino, ricchissimo, non ho mai visto un uomo più indecorosamente beato di lui. Aveva una memoria così cattiva che a volte gli sfuggiva il nome di Ulisse, a volte quello di Achille, a volte quello di Priamo, che pure conosceva così bene quanto noi conosciamo i nostri maestri. Nessun vecchio schiavo nomenclatore, fra un po' parleremo di questo personaggio, che non rammenta al padrone i nomi esatti ma li inventa, salutava così male i cittadini quanto lui faceva con Achei e Troiani. Nonostante ciò voleva però apparire colto, per cui escogitò questo espediente. Comprò a caro prezzo dei servi, dei quali uno conoscesse a memoria Omero, un altro esiodo, e ne assegnò poi uno a ciascuno dei nove lirici. Non deve meravigliarti il fatto che li avesse pagati tanto cari, dato che non li aveva trovati già istruiti, ma li aveva fatti preparare apposta. Dopo che si fu preoccupato di procurarsi questa turba di schiavi, cominciò a molestare i suoi convitati, se li teneva pronti al fondo del letto, per chieder loro di volta in volta i versi che voleva citare, ma anche così spesso si interrompeva a metà di una parola. Evidentemente la comunicazione ne arrivava, ma lui se la dimenticava anche nell'attimo in cui gli era arrivata. Satellio Quadrato, uno sfruttatore di ricchi stupidi, gli suggerì una volta di assumere dei grammatici per raccogliere gli avanzi delle menze. Se hai degli schiavi, sai la memoria Omero, gli avanzi delle menze te li devi far raccogliere almeno da dei professori. E quando Sabino gli disse che ciascuno di quegli schiavi gli costava centomila sesterzi, che è una cifra mostruosa, l'altro ribatte. A minor prezzo avresti comprato altrettante casse di volumi, ma Sabino si era convinto di sapere tutto quello che qualcuno sapeva in casa sua. Dunque Calvisio Sabino, il liberto di Seneca, come dice Seneca, si era convinto di sapere tutto quello che qualcuno sapeva in casa sua. Cioè è un'idea della cultura abbastanza patrimoniale, quelli che sanno le persone che io possego, lo so anch'io, che potrebbe essere una buona metafora di quel fenomeno detto sfruttamento intellettuale che viene praticato purtroppo in molti ambienti in cui ci si appropria delle scritture, delle idee, delle intuizioni, insomma, che più ne ha più ne mente, degli altri solo perché sono dei sottoposti, dei dipendenti eccetera. Quindi questo dovrebbe fare riflettere in termini di sociologia della cultura e della sua organizzazione, soprattutto di etica della cultura. Ma insomma, Sabino si era convinto di questo e allora, siccome la cattiva memoria non si ricordava nulla, leggeva ma non gli restava niente, che cosa fece? Beh, si comprò degli schiavi che sapevano a memoria Omero, Esiodo, Pindaro, Bacchilide eccetera e così poteva citare quello che gli pareva perché lo chiedeva allo schiavo. Che cos'è quindi Calvisio Sabino? Sostanzialmente è uno che ha inventato assai prima del tempo i cosiddetti archivi online, quelli che noi oggi utilizziamo col computer, banche dati per cui uno dice mi fai vedere che cosa ha detto Tizio, cosa ha detto Caio, oppure quanti mosconi ogni anno nascono a Toronto, non so, informazioni di questo tipo, uno chiede le informazioni e c'è una banca dati che te la dà. Allo stesso modo Calvisio Sabino che non disponeva di computer ma disponeva di molti quattrini aveva degli schiavi, cioè degli archivi viventi a cui diceva come dice Omero nell'Iliade quando Nestore fa questo e questo e lo schiavo prontamente gli dava la risposta. Calvisio Sabino è comunque un personaggio estremamente patetico perché è un personaggio della anticomunicazione, della dimenticanza, poverino non riesce a parlare perché non riesce a ricordarsi che cosa voleva dire, il che è una tragedia mica da poco. Non è l'unico nel mondo romano, ci sono altri casi abbastanza simili. Uno era per esempio il grammatico Orbilio Pupillo Beneventano, il quale si era guadagnato il soprannome di Oblivio Literarum, cioè dimenticanza delle lettere, perché ormai quasi centenario aveva dimenticato tutto quello che sapeva. Orbilio era stato il professore di Orazio, il quale ne parla malissimo perché Orbilio gli aveva insegnato l'Odissea a suon di Nerbate e soprattutto gli aveva insegnata nella traduzione di Livio Andronico, che era una traduzione latina rozza, arcaica, che a Orazio ovviamente non piaceva. In un certo senso da vecchio fu punito di avere maltrattato il povero Orazio perché si era completamente dimenticato di tutto quello che sapeva. Com'è come non è, in casa di Calvisio Sabino o in casa di Orbilio Pupillo Beneventano, detto anche dimenticanza delle lettere, quello che accadeva era semplicemente questo, la conversazione cadeva ogni secondo, perché il conversatore si dimenticava semplicemente di quello che voleva dire. Il Trimalcione di Petronio, altro grande personaggio, di Liberto Ricchissimo, eroe di una scena che sta al centro del romanzo del Satiricon di Petronio, diceva di se stesso «Ho una memoria così buona che spesso mi dimentico come mi chiamo». Come dicevamo, gli antichi si erano preoccupati e molto del problema della memoria e dell'oblio. Per esempio, Plinio, quell'erudito che abbiamo già citato altre volte, l'autore della storia naturale, dedica un paragrafo alla memoria che ha un attacco in vero un po' malinconico perché lui dice «Nell'uomo non c'è nulla di così precario come la memoria». Evidentemente anche lui che incominciava a invecchiare aveva i primi sintomi di quanto precaria sia questa straordinaria virtù dell'uomo e diceva «La memoria risente infatti delle ingiurie, delle malattie e di una caduta, persino di uno spavento». Ahimè, questo sarebbe davvero terribile, uno rischia di essere investito da una macchina e si dimentica di tutto. A volte solo parzialmente altre in misura totale. Un uomo colpito da un sasso dimenticò le lettere dell'alfabeto, un altro caduto da un altissimo tetto si dimenticò della madre, degli affini e dei congiunti. Questo è un oblio specificamente centrato sulla famiglia e sulla parentela. Un altro ancora malato non riconosceva i servi, mentre l'oratore Messalla Corvino non ricordava più neppure il suo nome, come dice Trimalcione. «La memoria tenta e congiura di sfuggirci anche quando il nostro corpo è tranquillo e sano». Quindi, dice Plinio, state sempre in guardia perché anche quando vi sentite bene, vi sentite sani, in realtà la memoria può sempre sfuggirvi. Può sfuggire anche, dicevano gli antichi, per cause esterne di carattere magico. E qui si aprirebbe un altro interessante percorso da seguire, perché noi abbiamo visto che la memoria e l'ublio sono al centro della comunicazione, abbiamo visto che a volte parlando male di qualcuno lo si può far tacere, ma adesso scopriamo che anche parlando male di qualcuno, facendo degli scongiuri su qualcuno si può non farlo tacere, ma farlo obbligare di se stesso e quindi farlo tacere. La storia ci viene da Cicerone, il quale una volta aveva difeso in tribunale una certa Titinia. Dopo di lui aveva preso la parola Curione per perorare la causa dell'altra parte un certo Servio Nebio che aveva accusato Titinia. E che cosa accade? Accade che Curione d'improvviso, dice Cicerone, d'improvviso si dimenticò completamente la causa e diceva che questo era avvenuto per colpa dei filtri e degli incantesimi di Titinia. Ecco dunque un bel esempio di ublio procurato con filtri e incantesimi. Attenzione che quando qualcuno ci vuol male può farci non solo tacere, non solo ammalare, ma anche farci dimenticare. Calvisio Sabino, l'eroe di Seneca, l'eroe buffo, liberto ricco, che crede di sapere tutto quello che gli altri sanno in casa sua e per questo si compra degli schiavi che sanno a memoria Omero, Esiodo, Pindaro e così via. Calvisio Sabino è un bel esempio di Obliosos, un bel esempio di qualcuno che non comunica perché si dimentica. È un personaggio patetico, sì, un personaggio anche buffo, un personaggio antipatico perché uno che si compra la scienza altrui non è mai simpatico, ma può anche essere un personaggio tragico, un personaggio drammatico e questo se solo lo si paragona a quelli che probabilmente sono i suoi più naturali equivalenti, che non sono i vivi ma sono i morti. Come abbiamo già detto un'altra volta, infatti, nel libro undicesimo dell'Odissea, Ulisse incontra i morti, va a chiedere il suo futuro a Tiresi essenzialmente, ma ha anche occasione di parlare con la madre, ha occasione di parlare con Achille, ha occasione di parlare con Agamennone, eccetera. Questi morti li si presentano e, come abbiamo già detto, sono tutti privi di senno. Omero usa una parola, le frenes, che sono le facoltà spirituali e dice che le frenes dei morti non sono empedoi, non sono stabili. Quindi il morto è qualcuno che ha una testa bislacca, una testa non ferma, che si agita, che vaga. In questo senso la testa non ferma dei morti rassomiglia un po' alla loro instabilità, anche fisica dei morti si dice sempre che svolazzano di qua e di là, come ombre, oppure sono paragonate a pipistrelli, no? Il pipistrello è proprio un emblema di instabilità, di aggirarsi. E poi si dice ancora dei morti che hanno delle teste fiaccate, delle teste spossate, che non hanno menos. Peggio ancora che le loro menti sono insensate a fradesse, non hanno più senso. C'è un altro modo ancora, Omero, per descrivere i morti. Immagini di stanchi, di stancati. E' come se il morto fosse uno, come dire, un po' estenuato. È un modo terribile, secondo me, di vedere la morte, perché c'è un modo eroico di vedere la morte. Uno dice dopo la morte non c'è nulla, basta. Oppure c'è un modo nobile, spirituale. Dopo la morte c'è un altro regno in cui ci sono i beati, sono felicissimi e i dannati che soffrono. Però soffrono ma ci sono. Se uno pensa alla Divina Commedia, sono dei dannati che ci sono e come, sono personaggi a tutto tondo, formidabili. E poi c'è questo modo qui di vedere la morte, che è un modo di rappresentarlo per detrazione. Cioè dopo la morte c'è qualcosa, sì, ma è che siamo noi però tutti un po' indeboliti. La testa non c'è più, non stiamo più fermi, non sappiamo più parlare. Siamo come se fossimo delle persone stanche, delle immagini di gente stanca. E questo è un modo terribile di parlare della morte. Perché? Perché sarebbe molto meglio dire non c'è più niente, piuttosto che dire questo. È un'aspettativa terribile a sapere che la morte è una specie di lunga e interminabile vecchiaia. Da qualche sera a questa parte ci stiamo occupando non solo di comunicazione antica, la comunicazione che gli antichi immaginarono, rappresentarono e vissero nei loro miti e nei loro racconti, ma anche di un aspetto specifico della comunicazione, o meglio della non comunicazione, ossia l'oblio e la dimenticanza. Abbiamo visto infatti che la dimenticanza, l'oblio e l'amnesia sono proprio il contrario della comunicazione. Quando si dimentica non si comunica più. E questo è un guaio peggiore del silenzio perché il silenzio in qualche modo continua a comunicare, l'oblio è solo una disgrazia. Abbiamo anche detto alcune volte che gli antichi avevano elaborato dei loro sistemi, un po' come noi, per venire incontro a questo problema dell'oblio e della dimenticanza. In altre parole, noi abbiamo una serie di sussidi formidabili per la conservazione dell'informazione. Abbiamo gli enormi archivi, abbiamo le biblioteche, abbiamo oggi gli archivi online, informatizzati. Insomma, abbiamo il modo di mantenere la memoria collettiva. La storia, ovviamente, altro non è che una espressione, manifestazione di questo desiderio di mantenere la memoria collettiva. E poi abbiamo tutta una serie di tecniche anche per mantenere, viva Dio, la memoria privata. Insomma, ognuno di noi conosce i suoi piccoli trucchi. Si va da quelli elementari, mi faccio nodo al fazzoletto, cambio di posta l'anello, mi giro l'orologio per ricordarmi questo e quest'altro, alla classica agenda che è tuttora molto gettonata e molto di moda, alla più moderna agenda elettronica, spesso connessa a un cellulare, la quale è anche capace di squillare al momento opportuno un certo giorno per ricordare il compleanno, la lettera da spedire e così via. Ora, questo secondo aspetto della conservazione della memoria e del rimedio dell'oblio che stiamo descrivendo, agli antichi era ovviamente precluso, perché non esistevano agende elettroniche, non esistevano metodi interattivi per in qualche modo compensare il rischio dell'oblio. Questo però lo si faceva ugualmente attraverso dei sussidi di carattere umano, cioè l'interattività che noi abbiamo in certa misura con gli strumenti elettronici, gli antichi l'avevano banalmente con i loro strumenti che erano, ahimè, gli schiavi. Lo schiavo, diciamo, nella sua molteplice capacità di significare, di essere qualche cosa, aveva anche questa di capacità, era uno strumento interattivo. Non era solo questo in realtà, lo schiavo era anche molto di più, spesso fa padrone schiavo, poi in realtà si stabilivano dei rapporti umani, dei rapporti di amicizia, talora dei rapporti curiosamente di emulazione e persino di invidia da parte del padrone per certe caratteristiche e privilegi che lo schiavo poteva avere a dispetto della sua condizione di schiavo, meglio proprio per questo. Insomma, era in realtà un rapporto umano molto complesso quello con lo schiavo, però di sicuro il rapporto uomo-schiavo era un po' simile al rapporto moderno uomo-macchina, uomo-computer, nel senso che lo schiavo era uno strumento che ti rispondeva, uno strumento che eseguiva quello che gli veniva detto, che anzi era in grado di rilanciare sul comando ricevuto per fare di più. Appunto, anche nel terreno della conservazione della memoria e del rimedio all'ublio del sostegno nei confronti dell'amnesia, lo schiavo funzionava esattamente da strumento interattivo allo stesso modo. Lo abbiamo già citato tempo fa raccontando una storia curiosa di Seneca, del suo Calvisio Sabino, quel personaggio che si era comprato degli schiavi che sapevano a memoria Omero, Esiodo e Illirici per fare buona figura a banchetto. Adesso dovremo vederne qualche altro esempio. A Roma esisteva uno schiavo che portava il nome di Nomenclator. Il Nomenclator che ancora credo che resista come marca di, non lo so, non mi ricordo, sia di cartelle o raccoglitori, un nome abbastanza dotto per indicare un tipo di raccoglitori. Il Nomenclator era etimologicamente un Nomencalator, cioè uno che chiamava i nomi. E per quanto questa etimologia, colui che chiama i nomi, possa sembrare bizzarra, in realtà il Nomenclator aveva in primo luogo questo compito, quello di letteralmente chiamare i nomi delle persone che si incontravano. Cioè immaginate un personaggio romano, ricco, un patrizio o addirittura qualcuno che ha ambizioni di vita pubblica, politica, meglio ancora un candidato alle elezioni. Questo personaggio importante gira per la città e ha una serie di rapporti sociali che vanno dal rapporto con i suoi clientes, dal rapporto con i suoi amici, i suoi potenziali elettori, i suoi nemici, potenziali o veri, tutti ne abbiamo e personaggi importanti ne hanno più di altri. Qual è la prima cosa da fare in un caso del genere? Salutare. Se non si saluta in una società come quella della città di Roma, che è una società del faccia a faccia, una società in cui le cose si fanno incontrandosi di persona, in cui la vita sociale si realizza nelle strade, soprattutto nel foro, se non si saluta qualcuno chiamandolo per nome, quello si offende. Allora il Nomenclator ha per l'appunto la funzione di imparare a memoria per bene i nomi di tutti i personaggi che sono in qualche modo in connessione con il padrone e di dirli guarda che questo si chiama così e così. A questo punto il padrone opportunamente stimolato dal Nomenclator fa buona figura e mantiene vivi i propri rapporti sociali. Il Nomenclator insomma è come fosse un'agenda interattiva particolarmente intelligente, anche io vorrei possedere non un Nomenclator ma un'agenda che mi suggerisce il nome di certe persone, le volte che io le vedo le saluto, non mi ricordo come si chiama, perché è un'esperienza molto spiacevole. Erano insomma dei suggeritori, una sorta di suggeritore di teatro che però, essendo schiavo, era strettamente legato al suo padrone e lo accompagnava sempre quando usciva. Tanto così per curiosità Seneca dice che quando non ci si ricordava il nome di qualcuno bisognava salutarlo chiamandolo Dominus Signore o Domine, cioè Salve Signore, ma quell'altro sentendosi chiamare Salve Signore capiva che il suo nome non era ricordato e ci rimaneva male. Ecco quindi entrare in scena il Nomenclator. Un altro vivente sussidio di memoria a Roma era il monitor. Il monitor, ma guarda che tutte queste parole non ci ho mai pensato, hanno sempre dei risvolti comunicativi moderni. Il monitor è per l'appunto quello schermo televisivo che serve, se non erro, come strumento anche interno durante le riprese televisive. Appare sul monitor, guardi sul monitor, eccetera. Esattamente il monitor non era uno schermo, era una persona ed era colui che fa ricordare, perché in latino il verbo moneo vuol dire faccio ricordare una certa cosa e il monitor è colui che mi fa ricordare. Quindi qui proprio il nome è esplicito, designa la funzione con una chiarezza esemplare. Dunque il monitor era il suggeritore di teatro, anche lui infatti era presente, i romani avevano dei spettacoli teatrali, gli attori si sa hanno quelle necessità e quindi avevano i loro monitores, come i nostri hanno i loro suggeritori. E però, cosa curiosa, monitor si usava anche come sinonimo di libri commentari. I libri commentari erano degli appunti, diciamo dei quaderni, dei brogliacci in cui non si redigevano delle opere complete, pronte per essere copiate e divulgate, ma degli schemi, degli appunti, delle notizie raccolte un po' imperfette. Anche i libri commentari venivano chiamati monitores, evidentemente perché con questi appunti o scalette, come noi diciamo oggi, ugualmente ci si sosteneva la propria memoria, insomma la memoria debole. L'oratore nel foro che si trovava di fronte a una causa abbastanza difficile aveva i suoi libri commentari, aveva i suoi monitores che leggeva e quindi con quelli si aiutava poi nello sviluppo della causa, oppure aveva l'oratore un vero e proprio monitor nel senso di una persona, curioso questo gioco, tra gli appunti scritti e la persona che parla, che hanno lo stesso nome, aveva accanto a sé una persona, un monitor che gli ricordava adesso devi fare questo, adesso devi dire quest'altro, oppure l'oratore lo guardava e quell'altro gli suggeriva un nome geografico, oppure il nome di una persona da evocare durante la causa. Tutto questo appunto attraverso persone. Quando si parla di sussidi o supporti della memoria per il mondo antico greco e romano, bisogna considerare che queste culture, queste civiltà, si sono sviluppate in un regime di parziale oralità. Che cosa intendo con questa espressione parziale oralità? Si definiscono culture orali le culture in cui non si scrive, molte culture di interesse etnografico che sono state studiate dagli antropologi negli anni passati, nei decenni passati, erano per l'appunto culture senza scrittura. L'espressione anzi civiltà senza scrittura si è sostituita nell'uso degli antropologi a quella un po' più odiosa del tipo culture primitive o civiltà primitive, perché ti dà l'idea che primitivi che erano delle specie di bestie che ragionavano come bambini e c'è tutti questi pregiudizi qui. In realtà non è che siano esattamente in questi termini le cose, queste sono piuttosto civiltà che si differenziano dalle nostre in primo luogo perché non scrivono e questo provoca tutta una serie di trasformazioni, di differenze rispetto alle nostre culture. Allora, queste sono le culture orali, quelle dove veramente non si scrive mai, non si è scritto e non si conoscono neanche i caratteri dell'alfabeto. Una cultura diciamo parzialmente orale invece è una cultura in cui la scrittura si usa e come, però si usa molto meno di quanto la usiamo noi oggi, anche perché non c'è la stampa, quindi la scrittura si sviluppa e si divulga solo attraverso tavolette di cera su cui si incidono dei caratteri, oppure papiri o pergamene su cui si copiano determinate opere, oppure iscrizioni anche lunghe che vengono diligentemente scalpellate sopra una lastra di marmo di pietra. In altre parole, culture in cui la scrittura, siccome costa di più, è più faticosa, i materiali scrittori sono più rari, sono più lenti, eccetera, la si usa di meno e molte cose si trattano e si sviluppano ancora molto oralmente. Quando noi immaginiamo la cultura greca e la cultura romana dobbiamo per l'appunto immaginare delle culture in cui la scrittura la si usa, ma fino a un certo punto. Ecco perché i sussidi della memoria sono sussidi sia di carattere scritto, abbiamo visto i monitore, sono contemporaneamente degli quaderni di appunti e delle persone che mi suggeriscono, sia attraverso sussidi di carattere scritto, sia invece attraverso persone che interagiscono oralmente con me perché io sto sviluppando la mia azione sociale attraverso la mia parola, non attraverso la mia scrittura. Non sono chiuso in uno studio che sto scrivendo al computer con dei database e dei libri a disposizione, no, sono lì nel foro, sto pronunziando una ringa da cui si deciderà l'esito di una certa votazione oppure si condannerà qualcuno o lo si assolverà, eccetera, eccetera, tutto ciò si fa oralmente. Ecco perché la memoria di questo tipo di civiltà è una memoria ancora parzialmente orale. Ma ci sono state delle epoche anche in Grecia in cui la memoria e la comunicazione erano di carattere esclusivamente orale. È bello immaginare una civiltà dove non si scrive mai. Dove non si scrive mai perché dico che è bello? Perché è una civiltà che si concentra solo sulla voce, essenzialmente. Questo io trovo che sia bellissimo. Cioè l'estetica, per esempio, la bellezza di una lirica, la bellezza di un discorso, la bellezza di un pensiero, eccetera, resta sempre inevitabilmente legatissima al tono, la qualità, le infezioni della voce che lo pronunziano. Una dimensione che noi buona parte abbiamo perso, perché leggiamo ancora molto, che andiamo per la verità anche riscoprendo, perché la nostra è un'epoca in cui attraverso la radio, la televisione, l'oralità sta tornando al centro della comunicazione, ma che però, insomma, è sempre, come dire, parzialmente o quasi totalmente velata dalla scrittura. Bisogna immaginare che noi Omero lo leggiamo sostanzialmente. Però proviamo a pensare a un'epoca in cui l'Ilia dell'Odissea non esistevano scritte da nessuna parte, esistevano nella voce di questi aedi che recitavano, cantavano questi poemi nelle piazze o nelle corti e quindi l'incontro fra Ettore Andromaca, per esempio, uno dei più commoventi della letteratura, la visita di Odisseo ai morti, oppure il ciclope che grida come ti chiami e l'altro che gli risponde mi chiamo nessuno e lui insiste dicendo nessuno mi fa del male, nessuno mi fa del male. Tutto questo era però legato anche a una voce, senza quella voce non ci sarebbe stato nulla di tutto ciò e la bellezza di tutto ciò è legato anche alla bellezza di quella voce. Quindi una cultura orale è una cultura, come dice Omero, di parole alate. La nostra comunicazione moderna è una comunicazione di parole alate? Ma non lo so, direi sostanzialmente di no, noi abbiamo anche tante parole grevi, tante parole pesanti, ma questo sarebbe un discorso diverso da sviluppare. È una cultura di parole alate in cui appunto ci si scambiano solo parole che volano, parole con le alucce, come Hermes che vanno da una bocca a un orecchio e viceversa, e dietro le quali sta una divinità, dal nome molto trasparente, molto parlante, che è la divinità Mnemosyne, la divinità Memoria. Mnemosyne in greco vuol dire Memoria, la quale è a sua volta la madre delle Musai, la madre delle Muse, che sono quelle divinità che ti fanno comporre, che ti fanno mettere insieme le parole, i pensieri e siamo di nuovo sul terreno della comunicazione fra gli uomini. Quindi la comunicazione fra gli uomini è una, come dire, una circolazione, una dialettica fra una divinità Memoria, le sue figlie Musai e delle parole alate che rappresentano tutto questo. Al momento in cui il suono di queste parole si è spento e non c'è più, non c'è più la comunicazione e non c'è più neanche il discorso. La grande novità della scrittura è questa, permette il riuso dei discorsi. I discorsi possono essere riusati, possono essere archiviati, messi da una parte e letti anche, come facciamo noi, 2500-2700 anni dopo rispetto all'Ilia dell'Odissea. Ma ai tempi in cui questi poemi furono concepiti nel loro lentissimo lavorio, che poi porterà la redazione dei poemi così come noi li abbiamo, ecco, questi poemi sono passati attraverso un'infinità di rappresentazioni pubbliche in cui nascevano e morivano nello stesso modo. E l'unica traccia che ne restava era, per l'appunto, la traccia nella memoria di chi aveva udito, di chi aveva ascoltato la recitazione o il canto di quel poema. Questo è, come dire, lo sfondo generale in cui noi dobbiamo immaginare la comunicazione in una Grecia che ancora non scrive o scrive molto poco e solo per certe cose, per fare degli elenchi, probabilmente così era, degli elenchi di materiali, di oggetti nei grandi palazzi della civiltà micenea o anche forse per redigere alcuni testi di altro tipo, ma che comunque non fa l'uso della scrittura che si genererà invece molto dopo. Quando in Grecia ancora non si scriveva, e questo è un periodo che è anteriore almeno all'VIII secolo prima di Cristo, la comunicazione, la parola, era solo una parola orale. La comunicazione era solo una comunicazione orale, anche la composizione di poemi, grandi poemi come quelli di tipo omerico, diciamo, si faceva tutta esclusivamente attraverso la memoria e la rappresentazione pubblica degli aedi per poi scomparire assieme alle parole che l'avevano incarnata in quel momento. E questa è una fase di cultura orale. A questo proposito vorrei raccontarvi un curioso aneddoto, un piccolo frammento di storia che viene proprio dall'Odissea e che ci può dare la misura di che cosa significa comunicare, di che cosa significa memoria e via discorrendo in una società di carattere orale. Allora, bisogna sapere che siamo a Itaca quando Ulisse è ormai sbarcato in incognito, Atena lo ha trasformato in un mendicante irriconoscibile, e comincia a entrare in contatto con questi odiosi proci che gli hanno occupato la casa e che di lì a poco lui poi sterminerà, devo dire, con una crudeltà veramente senza fine, una delle scene più sanguinari e più crudeli di tutta la letteratura è la strage dei proci, tutti i proci alla fine dell'Odissea. Ma insomma, qui siamo ancora prima della strage, Ulisse è un mendicante maltrattato da questi proci arroganti e uno di questi, che si chiama e Urialo, incontra il mendicante Odisseo e gli dice «tu non mi sembri un uomo esperto di gare», perché Ulisse avrebbe espresso il desiderio di partecipare a alcune gare che si tengono fra i proci, «tu non mi sembri un uomo esperto di gare, ma piuttosto uno che va per mare sulla nave dai molti remi e comanda a marinai che fanno i mercanti, bada al carico, alle merci e ai guadagni allettanti». Questa frase sembra molto innocente letta in italiano, cioè praticamente Urialo dice a quell'altro «beh, insomma, tu non hai l'aspetto di un atleta, mi sembri un mercante, uno che comanda ai marinai, bada al carico», eccetera. Se uno si fa leggere, va a leggere il testo greco, però cosa scopre? Che la frase «colui che vada al carico» suona letteralmente colui che si ricorda del carico, fortu mnemon, mnemon, questa è una parola su cui torneremo poi anche prossimamente, letteralmente sarebbe proprio un ricordatore del carico, uno che si ricorda del carico. Strano personaggio, ma chi è sto ricordatore del carico? Cosa significa propriamente questa espressione? Già i grammatici greci si imponevano il problema di che cosa volesse dire, perché i grammatici greci vivevano, i commentatori di Omero vivevano ormai in una fase di cultura estremamente diversa da quella omerica e spesso trovavano delle espressioni che non corrispondevano alla loro cultura presente, diciamo, per cui le spiegavano e cercavano di spiegarle. Allora il bravo grammatico greco in questione, di fronte alla parola mnemon, fa le sue osservazioni e dice «lo mnemon era colui che ricordava qual era il valore di ciascun capo delle merci e sarebbe l'equivalente di un segretario, qualcuno che si occupava del carico e dei naviganti». Dunque colui che si ricorda del carico altro non è che un commissario di bordo, diremmo noi, insomma quello che è responsabile di tutte le merci che stanno a bordo. Immaginiamoci allora una bella trireme greca, carica di marinai, carica di merci e con un tale seduto da qualche parte che è colui che sa a memoria tutto l'elenco delle merci che stanno a bordo. Ma perché? Continuava il grammatico, il commentatore di Omero che spiegava questa espressione, lui dice «Nell'età eroica, non si conosceva l'uso delle lettere dell'alfabeto, per questo tenevano a memoria il carico, perché non avevano conoscenza delle lettere». Sotto la spinta di tale necessità, continuava il commentatore, «i commercianti fenici giunsero alla scoperta dell'alfabeto». Ma l'uso antico voleva che il segretario e il commissario di bordo fossero chiamati, non Grammateus, cioè segretario, e Epimeletes, cioè commissario, ma Mnemon, ricordatore. Il ricordatore di bordo dunque è un inventario vivente, uno che sa per filo e per segno quante otri di vino ci stanno, quanti moggi di grano si trasportano, quante anfore e compagnia bella. Cioè è un archivista che è nello stesso tempo anche un archivio, è una lista che è nello stesso tempo anche un segretario. Più tardi Platone giocherà su questa curiosa ambivalenza, cioè perché? Perché Grammateus, segretario, la parola che poi nel tempo avrebbe sostituito Mnemon, ricordatore, in realtà Grammateus viene da Gramma, lettera, la scrittura. Quindi lo scrittore nel tempo si sostituisce al ricordatore, la scrittura prende il posto della memoria. E appunto Platone si diverterà a giocare su questo dicendo che la memoria, la Mneme come lui la chiamava, la nostra memoria, è il nostro Grammateus, il nostro segretario, cioè il nostro scrittore, quello che registra tutte le informazioni che abbiamo ricevuto. Ecco che nel frattempo è arrivata in Grecia la cultura scritta, si è affermata e a questo punto è la memoria che è diventata una scrittura, mentre prima la scrittura era una memoria, i termini si sono completamente rovesciati. La potenza della scrittura è tale che si impone anche nel mondo delle metafore e quindi rovescia i termini di ciò che prima era il rapporto normale tra memoria e scrittura. C'è un altro esempio molto interessante che ha a che fare con la parola che noi ancora oggi usiamo, la parola oblio, che viene dal latino oblivio. Letteralmente che cosa significa oblivio, cioè oblio? Significa raschiare via le lettere di una scrittura, cioè anche qui ci troviamo di fronte a una fase della cultura in cui la cultura scritta, la scrittura è diventata talmente presente, talmente dominante anche nell'immaginario che adesso la perdita della memoria equivale alla cancellazione di lettere scritte, alla cancellazione di un archivio. Mentre prima tutto ciò sarebbe stato assolutamente inimmaginabile e l'archivio veniva pensato come memoria, adesso è la memoria che viene pensata come archivio. Che poi il Platone che abbiamo appena citato con la scrittura non andava assolutamente d'accordo e aveva una posizione del tutto conflittuale. Una volta nel Fedro, nell'opera che si chiama Fedro, spiega anche perché e lo fa raccontando un mito. Platone fa spesso di queste cose quando deve spiegare qualche cosa di abbastanza complesso ma che lui desidera che arrivi alle orecchie un po' di tutti, che sia comprensibile un po' a tutti, ricorre a questo strumento comunicativo antichissimo dei greci che è quello del mizos, quello del racconto di carattere favoloso. Allora dunque lui racconta che un dio egizio, Teut, aveva inventato i caratteri dell'alfabeto. Lì presentò al saggio, a un saggio re degli egiziani e questo respinse la scrittura sdegnosamente dicendo che questa non porterà nessun bene, qui non c'è Sofia, qui non c'è saggezza, non c'è proprio niente. La scrittura può servire al massimo come sussidio della memoria, ma non bisogna mai scrivere cose che siano veramente importanti e veramente rilevanti. Quindi Platone poi continua a svolgere una serie attraverso la bocca di questo saggio re egizio a svolgere una serie di critiche alla scrittura, che però direi ce n'ha una che è particolarmente impressionante e anche particolarmente interessante, ed è la seguente. Dice che le cose scritte rassomigliano a immagini mute. Tu le guardi e sembrano esseri vivi le immagini mute, però se rivolgi a loro la parola loro non ti rispondono, non ti sanno risponderci. Così è per la scrittura. In effetti di fronte a una pagina scritta che ti comunica tante belle informazioni, se uno ne vuol sapere di più e prova a rivolgere alla pagina scritta una domanda, che cosa ti risponde la pagina scritta? Sempre la stessa cosa. Non è in grado di interagire con te, non aggiunge altro. E allora Platone continuava quanto meglio sono invece i discorsi, discorsi orali, le frasi che si pronunziano. Perché? Perché dietro le frasi che si pronunziano c'è un padre. E questo padre è responsabile di questi discorsi. Ne è responsabile né il padrone, né l'autore. E allora col padre di questi discorsi si può interloquire. Tu hai detto questo e questo, ma che cosa volevi dire? L'altro può aggiungere, può spiegare, può ribattere. Questa, per Platone, è la vera comunicazione. E quindi anche la vera cultura. La comunicazione faccia a faccia fra due interlocutori che sono entrambi padri dei loro discorsi e che quindi possono rispondere all'uno o all'altro al momento in cui siano interrogati. Ma questo non avviene, diceva lui con sdegno, quando ci si rivolge a delle frasi scritte. Le frasi scritte non rispondono. Naturalmente, questo è inutile che io lo dica, apre un curiosissimo paradosso anche nei confronti stessi di Platone. Un uomo che sostanzialmente diffidava o dubitava della scrittura, o meglio, diciamo, dubitava e diffidava della scrittura il suo personaggio, Socrate, ma lui stesso poi nelle lettere, Platone stesso nelle lettere avrà delle espressioni molto dure di nuovo contro la scrittura. Quindi un uomo che diffidava della scrittura, che invitava a non scrivere le cose più importanti, quelle in cui veramente si crede, eccetera, e che però poi ha scritto una serie di dialoghi, una serie di opere, che sono quelle che poi ci permettono di conoscere paradossalmente queste critiche alla scrittura. Cioè solo scrivendo il proprio disprezzo, la propria critica alla scrittura, Platone è riuscito a, in qualche modo, affermare queste sue idee, che è una affermazione, che è una condizione decisamente paradossale, ma che però dice molto su quello che continuiamo a chiamare appunto comunicazione. Quando più avanti ci troveremo a parlare della comunicazione tramite immagini, che ovviamente nel mondo antico poteva essere solo una comunicazione attraverso immagini dipinte, o attraverso immagini speculari, o attraverso immagini scolpite, ma non certo mai attraverso immagini virtuali, come facciamo noi oggi. Quando ci troveremo a parlare di ciò, dovremo ricordarci di questa bellissima frase di Platone, le parole scritte sono come figure dipinte, tu le interpelli e loro non ti rispondono. Perché questo non pone soltanto un interessante, profondissimo dubbio riguardo a che cosa è la cultura scritta, ma pone contemporaneamente un affascinante dubbio anche riguardo a che cosa sono le immagini. E cioè, Platone diceva, io vedo un quadro, lo interpello, lui non mi risponde. Pensiamo un attimo a noi oggi, noi vediamo la televisione, vediamo i cinema, i film, proviamo un po' a interpellare le figure che ci passano davanti, non ci rispondono. Prendiamo anche il più aperto, il più democratico, il più, come dire, intelligente dei talk show. Noi possiamo interloquire con quelle persone? No, c'è un simulacro di tutto ciò. Se ci riesce possiamo infilare una telefonata per un attimo, siamo lì anche noi. Però in realtà anche la televisione funziona come le immagini di Platone, che tra parentesi disprezzava, disprezzava tanto la scrittura quanto le immagini dipinte. Anche la televisione funziona così. Se io mi rivolgo a Pippo Baudo e gli grido tutto il mio amore per lui, oppure gli rivolgo una domanda che mi urge, vorrei che Pippo Baudo mi rispondesse. Lui non lo fa. Perché? Perché è come una parola scritta in fondo, perché è un'immagine dipinta, un'immagine virtuale che con me in realtà non comunica. L'illusione che le immagini comunichino completamente, mentre comunicano soltanto a metà, soltanto dalla parte di chi emette verso chi riceve, ma non è vero il contrario, è un'illusione che nel passato anche mitico ha prodotto una serie di straordinari racconti. In fondo, quello che si rivolge al famoso Anchorman o al giornalista televisivo e gli chiede qualche cosa e quello non ti risponde perché non ti vede, non è diverso dall'eroe del mito di Narciso, di Ovidio. In fondo è come se fosse un Narciso. Ricorderete la storia, Narciso curvo sulla fontana, vede questa immagine bellissima di sé medesimo. Se ne innamora, vorrebbe abbracciarlo, vorrebbe amarlo, però in realtà l'immagine è solo un'immagine. Come lui infila la mano nell'acqua, l'immagine scompare, non c'è più, l'immagine non esiste, è semplicemente un riflesso della persona, non si comunica di nuovo con un'immagine. Beh, in un certo senso, chi di noi volesse comunicare, interagire davvero con le immagini virtuali della televisione, sarebbe un po' come Narciso, che si era innamorato di se stesso e voleva se stesso, oppure sarebbe come quei molti eroi di cui dovevamo parlare più avanti, che si innamorarono di statue o di dipinti e volero fare all'amore con questi oggetti fricidi e senza vita. Ci siamo sempre più addentrati nel mondo della comunicazione antica. L'ultima volta abbiamo parlato anche di Platone, della sua ostilità verso la scrittura, di questo singolare paradosso di una persona ostile alla scrittura che scrive alle sue opere e che proprio in questo modo può tramandare ai posteri la sua ostilità verso la scrittura, che è una condizione effettivamente molto paradossale. Poi abbiamo parlato di un personaggio omerico che portava il nome di ricordatore del carico e questo, dicevamo, si chiamava così perché in un'epoca di cultura orale in cui non si scriveva, anche la lista delle merci trasportate dai mercanti veniva imparata a memoria da qualcuno, il quale poi evidentemente ne rendeva conto allo sbarco, teneva i conti sempre in maniera mnemonica, totalmente mnemonica e di conseguenza il segretario o commissario di bordo portava il nome di ricordatore. Ora, questo personaggio, l'omnemon, il ricordatore, in realtà è un personaggio anche del mito. Eccoci di nuovo a entrare in questa landa piena di meraviglie che è il territorio del mito greco, la mitologia greca, in cui si trovano miti che riguardano un po' tutto e raccontati un po' in tutti i modi possibili. Ci sono anche miti sui ricordatori, come no, e anche miti relativi alla memoria. I miti del ricordatore in Grecia sono un po' frammentati, sono dei pezzettini che troviamo un po' di qua, un po' di là, ci vuole un po' di pazienza raccoglierli, ma quando li si raccoglie si scoprono delle storie veramente curiose. Per esempio la prima, che c'è raccontata da Plutarco, uno erudito filosofo storico greco che tante volte già abbiamo avuto occasione di ricordare, il primo di questi racconti sul rammemoratore, sul mnemone ricordatore, riguarda Achille. Achille è un personaggio, come sapete, tragico, sfortunato, bellissimo, fortissimo eppure così fragile, destinato a morire nel fiore della giovinezza. Achille, aveva una madre che si chiamava Teti, madre divina, ora lei gli aveva proibito di uccidere Tenes, un personaggio chiamato Tenes perché era onorato da Apollo. E infatti il destino diceva Achille morirà qualora uccida qualcuno della stirpe di Apollo. Quindi Teti faceva delle grandi raccomandazioni al figlio Achille perché non ammazzasse nessuno della stirpe di Apollo e quindi stesse attento a questo Tenes che era appunto della stirpe di Apollo. E oltre a fare queste raccomandazioni, che cosa aveva fatto? Aveva preso uno schiavo, glielo aveva messo accanto in qualità di mnemon, cioè doveva farli da ricordatore perenne. Lo schiavo doveva stare lì e dire Achille ogni tanto, ricordati eh, stai attento a non uccidere nessuno che sia della stirpe di Apollo. Ma cosa successe? Successe che questo mnemon di Achille, il ricordatore di Achille, a un certo punto fu vinto dall'oblio. Dice Plutarco che cade in una specie di letargo e quindi si dimenticò, si dimenticò di ricordare, ora questa è un'altra condizione estremamente paradossale, cioè l'umnemon distratto, l'umnemon dimenticone, l'umnemon oblioso, fu proprio quello che accadde. L'umnemon si dimenticò di ricordare ad Achille di non fare quella certa cosa, Achille uccise Tenes e in questo modo segnò definitivamente la sua fine. Ma quanti mnemones ci sono? Quanti ricordatori della mitologia greca? Per esempio ce n'è un altro, che aveva anche un nome bellissimo, si chiamava Calcon Kipariseus, bellissimo nome pieno di armonie vocaliche, Calcon Kipariseus, che era stato assegnato come ricordatore, come mnemon, ad Antiloco, il figlio di Nestore. Infatti cos'era successo? Che Antiloco aveva ricevuto un oracolo. Guardati dall'Etiope. Allora Nestore, vecchio saggio, aveva capito che qui c'è qualcosa sotto, quest'Etiope effettivamente è pericoloso. Mettiamo accanto a mio figlio l'omnemon Chalcon e così lui gli ricorderà di non andare a finire tra le grimpie dell'Etiope. Ma questi ricordatori, questi mnemones, sono sempre sfortunatissimi a se stessi e agli altri. A Kipariseus capitò di innamorarsi. Si innamorò di Pentesilea, la bellissima regina delle Amazzoni, quella a cui Heinrich von Kleist dedicherà poi una celebre tragedia. Anche lei figura tragica, figura insomma molto appassionante. Voi si capisce che Calcon Kipariseus si fosse innamorato di Pentesilea in realtà. E quando la videa mal partito, perché si scontrò con Achille, Pentesilea, Calcon corse ad aiutare Pentesilea. Achille lo ammazzò. Achille era uno che ammazzava tutti. Quindi ammazzò anche Calcon Kipariseus. A questo punto Antiloco, che non aveva più il suo mnemon, andò a finire proprio fra le braccia di Memnone, che era l'Etiope, il re degli Etiopi, profetizzato dall'oracolo, che lo uccise. I greci si arrabbiano molto, presero Calcon Kipariseus e lo impalarono addirittura. Però ormai il danno era fatto. Si comincia un po' a capire come funzionano questi ricordatori, queste agende umane, diciamo, del mito greco. E' gente che arriva fino quasi al punto di ricordare la cosa giusta, poi però si dimentica e lì scoppia la tragedia. Se uno volesse un po' divertirsi a ricostruire questi racconti, tutti sanno che Antiloco doveva essere ucciso dal re degli Etiopi e qualche fantasioso mitografo ci infila la storia del ricordatore. Allora Nestore disse a Calcon Kipariseus, ricorda mio figlio quello che gli deve avvenire, digli di stare attento all'Etiope. Ma il ricordatore si dimentica, si innamora, oppure chissà cosa gli capita, e l'evento sciagurato si verifica. C'è anche un altro bel racconto, è l'ultimo, di questi ricordatori, ce ne sono tanti. Perché un ricordatore lo aveva avuto anche Protesilao. Protesilao era un giovane eroe greco che si era appena sposato, Laudamia l'aveva sposato, Laudamia era una donna molto innamorata, molto bella. Però il povero Protesilao era partito per la guerra di Troia con questo vaticinio alle spalle. Lui morirà perché sarà il primo a toccare il suolo troiano. E allora il padre di Protesilao gli aveva messo accanto, ovviamente ormai lo sappiamo, un ricordatore, uno che doveva ricordare a Protesilao, guarda non scendere a Troia per primo, non fare il giovane coraggioso che per primo vuole scendere sulla terra nemica, fai scendere altro perché il primo che scenderà sul suolo troiano morirà. Il ricordatore si chiamava Tardano. Com'è? Com'è non è? Di nuovo questo Tardano si dimentica. Non ci fece attenzione, Protesilao sbarcò, Tardano era distratto e fu ucciso da uno che si chiamava Tardano, un guerriero troiano che era lì. E allora a questo punto ci viene un dubbio, ma questo ricordatore Tardano che poi cede il posto a un assassino che si chiama Tardano pure lui, ma chi è? Sembra in effetti in questo mito che il ricordatore sia un doppio dell'assassino, hanno lo stesso nome. Paradossalmente il ricordatore e l'assassino si identificano. Tardano non è a ricordare a Protesilao di non scendere perché altrimenti qualcuno l'avrebbe ucciso e guarda caso quello che invece lo uccide perché Tardano si è dimenticato si chiama Tardano anche lui. Qui c'è qualcosa sotto, evidentemente il racconto ha costruito un intrigo ambiguo che metteva il povero Protesilao nella rete, lui non aveva scampo. La morte di Protesilao è una delle morti più elegia, anche più struggenti della mitologia greca perché l'audamia, la giovane sposa non si rassegnerà mai alla morte del marito e anzi riuscirà a ottenere che il fantasma di Protesilao torni a trovarla, magari per pochi istanti, per rivederlo. Questo avviene ed è una scena terribile questo morto che viene su dall'ade, lei cerca di abbracciarlo e non ci riesce eccetera. Dopodiché muore per l'audamia, muore per il dolore perché non sopravvive a questo secondo distacco. C'è un'altra variante del racconto che l'audamia dopo la morte di Protesilao non si consolò col suo fantasma ma si consolò con la sua immagine, con una statua che lei si era costruita e che teneva addirittura nel suo letto, il che ci fa pensare che nella costruzione mitologica il fantasma di un morto o la sua statua siano un po' la stessa cosa e di questo però dovremo parlare in seguito. La povera l'audamia morì e la colpa fu di un ricordatore distratto o forse di un ricordatore corrotto, ambiguo, che era la stessa persona dell'omicida. È un po' di tempo che abbiamo abbandonato le orecchie e questo mi dispiace perché nella comunicazione le orecchie sono tanto importanti quanto la bocca, quanto la memoria, quanto le parole che sono un po' gli argomenti di cui ci siamo occupati nelle ultime sere. Io vorrei tornare alle orecchie con addirittura la glossa di un grammatico ma non vi preoccupate perché spesso i grammatici latini dicono cose estremamente interessanti. Allora, questo grammatico che si chiamava Festo, Sesto Pompeo Festo, a un certo punto fa una glossa, cioè spiega una parola strana e questa parola strana è fartores. Fartores, che sarebbe l'equivalente di farcitores, quelli che farciscono, lui dice si chiamano fartores, i nomenclatori, che senza farsene accorgere infarcivano i nomi di quelli da salutare nell'orecchio del candidato. E' una buffa metafora, no? Cioè il nomenclator, colui che chiama i nomi letteralmente, questo personaggio, questo schiavo che sta lì accanto al padrone e gli dice, oh, saluta quello che si chiama Gaio Pompilio, il nomenclator poteva anche essere definito fartor, farcitore, perché dice che infarciva le orecchie del suo padrone standogli lì accanto. E' una metafora che i latini usano spesso, farcire le orecchie, caricare le orecchie, per dire di qualche cosa che quell'altro, il farcito, diciamo, si deve ricordare, perché è questo il punto, no? Si farciscono le orecchie di qualcuno quando gli si dicono delle cose che l'altro deve tenere bene a mente. E' curioso che questi farcitori diventino un po' come dei salsicciai, come dei cuochi, perché fartor significa esattamente questo, colui che fa le salsicce o colui che fa il ripieno degli animali, dei volatili o quel che sia, che poi si fanno arrosto. Insomma, arriviamo alla conclusione che uno che fa ricordare è una specie di salsicciaio che rimpinza di ripieno le orecchie di qualcun altro. La cosa è molto strana, evidentemente c'è dietro qualche rappresentazione che ci sfugge. Per restare nel campo metaforico delle orecchie, piene o vuote, possiamo tornare in conclusione a uno di quelli simboli, quelle immagini animali che tante volte ci hanno accompagnato in queste serate. E' un animale che ci è familiare, la donnola, ne abbiamo parlato altre volte, la donnola che si diceva concepiva dalle orecchie e poi partoriva dalla bocca. In una raccolta di strane storie moraleggianti, morali, sugli animali, che si chiama il fisiologo, una raccolta medievale, tardo antica e poi medievale, si dice esattamente il contrario. Cioè, stavolta si dice che la donnola concepisce dalla bocca e partorisce dalle orecchie. Si sa, quando si prende la via della follia, poi è difficile fermarsi. E' interessante però la spiegazione che viene data. Questo che cosa significa? Significa, in termini cristiani, che ci sono alcuni che mangiano in chiesa il santo pane, ma appena usciti rigettano la parola dalle orecchie, simili alla donnola impura. Quindi la donnola che partorisce dalle orecchie, altro non è che un fedele, non molto fedele, che una volta udita la parola santa nella chiesa, poi la butta fuori dalle orecchie e quindi diventa resta, perlomeno resta, cattivo come era prima. Di nuovo, sembra che l'orecchio farcito, rimpinzato, che poi questa fattispecie si svuota, sia in qualche modo legata al ricordarsi. C'eravamo lasciati parlando di una curiosa metafora dei romani, quale dicevano che quando si voleva ricordare qualcosa a qualcun altro, gli si infarcivano le orecchie, che devo dire è un'espressione decisamente singolare. Perché gli si infarcivano le orecchie? Ma uno può pensare perché l'orecchio, si sa, il punto d'ingresso delle informazioni, uno gli dice, le pigia dentro, ne passeranno di più. In realtà, probabilmente non è così, come già sospettavamo. C'è dell'altro dietro a questa curiosissima metafora del comunicare facendo ricordare, infarcendo le orecchie. In questo senso viene in mente un altro episodio romano, abbastanza noto per chi ama la letteratura latina, ed è la satira di Orazio, la nona del primo libro, in cui lui incontra un garrulus, che in latino vuol dire un chiacchierone, un rompiballe, insomma un chiacchierone che parla troppo. È esperienza, come si sa, tra le più comuni nella vita di ciascuno di noi. Orazio ebbe il merito di immortalare questa esperienza, questo assedio del garrulus, il terribile chiacchierone che tutti i costi lo vuole torturare, vuole parlare con lui, vuole sapere la sua opinione su questo, su quell'altro vuole dire, vuole fare, eccetera. E il povero Orazio, che è anche un uomo di carattere un po' difficile, Orazio era sicuramente un depresso, uno che aveva un umore, come dire, non proprio stabile, eccetera. Di fronte a questo scocciatore, così si sente sempre più a disagio e finalmente quasi si sente perso, si sente finito, dice questa cosa non finirà mai o morirò sotto il cumulo delle parole di questo scocciatore, arriva uno che lo salva inopinatamente, una specie di divinità, qualcuno che è in lite con questo scocciatore e vuole trascinare in giudizio scocciatore, non ovviamente perché parla troppo, ma per qualche altro motivo, e dice ad Orazio, vuoi testimoniare? È la formula di rito. E Orazio risponde, io per parte mia gli porgo il lobo dell'orecchio. Strana scena, no? Perché uno chiede a un altro, vuoi testimoniare contro quello che mi è successo, cioè per quello che mi è successo con questo dizio? E l'altro invece di dire, sì sì, va bene, vengo, gli porge il lobo dell'orecchio. Siamo sempre nel mondo delle orecchie, delle strane metafore, delle strane abitudini sia linguistiche sia proprio culturali, riguarda questa parte del corpo umano. Ora, l'orecchio si sa che ha un ruolo di nuovo importante nella comunicazione, addirittura dicevamo, parlando di Plutarco e del suo libretto sulla loquacità eccessiva, che l'orecchio del chiacchierone, dice lui, che è collegato direttamente alla lingua, per cui parole entrano, escono e se ne vanno senza nemmeno sostare un attimo nella testa o nel cuore, insomma, dove potrebbero prendere il senso che a loro manca. Ma a parte l'importanza dell'orecchio nella comunicazione, qui c'è qualcosa di più e ce lo spiega l'antico commentatore di Orazio, il quale dice, colui che chiamava qualcun altro a testimone, gli toccava il lobo dell'orecchio e gli diceva, sei disposto a farmi da testimone? Perché Plinio, il solito Plinio che citiamo spesso, in queste questioni di vita quotidiana di Romani, Plinio ci dice semplicemente, il lobo dell'orecchio è la sede della memoria. Cioè, c'era una credenza romana specifica, secondo cui il lobo dell'orecchio è il luogo dove si conservano le informazioni, non semplicemente un punto da cui passano le informazioni o una parte dell'organo che raccoglie informazioni, no, il lobo dell'orecchio è il deposito delle informazioni. Questo spiega una quantità di cose interessanti, in primo luogo questo gesto del testimone che si impegna con l'altro porgendoli il lobo dell'orecchio, che cosa vuol dire? Tirami qui così poi io me lo ricordo, cioè mi impegno nella memoria a fare quello che tu mi chiedi di fare. Ma ci sono altre storielle romane, altri episodi che si rivolgono più o meno allo stesso campo di riflessioni sul lobo dell'orecchio. Non so, una volta Virgilio scherzosamente racconta la storia di lui che ha scritto un poema di carattere epico, allora viene Apollo e gli dice, ma vada, lascia perdere, tu non sei uno che scrive di queste cose, tu devi scrivere altra poesia. Dopodiché gli acchiappa l'orecchio, lo tira e lo ammonisce. Di nuovo l'ammonire va insieme al tirare l'orecchio. Ci eravamo detti all'inizio di questo ciclo di conversazioni che nella nostra cultura contemporanea la comunicazione è uscita un po' dal corpo umano e si è andata delegando di qua e di là, nelle biblioteche, negli archivi, nei libri, nelle leggende, nei computer, un po' dovunque, no? Mentre nel mondo antico, e più indietro si va meglio è, la comunicazione si concentra ancora molto nell'organismo umano. Adesso ne abbiamo un bel esempio, un esempio molto esplicito. Dove sta la memoria? La memoria dove sta? Sta nel lobo dell'orecchio. Cioè c'è un posto lì, fisico, in cui si raccolgono le informazioni da cui tutti questi gesti simbolici è il tirare il lobo nell'orecchio per far ricordare qualche cosa. Tanto per giocare un po' con le parole, ci ricordiamo ancora di questo modo di ricordare? Ovvero sia, per noi, il lobo dell'orecchio e soprattutto il tirarlo significano ancora qualcosa? Ma io penso di sì, perché spesso i gesti, i comportamenti simbolici si trasmettono per lungo tempo e resistono. Anche noi usiamo dire ti tiro le orecchie per che tu non faccia più una certa cosa. I bambini si tirano le orecchie, uno dice lo si fa perché fa male, quindi poi il bambino non lo fa più. D'accordo, sarà questo il motivo, però perché proprio le orecchie? Uno scapaccione, non so, uno sculaccione, anche questo potrebbe funzionare benissimo da questo punto di vista. Si tirano le orecchie, io penso proprio per il motivo per cui Apollo aveva tirato le orecchie a Virgilio per dirgli non lo scrivere più la poesia epica, ti tiro qui, perché è qui che stanno le informazioni e quindi è lì che io tiro. Io personalmente ho anche un sospetto che questo gesto per il quale non ho mai avuto particolare simpatia di tirare le orecchie il giorno del compleanno funzioni un po' allo stesso modo. Se ben mi ricordo, si tirano tante volte le orecchie quanti sono gli anni che il malcapitato o la malcapitata compiono, quindi quanti più anni sono, peggio è perché l'orecchio ti viene praticamente strappato. Questa è coincidenza, il numero esatto degli anni e la tirata delle orecchie, non vorrei che fosse proprio questa la spiegazione, ti faccio ricordare che tu oggi compi tot anni, per questo ti tiro le orecchie tante volte, è là dentro che tu hai la memoria. Plinio ci dà anche un'altra curiosa informazione, ci dice che se nel lobo delle orecchie stava la memoria, invece la vitalitas, insomma la vita, la vitalità delle persone stava nelle ginocchia, per cui dice quando le ginocchia si sciolgono, quando le ginocchia si allentano, allora vuol dire che la vita ci abbandona. Beh, è esistita, in parte esiste ancora tutta una anatomia, tutta una geografia corporale dei sentimenti, delle passioni, delle risorse spirituali, morali, materiali, eccetera, che noi abbiamo un po' perduto, ma che nel mondo antico era ancora più chiara, così il fegato era, ospitava certe cose, la bile ne ospitava altre. Tra un po' parleremo anche di occhi, di faccia, eccetera, dove stavano altre virtù. Adesso continuiamo però con l'orecchio, perché quando si cominciano queste cose poi non si finisce mai, in realtà questi eruditi antichi continuano a dare informazioni molto appassionanti, molto divertenti e anche molto stimolanti però che ti fanno pensare e Plinio ce n'ha subito dopo un'altra che vale la pena di riprendere. Questo viaggio tra la bocca, lingua, orecchie, comunicazione, parole, insomma tutta questa insieme, questa meravigliosa sfera di credenze, di miti legati alla comunicazione nel mondo greco-romano si è in parte concluso, perché abbiamo seguito le piste di Hermes, l'abbiamo visto lanciare la Kynan, che è il silenzio, la cappa del silenzio sui cani che non abbaiano più, abbiamo visto far cadere improvvisamente il silenzio nella conversazione, l'abbiamo visto invece stimolare il dialogo, il contatto, il rapporto, interpretare, insomma abbiamo visto muoversi attraverso un mondo che è fatto di organi del corpo umano ma anche fatto di tante altre cose e adesso forse comincerebbe a valer la pena di lasciare un po' il mondo della parola, abbiamo seguito finora il cammino della comunicazione attraverso le parole, adesso potrebbe valer la pena di cominciare a parlare di comunicazione, sempre in termini antichi, sempre nei termini della cultura greca e romana, di comunicazione attraverso le immagini, ma per passare dalla parola all'immagine, dal comunicare attraverso le parole al comunicare attraverso le immagini, ci sarebbe da tener conto che esiste un qualcosa che sta nel mezzo, questo qualcosa che sta nel mezzo secondo me è la faccia delle persone. In altre parole, noi comunichiamo attraverso le parole, attraverso il discorso, attraverso la lingua, noi possiamo comunicare attraverso immagini prodotte, attraverso immagini dipinte oppure attraverso i grafemi della scrittura, insomma una produzione nostra di segni, però comunichiamo anche attraverso la nostra faccia in primo luogo, i nostri occhi, i nostri lineamenti, la nostra espressione, attraverso tutto il modo in cui noi ci poniamo, oserei dire, comunichiamo attraverso il modo in cui noi ci poniamo come immagine alle persone, come siamo vestiti, come camminiamo, come ci atteggiamo, che gesti compiamo, come guardiamo, come alziamo il sopracciglio, come aggrottiamo la fronte, come la spianiamo, eccetera. Fra la parola e l'immagine ci sta, insomma, l'essere umano come immagine, quando l'essere umano decide di funzionare come immagine per comunicare e trasmettere informazioni ad altri. Per muoverci nel mondo della comunicazione antica, delle sue rappresentazioni, dei suoi miti, dei suoi racconti e delle sue credenze, ci siamo spostati dal terreno della parola, della lingua, della bocca, dell'orecchio, eccetera, al terreno delle immagini. Ma, come dire, ci siamo fermati, o meglio, avevamo promesso di fermarci a una stazione intermedia fra le due. La stazione è un po' bizzarra, penso, detta così, alla stazione del corpo umano e della faccia come immagine. Cioè, tra la persona che parla e l'immagine dipinta, scolpita o la parola scritta da qualche parte, c'è una via di mezzo, c'è un qualcosa nel mezzo ed è la persona che ha una faccia, che è un'immagine, che si presenta come un'immagine e come tale anche, in qualche modo, comunica. Il mondo delle facce, delle apparenze fisiche è un mondo molto affascinante perché, in realtà, questo è un mondo profondamente legato a un tema, oggi tra l'altro di grande attualità, ossia il tema della identità. Cioè, perché una persona è se stessa e non un'altra? Perché viene riconosciuta? Perché ha una certa faccia? Perché ha un certo fisico? Un certo modo di gestire? Alcuni tic? e via discorrendo. Cioè, come dire, l'aspetto visuale della persona, l'aspetto della persona come immagine è anche l'aspetto che definisce l'identità di quella persona. Come tale non può essere minimamente trascurato. Dunque, la faccia e il corpo come strumento di comunicazione. La domanda che ci vogliamo fare, sempre parlando nei termini dei greci e come vedremo ancora più dei romani, è che cosa diavolo vedevano i greci e i romani guardandosi in faccia? Cioè, come si vedevano l'un l'altro? E soprattutto, come dicevano quello che vedevano? Allora, i greci, quando volevano parlare dell'aspetto della faccia di una persona, usavano un termine molto esplicito, prosopon, che vuol dire letteralmente quello che io do a vedere. Perché questa radice ops, da cui ottica e tutte le altre parole che sono legate a questa radice, vuol dire proprio vedere. Quindi il prosopon è ciò che io do a vedere. La vista che do pros, che do a qualcuno, che metto a disposizione di qualcuno. In altre parole, guardandosi in faccia, i greci si vedevano. Vedevano qualcosa di visibile. Ora, so che la cosa detta così sembra un po' tautologica, non un po' buffa. Prometto che non lo è. Al momento in cui, invece, parliamo di quello che vedevano i romani. I romani, infatti, per definire la faccia, l'aspetto, non usavano delle espressioni di carattere visuale, non prendevano parole dal lessico della vista, ma ne usavano di altro tipo. In particolare ne usavano una, che è la parola os, oris, che vuol dire faccia in latino e che vuol dire anche bocca, però, da cui l'uso orale, l'oralità, eccetera, eccetera. Quindi, in altre parole, i romani, guardandosi in faccia, non vedevano qualcosa di legato alla vista, vedevano qualcosa di legato alla bocca. Vedevano delle bocche e attraverso la bocca disegnavano l'intera faccia. Cosa abbastanza singolare, perché uno si chiede per quale mai motivo la faccia si deve identificare con la bocca. D'accordo, la bocca è un pezzo importante della faccia, però, perché definire bocca l'intera faccia? Che cos'ha di così importante la bocca? Già i latini, i grammatici latini, avevano una spiegazione per questo. Dicevano che la bocca, os, oris, in realtà aveva a che fare con un'attività privilegiata del cittadino e dell'uomo romano, che è l'attività del orare, cioè del parlare, parlare in un modo organizzato, in un modo strutturato. Quindi la bocca è il luogo della parola. Eccoci che, attraverso la faccia, siamo tornati nuovamente al mondo della comunicazione. Dunque, guardandosi in faccia l'un l'altro, i romani vedevano delle bocche. Perché? Perché loro si parlavano e la parola era ciò che li definiva, che definiva la loro identità. Del resto l'azione della parola era quella dell'orator, era quella dell'orazio, era quella, insomma, dell'attività principe del cittadino, del senatore romano. Questo è molto interessante, perché mentre i greci si definiscono attraverso termini di visualità, il prosopon, eccetera, i romani definiscono la loro faccia attraverso la parola, cioè la loro faccia è una faccia parlante. È solo una faccia parlante? No. Qui scopriamo una cosa, che i romani, guardandosi in faccia, vedevano un sacco di cose, insomma, avevano una pluralità di modi di vedere e di parlare della loro faccia. Un altro modo, infatti, per definire la faccia per i romani è la parola vultus, da cui il nostro volto. Loro potevano definire la faccia sia osso-bocca sia vultus, ma cosa diavolo è questo vultus? Vultus è tutto un altro tipo di faccia. Non è più la faccia che parla attraverso la bocca, ma come ci viene detto spesso dai scrittori latini, il vultus è la faccia che comunica l'interiorità, cioè è la faccia che è una finestra, la faccia come un qualcosa che non si vede e che invece apre una specie di finestra, di spaccato, di apertura verso l'interno. Attraverso il vultus, dicevano i romani, si vedono i mores, si vedono i costumi, si vede la moralità, l'interiorità, l'aspetto morale dell'individuo. In questo senso il vultus è diversissimo dalla faccia bocca, non è più una faccia parlante, è una faccia muta, ma che ugualmente comunica. E come comunica? Beh, questo è un po' il punto della questione. Comunica in un modo che è particolarmente importante. Perché? Beh, perché nella presupposizione comune, siccome il vultus è una finestra aperta sull'anima, perché questo era il loro modo di definire il vultus, il vultus non mente. Attraverso il vultus emerge quello che sono i reali sentimenti della persona. Del resto, era già romana questo modo di dire, di pensare, secondo cui gli occhi, che sono una parte del vultus, sarebbero una finestra dell'anima. Quindi, insomma, da lì emerge l'interiorità. Ma allora che succede quando qualcuno finge dei volti, cioè dei vultus? Quando qualcuno simula il vultus che invece non dovrebbe avere, simulando in questo modo un'interiorità che invece è diversa. Beh, questo è considerato a Roma, abbiamo una testimonianza esplicita di Cicerone, una delle cose più turpi che si possono fare. Ma per forza, se l'espressione del viso, degli occhi, questo vultus, è ciò che comunica l'interiorità, senza schermi, senza mediazioni, quindi è proprio il luogo della sincerità. Se uno simula quello, è veramente un mascalzone totale, uno che non può essere giustificato. Il vultus deve dire la verità, ma paradossalmente, perché si sa che l'animo umano, il cuore umano, è complesso e ingarbugliato, è proprio il vultus quello che può mentire di più. Perché simulando la faccia come vultus, atteggiandola in un modo fasullo, diciamo, si simula la cosa più delicata, più preziosa, e quindi quella che deve essere più sincera, che sono appunto i sentimenti. Comunicavano solo con il vultus, con la faccia, i romani comunicavano, voglio dire, i loro sentimenti, i loro atteggiamenti? No. Per la verità c'è tutta una tipologia molto precisa di luoghi significativi della faccia e del viso, una tipologia che corrisponde abbastanza alla nostra. Per esempio, una parte importante della comunicazione facciale era riservata alla fronte. La fronte era il luogo attraverso cui si esprimeva l'ira, il corruccio, anche la serenità, la tranquillità, eccetera. Un altro luogo fondamentale per esprimere dei significati senza la parola erano le sopracciglia. Le sopracciglia erano il luogo in cui si poteva annidare, per esempio, la superbia. Anche noi, in fondo, si dobbiamo immaginare un superbo, lo facciamo con il sopracciglio un po' grottato, no? Un sopracciglio un po' grosso, perché è lì che stava superbo. I latini, infatti, definivano superciliosus, un tipo che si dà a molte ali, cioè un sopracciglione, insomma, che aveva questi ciglioni grossi. Ora, sia fronte che sopracciglio, assieme agli occhi, ovviamente, che sono il luogo principe del vultus, sono poi i luoghi che anche nella tradizione fisiognomica successiva svolgono il ruolo concentrano, diciamo, le capacità espressive e comunicative del viso. Io cito qui solo un esempio moderno, un esempio moderno rispetto alle cose di cui ci siamo occupati, perché è un esempio della fine del 1600, insomma, 1698, che è uno scritto di un grande pittore francese, che è il primo pittore della corte di preluigi XIV, il re Sole, il pittore si chiamava Charles Lebrun. Charles Lebrun, in una conferenza sull'espressione generale e particolare, insegnava, o meglio, spiegò come si manifestano i sentimenti, le affezioni dell'uomo attraverso la modificazione della faccia e usa un metodo che è decisamente di carattere strutturale, potrei dire, perché parte da una situazione di riposo e di tranquillità in cui tutti i lineamenti di questa faccia schematica tracciata sul foglio sono in riposo, e poi semplicemente ampliando l'arco del sopracciglio, intensificandolo, schiacciandolo, modificando la linea delle nari, eccetera, riesce a passare attraverso tutti i vari stadi delle affezioni umane, cioè l'ammirazione, lo stupore, l'attenzione, il disprezzo, eccetera, eccetera, fino poi a arrivare alla massima intensità di sentimento che è nel caso dell'ira, quindi dello sconvolgimento totale. La faccia è sempre comunicato allo stesso modo, sia presso i romani, sia nella Francia di Luigi XIV, sia sospetto ancora oggi, che poi i romani avevano un modo abbastanza singolare di impegnare il sopracciglio nell'espressività, ed era il seguente. Gli attori romani portavano la maschera, come gli attori del teatro greco, di conseguenza non c'era l'espressività visiva dell'attore, per noi è fondamentale, il bravo attore di teatro, ma soprattutto quello di cinema, se non ha una buona mimica facciale è meglio che cambi mestiere, invece l'attore antico concentrava la sua espressione sulla voce, però nella mimica facciale poteva pure fare a meno perché tanto aveva la maschera, però poteva capitare che anche la maschera in qualche modo dovesse esprimere delle cose, e questo soprattutto nel caso dei padri. I padri della commedia erano personaggi abbastanza schematici, che negli intrecci comici più o meno funzionavano così, lo dice Quintiliano, a volte erano arrabbiati, arrabbiatissimi con i figli, poi dopo tornavano in pace con i figli, poi si riarrabbiavano, insomma la figura del padre nelle commedie romane era abbastanza scialba, nel senso che questi erano dei genitori regolarmente ingannati dai figli che poi riuscivano a trionfare, anche perché avevano ragione loro, dato che questi padri erano solo dei rompiscatole, e poi alla fine li perdonavano. Per far questo l'attore disponeva, quello che faceva il padre, di una maschera, che aveva il sopracciglio destro, piano e tranquillo, e il sopracciglio sinistro invece curvato e esprimente ira, e poi si mettevano da una parte e dall'altra, insomma secondo l'uno o l'altro profilo, a secondo dello stato d'animo in cui si trovavano, se dovevano fare il padre arrabbiato si giravano dalla parte col sopracciglio curvo, se dovevano fare il padre tornato in pace si giravano dalla parte del sopracciglio piano. Oltre che con la faccia nel senso di bocca che parla, con la faccia nel senso di volto che trasmette informazioni interiori o di sopracciglio, di fronte, che ugualmente trasmettono le affezioni dello stato d'animo, i latini romani comunicavano anche con la nostra faccia. Faccia è una parola latina che infatti deriva dal latino facies, facies che vuol dire appunto faccia, esteriorità, espressione. Che cosa aveva la facies di diverso rispetto al vultus, al volto, rispetto alla faccia bocca dell'os? Beh, semplicemente questo. Dicevano i grammatici antichi, la facies è naturale, cioè quella ci viene data dalla natura, mentre il vultus no. Quello lo facciamo noi. In altre parole, il vultus è una creazione culturale, la facies invece è una entità materiale dalla quale non si può prescindere, uno ce l'ha e se la tiene. Naturalmente a quei tempi non esisteva la chirurgia plastica, estetica, altrimenti i grammatici avrebbero saputo che il naso si poteva cambiare, però allora queste cose non si facevano, la facies uno ce l'aveva e se la teneva. Che cos'ha di caratteristico la facies, oltre al fatto che uno ce l'ha e se ce la tiene. Anche questo, dicevano gli antichi, la facies non si può imitare, il vultus sì. Il vultus io lo posso imparare, il modo di esprimere l'interiorità di un altro, e qui come dicevamo sta il massimo della menzogna, della vergogna, perché uno simula l'interiorità e questo non va bene, ma la facies non la si può imitare, perché quello uno ce l'ha o non ce l'ha, è che si può diventare un altro, salvo, ecco, salvo casi di carattere mitico, e qui possiamo tornare a raccontare conclusivamente una storia. Ci fu un caso in cui qualcuno si prese la facies ad un altro, la faccia naturale ad un altro, e fu la volta in cui il dio Zeus, a Roma poi Jupiter, Giove, si innamorò della bella Alcmena, che era la moglie di Anfitrione, il re di Tebe. Allora, quello che Zeus fece non fu altro che prendere la facies, la faccia e l'aspetto fisico di Anfitrione, e così potesse soddisfare le sue voglie, i suoi desideri di amore con la bella Alcmena, la quale era perfettamente convinta di essere a letto col marito e quindi non si sentiva in colpa, nonostante fosse un'adultera. A questo, che è il mito greco originale, Plauto aggiunse un altro frammento di storia nella sua commedia Anfitrione, che è il raddoppio non solo di Anfitrione da parte di Giove, ma anche il raddoppio dello schiavo Sosia da parte del dio Mercurio, che è sempre il nostro Hermes, che è un gran briccone, quindi gli dèi lo adoperano anche per fare queste germinelle. Allora, Mercurio prese l'aspetto di Sosia, prese la facies di Sosia, perché lui era un dio, quindi lo poteva fare di prendersi la facies di un altro, si mise in faccia al povero Sosia e gli disse, guarda, tu non sei Sosia, Sosia sono io, tu vattene. L'altro lo replicava dicendo, no, ma come? Sosia sono io, sono io lo schiavo di Anfitrione. E l'altro giù Cazzotti, per convincerlo che lui non era più lui. Ma questi sono gli unici casi in cui si poteva prendere la facies di un altro, altrimenti la facies era per eccellenza il luogo dell'identità individuale dell'individuo, diciamo della persona. In altre parole, per restare nei nostri termini di comunicazione, la facies è il luogo fisico attraverso il quale un individuo comunica se stesso, è la sua carta d'identità, era il suo passaporto, le sue impronte digitali, diciamo, la facies. Io sono io e te lo dico attraverso questo naso, questa bocca, questi occhi, riconoscimi. Questo era l'invito che la facies si rivolgeva alle persone che la osservavano. Provate un po' a immaginare questa scena, una bella casa, una casa romana con dentro un bagno, il bagno che è la parte più intima della casa perché è nell'appartamento delle donne in questa sala. Dunque, in questa sala c'è una bellissima ragazza, sedici anni, un fiore, dice colui che ci descrive questa scena, che poi fra un momento vi dirò chi è un fiore. La ragazza è completamente nuda, ma sta lì senza nessun pudore, nonostante che di fronte a lei ci sia un ragazzo, tutto vestito in una maniera un po' bizzarra, con lo sguardo pudicamente a terra, ma fino a un certo punto. Esce il Lenone, il Lenone sarebbe il proprietario di questa casa che ora si intuisce essere un'antica casa di prostituzione. Esce il Lenone e raccomanda al ragazzo di stare vicino alla ragazza, stai pure con lei, anzi stai con lei da solo a sola. Che strana cosa, in genere si immagina che si badi al pudore delle fanciulle, oppure nel caso di una casa di prostituzione si badi ad altro, ma comunque si badi sempre a tenere la ragazza al riparo dai ragazzi. Invece in questo caso ciò non avviene. Che cosa è successo? È successo che questo ragazzo, il cui nome è Cherea, si è fatto passare per un eunuco. Ha raccontato al padrone di questa casa di prostituzione che lui è un eunuco e quindi, come dire, non costituisce un pericolo per le ragazze che ci sono dentro. Il ragazzo, Cherea, si è innamorato della fanciulla che ora sta contemplando, e potete immaginare con quanto desiderio, visto che è così bella, e si è fatto passare per un eunuco proprio per infilarsi in casa sua. Adesso sono lì e a questo punto succede una cosa che ci riguarda, perché entra in gioco un'immagine. Entra in gioco un'immagine che, come vedremo, avrà un significato dentro la storia, un significato importante e, così come altre immagini di cui parleremo, avranno ugualmente un significato comunicativo, di grande comunicazione. Ma andiamo avanti con la nostra scena, con il nostro racconto. Dunque il ragazzo Cherea è lì e sta contemplando la fanciulla, poi alza gli occhi e vede sulla parete che c'è un dipinto mitologico. Un dipinto mitologico che racconta la storia di quando Zeus, il sommo Dio che era anche, come è noto, un sommo adultero, si innamorò di Danae, una bellissima fanciulla, e penetrò nel suo grembo, avendo assunto la forma di una pioggia d'oro. Allora il ragazzo che cosa pensa? Beh, pensa questo, se l'ha fatto Zeus non posso forse farlo anch'io. Io piccolo uomo, dice, non avrei dovuto farlo. Insomma, anch'io l'ho fatto e volentieri. Quello che accade, potete immaginarlo, autorizzato da quella scena mitologica dipinta sulla parete, il ragazzo Cherea riuscì a soddisfare il suo desiderio. La scena che abbiamo raccontato è tratta dall'Eunuco di Terenzio. Dunque quel bel dipinto mitologico che sta sulla parete ha una funzione non solo ornamentale, ma ha anche, come dire, di autorizzazione. Il ragazzo vede quel dipinto di qualcuno che ha sedotto una donna contro la sua volontà e dice, se l'ha fatto Zeus posso ben farlo anch'io. Non solo autorizza quel quadro, ma se ci pensate un attimo, premonisce. È come se su quella parete fosse già dipinto quello che sta per accadere e che accadrà di lì a un momento. E questa è una delle funzioni che l'immagine dipinta, scolpita, disegnata ha spesso nella cultura e nella tradizione antica. È come se le immagini, che pure sono oggetti che già c'erano, resistevano, stavano lì su una parete oppure piantate sopra una base, queste immagini fossero capaci di anticipare gli eventi che seguiranno fra un momento, oppure fossero capaci di rivelare la verità profonda delle situazioni. Cioè, in una situazione c'è qualcosa che restava nascosto, l'immagine ha la capacità di rivelarlo. L'immagine dice la verità, l'immagine dice di più di quello che si vede. Posso fare qualche esempio abbastanza curioso. Per esempio, il pittore a pelle era in cattivi rapporti con Tolomeo. Una volta, per una tempesta, fu costretto a sbarcare nel porto di Alessandria, proprio lì dove abitava Tolomeo, che gli era antipatico, a cui lui era antipatico, si presenta un nano, un personaggio un po' ambiguo, e gli dice guarda che Tolomeo ti vuole a cena da lui. Povera pelle va, pensando che Tolomeo avesse cambiato idea nei suoi confronti. Quando Tolomeo lo vede, comincia a gridare e dice chi è che ha fatto venire a pelle a cena da me, io non lo voglio. A pelle disse, ma io veramente sono stato invitato. Chi ti ha invitato? A pelle si guardò intorno e non riuscì minimamente a vedere il nano, che evidentemente era un personaggio che era stato subornato dai suoi nemici per invitarlo a cena. Non lo vide, quindi non poteva dire stato quel nano, quello lì, che sta lì seduto vicino a te, Tolomeo. Però prese un carbone e si mise a disegnare sulla parete l'immagine di questo nano traditore. Lo fece così bene, così somigliante, che Tolomeo lo riconobbe immediatamente, il nano fu smascherato e a pelle ritornò in pace con il sovrano. Un'altra volta, perché questi pittori erano a volte un po' fumini, un po' vendicativi, il pittore Ctesicle, un altro celebre pittore greco, ebbe anche lui da litigare con la rogina Stratonice e siccome l'aveva trattato male, lui quando se ne andò lasciò il regno di Stratonice, dipinse un'enorme tavola in cui era rappresentata Stratonice che faceva l'amore con un pescatore, che tutti dicevano fosse il suo amante. Dopodiché prese la nave e se ne andò lasciando Stratonice svergognata. Quello che accadde fu che la regina Stratonice vide il quadro, si accorse che era talmente bello che disse, vabbè lasciamolo lì, e da quel momento in poi la tavola con gli amori di Stratonice e del pescatore rimase dove l'aveva messo il pittore Ctesicle. Altre volte le immagini rivelano e premoniscono sì, ma rivelano cose tristi e premoniscono il male. È quello che per esempio si ricava da una storia legata a Pompeo. Pompeo che si scontrò con Cesare in una lunga guerra e che alla fine perse tutto, perse se stesso, le sue ricchezze, il suo potere, il suo prestigio e fu decapitato dal sovrano d'Egitto su una spiaggia egiziana. Quando era ancora nel pieno fulgore del suo potere, della sua forza, durante un trionfo, fece sfilare in questo trionfo niente meno che una sua testa, che lo riproduceva perfettamente, tutta fatta di perle. Una testa tutta fatta di perle, che era un oggetto talmente lussuoso, talmente ricco, che Plinio il vecchio, quando racconta questa storia, se ne lamenta. Dice, beh, ma insomma, ma che vergogno, caro Pompeo. Fare il tuo volto di perle, una cosa così dispendiosa e riservata alle donne, perché le perle erano cose da donne, una cosa che non avresti potuto neppure indossare. Ma che ti viene in mente? In realtà, continua Plinio, bisognava considerare tutto ciò un segno crudele che manifestava l'ira divina. E già allora si doveva capire che quella testa veniva messa in mostra con le ricchezze dell'Oriente e senza il resto del corpo. Cioè, in altre parole, quell'immagine di perle che erano un simbolo di ricchezza orientale, quella testa tutta fatta di perle, altro non significava un giorno Pompeo perderà la sua testa in Oriente. L'immagine, ancora una volta, comunica, premonisce, come dire, fa presagire ciò che ancora deve arrivare. Qual è il problema? Il problema è che bisognerebbe saperlo in tempo, Pompeo non se ne accorse e quindi fece sfilare la sua testa, rischiando così di morire in quel modo che tutti sappiamo. La verità è che le immagini spesso sono più vere del vero. Qui vorrei fare appello anche a qualche proverbio, forse che non si dice di una bella cosa o di una bella donna pare dipinta o di un bel ragazzo, sembra un angelo dipinto. Mi ricordo certe canzolette popolari del passato della Toscana, tutti mi dicono che il tuo amore è finto e a me mi pari un angelo dipinto, così diceva questa canzone. Perché un angelo dipinto? Perché un angelo dipinto è un angelo perfetto, è un angelo bello. La pittura porta con sé la perfezione, la bellezza, l'autenticità. Come tale la pittura proprio per questo motivo può anche portare la verità dei fatti, rivelare ciò che è nascosto nel presente o anticipare ciò che avverrà nel futuro. Immaginate adesso che Enea, l'eroe del poema di Virgilio, il grande Enea, sia arrivato sulle spiagge di Cartagine. A Cartagine c'è Didone che sta costruendo la sua città, Cartagine non esiste ancora, Virgilio racconta una Cartagine, un passato che ancora non c'è, è un passato molto curioso, è un passato futuro in qualche modo, perché l'azione è spostata molti, molti secoli prima del tempo in cui Virgilio visse. Insomma, Didone è lì che sta costruendo la città, Enea arriva, è un povero naufrago che ha bisogno di tutto, è un uomo disperato, è sfuggito al saccheggio di Troia, al massacro dei suoi familiari, dei suoi concittadini. Finalmente vede questa straordinaria città che sta sorgendo, entra in un tempio e lì ha la più grande delle sorprese. Ha la più grande delle sorprese perché dentro il tempio è rappresentata già la guerra di Troia. Ci sono proprio i fatti più salienti di questa guerra, che in fondo si è conclusa da poco, perché Enea è sfuggito da Troia non molto tempo prima, eppure lì già si parla, non solo si parla di Troia, ma anche si descrive Troia, la si dipinge e dice il testo di Virgilio. E lui vide gli atridi e Priamo e Achille crudele per entrambi. A quel punto Enea si ferma e si mette a piangere e pronunzia un verso che tra l'altro torturerà, destinata a torturare per secoli e secoli gli esegeti, dice sunt lacrime rerum, esistono le lacrime delle cose, ci sono le lacrime delle cose, molto suggestivo. Ma non è di questo che vorremmo parlare, vorremmo invece continuare nel nostro racconto e mostrare Enea nel preciso istante in cui vede anche se stesso. Cioè lui alza gli occhi vede questo grande dipinto che narra i fatti più salenti della guerra di Troia e vede se è medesimo là nel mezzo. Mischiato, dice, ai principi Achei. Che cosa è successo? È successo una cosa molto paradossale. L'immagine di Enea dentro quel tempio è arrivata prima di lui, è come se il suo sembiante, il suo aspetto fisico fosse volato, avesse preso il volo e fosse arrivato sui lidi di Cartagine prima che ci arrivasse il suo proprietario, cioè Enea. In altre parole, la sua fama, la fama di Enea come un eroe troiano sfortunato ma coraggioso, si è già consolidata, polarizzata sopra quella parete nella forma della sua stessa immagine. Che le immagini potessero così circolare in un mondo in cui non esisteva la televisione, in cui non esisteva la possibilità di riprendere le immagini e quindi di metterle in onda e di spargerle in tutto il mondo attraverso un satellite, ecco che queste immagini potessero circolare a questo modo liberamente, beh, è molto singolare, ha qualcosa di magico. Di per sé, in un mondo in cui non esiste la capacità di fissare l'immagine e di impadronirsene, l'immagine non dovrebbe neanche circolare. Qualche critico pedante si è domandato questo, dice, ma come facevano lì a dipingere Enea se non l'avevano mai visto prima? Come ha fatto il pittore a conoscere Enea al punto di poterlo ritrarre, se in realtà Enea era lì, che vagava per i mari e nessuno di questi pittori cartaginesi lo aveva mai visto? Evidentemente sono domande ingenue di quelle che in letteratura non ci dovrebbero mai porre, perché significa porsi delle domande banalizzanti su delle cose che invece hanno il fascino del magico, dello straordinario, soprattutto il magico della libertà che lo scrittore si prende. Le immagini dunque vagano, vagavano nel mondo antico, così come vagano oggi, anche se in misura minore, e vagavano assieme a qualche cosa di cui nelle prossime puntate dovremo parlare. Vagavano assieme alla fama. Che cos'è la fama? Beh, la fama è esattamente quello che ha spinto le immagini degli eroi traiani, tra cui Enea stesso che sta lì e si contempla sulla parete, e ciò che le ha spinte, queste immagini, fino dentro Cartagine. Che cosa è successo? Si è parlato della guerra di Troia, se ne è parlato tanto, si sono sentiti tanti racconti, e dentro questi racconti sono rimasti avviluppate anche delle identità, delle persone, delle immagini, che in questo modo sono andati poi a un certo punto a polarizzarsi sulla parete. Qualche critico pedante potrebbe dire, ma siamo sicuri che Enea rassomigliasse al vero Enea? E chi lo sa? L'importante è che ci fosse qualcuno identificabile come Enea. E se c'era qualcuno identificabile come Enea, che cosa significa? Significa che la parola circola, e assieme alla parola circola l'immagine. Che cos'è la fama? Si dice la buona fama, la cattiva fama, che cos'è? Un sinonimo si dice della rinomanza, insomma quello che si dice o si sente dire attorno a una persona o a un certo fatto. La fama è un modo di comunicazione antico come il mondo, che ha molto a che fare con la parola, che ha spesso dei contenuti o dei connotati negativi, e che dal punto di vista linguistico e etimologico è connessa a un verbo, a una parola, che significa parlare. Quindi propriamente per i latini la fama sarebbe, tra virgolette, la parla, insomma ciò che va in giro parlando di. Non è semplicemente il pettegolezzo, quello che gli americani chiamano il gossip, perché quello è solo negativo, è solo corrosivo, è il dir male. La fama è ciò che costruisce l'immagine delle persone anche e soprattutto fra coloro che queste persone non le conoscono. Quindi è uno strumento fondamentale per la comunicazione umana e per la società umana. Oggi la fama viene costruita attraverso i grandi mezzi di comunicazione, la televisione, la radio, i giornali prima di tutto e poi gli altri di cui possediamo, i quali costruiscono delle identità, delle immagini, delle caratteristiche di persone che noi non abbiamo mai conosciuto, peraltro. Chi ci dice se il tale personaggio politico è veramente così simpatico o così antipatico? Lo avremmo sentito parlare se no una volta o due, però è la fama che ce lo ha costruito, sono appunto i mezzi di comunicazione. Un tempo, quando non esistevano questi strumenti, la fama si costruiva semplicemente attraverso il parlare attorno a qualcuno che veniva ascoltato da altri, a sua volta ripetuto, e così in una continua e infinita circolazione di notizie. I poeti antichi la fama se la immaginavano e questo forse è più interessante che non semplicemente parlare della fama, costruire una fama intorno alla fama, proviamo a costruire un'immagine della fama. La prima che ci viene in soccorso è costruita per noi, immaginata per noi da Virgilio. Virgilio sta parlando della regina Didone, la regina che si è innamorata di Enea e, poveretta, ha perso completamente la testa per questo personaggio, un po' triste tutto sommato, non certo un grande amante e forse neanche una straordinaria personalità di eroi che, come è noto, la lascerà. Ma adesso Didone è innamorata, i due si sono uniti in una grotta e, benché la grotta fosse dispersa in luoghi selvaggi, isolata e per di più questo amore si fosse consumato durante un temporale, com'è, com'è non è. A Cartagine adesso non si parla d'altro, la fama è esplosa e Virgilio ce la descrive. Ecco dunque la fama, fulminea fra tutti i mali, dice Virgilio. Possiede vigore di movimento e acquista forze con l'andare. La prima è piccola e timorosa, poi si solleva nell'aria e avanza sul suolo e cela il capo fra le nubi. La terra madre, incitata dall'ira contro gli dèi, la generò, dicono, ultima sorella a Ceo e a Encelado, veloce di passi ed infaticabili ali. La fama mostra orrendo, immane, di quante piume riveste il corpo sotto a tanti vigili occhi, mirabile a dirsi, tante lingue e altrettante bocche risuonano e orecchi protende. Di notte vola tra il cielo e la terra nell'ombra, stridendo, e non chiude gli occhi al dolce sonno. Di giorno siede, spiando, sul culmine d'un tetto o su alte torri e sgomenta grandi città, tenace messaggera, tanto del falso e malvagio quanto del vero. Eccola qua, la fama, un mostro orrendo, mostruoso, piena di penne, piena di occhi, piena di lingue, da tutte le parti, è una, come dire, una mostruosa macchina di parole, macchina che non è una macchina, perché è un mostro, è un animale, chissà che cos'è, una specie di titano, da quello che Virgilio ci dice, la fama di lei, diceva Isiodo, bisogna aver paura e in effetti è vero. Se la fama è un mostro di cui bisogna aver paura, di cui bisogna aver terrore, e come Virgilio ce la descrive, in effetti è veramente terribile. C'è però un aspetto che vorrei non fosse dimenticato, e Virgilio lo dice, la fama è, non se è infaticabile, del falso, però anche del vero. Come dire, la fama fa paura, la fama è malvagia, la fama distrugge, però anche, dice la verità, la fama quindi è un modo per comunicare, non solo per ingannare. Senza la fama le cose non si saprebbero, soprattutto in un mondo in cui non si scrive, sostanzialmente, in cui non esistono i giornali, in cui non si vede la televisione, non si ascolta la radio. Come faccio io a sapere le cose? Attraverso la fama. E anche, come faccio io non solo a conoscere i fatti ovvi, quotidiani, ma persino quelli remoti? Che ne so, come faccio io a sapere come sono fatti gli egiziani, se sto a Roma? Per fama, l'ho sentito dire, e questa è la mia fonte di conoscenza. Ecco perché la fama è così potente, perché in realtà monopolizza, contiene in sé tutto quello che non solo si sente dire, ma tutto quello che si può conoscere. Di descrizioni della fama, belle descrizioni della fama, per la verità ce ne abbiamo anche un'altra che forse, come dire, è meno terrificante, però è ancora più attuale di quella che ci dà Virgilio. Ce la dà Ovidio, descrivendoci niente meno il luogo in cui la fama abita, il luogo in cui si vive, vivono le notizie, vivono le comunicazioni. Ovidio ha questa straordinaria capacità di inventarsi anche i posti, oltre ai personaggi, e allora lui dice, tranquillo, tranquillo, c'è un luogo al centro del mondo, che sta fra terra, mare e cielo, proprio al confine fra i tre regni. Da quel punto si coglie qualunque cosa, dovunque avvenga, anche se lontanissimo, e ogni notizia arriva a orecchie pronte a riceverla. Qui abita la fama, che si è scelta una casa in cima a un picco, dotata di mille accessi e mille fori, senza porte, così rimane aperta notte e giorno, è fatta interamente di bronzo risuonante, e vibra ogni voce che percepisce e la riecheggia. Non si dorme lì dentro, e non c'è silenzio in nessun angolo, anche se non è un grande clamore quello che si ode, ma discreti sussurri, simili allo sciabordio delle onde del mare da lontano, o allo strascico del brontolio del tuono. L'atrio della dimora è gremito, è una folla anonima, che va e viene, mille voci vere, confuse e diffuse, con le false, che mormorano parole indistinte. Fra queste, alcune rovesciano lunghi discorsi in orecchie ben disposti a riceverle, altre ascoltano e riferiscono altrove quel che hanno raccolto da precedenti narrazioni, e le invenzioni crescono senza ritegno, perché ognuna, ripetendo un racconto, vi aggiunge qualcosa di suo. La casa della fama, come Ovidio ce la descrive, è spaventosa, ma anche abbastanza naturale. Provate a immaginare l'equivalente moderno di un luogo in cui, come dice Ovidio, si coglie qualunque cosa, dovunque avvenga, anche se lontanissima, e ogni notizia trova orecchie pronte a riceverla. Questo luogo è sicuramente la redazione di un giornale, oppure gli studi della televisione, esattamente questo, un luogo dove ci sono sempre persone pronte a raccogliere notizie in cui si capta tutto. E poi una casa dotata di mille accessi e mille fori, senza porte, questo è un insieme di monitor in cui le notizie entrano ed escono, le immagini passano, corrono, si intrecciano, rimbalzano, poi un luogo dove non si dorme, inutile dire che non si dorme mai dove si scambiano e si miscelano le notizie. Infine un atrio di questa rimora, un atrio così gremito, una folla anonima che va e viene, voci vere, voci false. Eccolo qua, la metafora forse più bella che esiste della moderna comunicazione, moderna comunicazione però che Ovidio molto esattamente legava a un personaggio che appunto chiamava la fama. Posso aggiungere che assieme alla fama, secondo lui, vivevano anche la credulità, l'errore, la gioia inconsistente, i timori, la sedizione e i sussurri. Non aveva un buon concetto della fama, evidentemente Ovidio, eppure anche lui doveva rassegnarsi all'idea che dentro la circolazione continua della fama stanno certo gli errori, gli inganni, la credulità, ma stanno anche le verità. E questo è il modo in cui le notizie si trasmettono e si combinano. La fama è dunque un mondo fatto interamente di parole, fatto di parole come ci dice l'etimologia stessa di questa parola fama che appunto deriva dal verbo forfaris in latino che significa parlare, dire. Che voce è quella della fama? I poeti ci danno una rappresentazione mitologica, ne fanno un mito di questa fama. Altri, nel mondo antico, si interessarono invece di capire meglio come funzionasse la fama e come andasse descritta. La considerano male, soltanto male, come una forma di pettegolezzo, di discorso corrosivo, come una cosa da estirpare, da far tacere? Niente affatto. E questa forse è già una prima piccola sorpresa. Quando si parla della fama a Roma, si dice contemporaneamente che la fama va male, che la fama è inattendibile. Perché? Perché manca, come si direbbe oggi, una fonte autorizzata. Non si può citare la fonte della fama. La fonte della fama è il sentito dire. Chiunque riporta una cosa ascoltata per fama non può che dire io a mia volta l'ho sentita dire da qualcun altro e se si va da questo qualcun altro lui ancora dirà ma anch'io l'ho sentita dire. E questo è il male della fama. Non c'è, come direbbero i latini, un auctor, uno che ne è responsabile. Però contemporaneamente questi antichi retori, in particolare quintiliano, che si occuparono della fama, dicevano alcuni considerano la fama una forma di pubblico consenso e quindi una forma anche di testimonianza, che può essere utilizzata tranquillamente in tribunale. È l'altra faccia della fama. Da un lato uno dice è un discorso screditato, non ci credo, non lo posso accettare e prendere sul serio perché non posso citare la fonte. Dall'altro però si dice anche ma lo dicono tutti e se lo dicono tutti forse ci sarà un fondamento in questo discorso, forse sarà vero. Prendiamolo sul serio. Ecco perché addirittura in tribunale si poteva citare la fama di una persona, ciò che si sentiva dire intorno a un certo fatto o una certa persona, come una prova, una prova perlomeno del fatto che c'era un consensus intorno a quella notizia o a quel modo di giudicare o vedere una persona. L'antico proverbio dice vox populi vox dei, voce del popolo, voce di Dio. Che cos'è la vox populi? La nostra amica, è sempre lei, la fama. Che stavolta in questo proverbio, che è un proverbio medioevale, viene paragonata a niente meno che alla voce di Dio. Qui si va piuttosto avanti nel giudicare positivamente la fama. Se Quintiliano diceva, beh, può essere considerata una forma di consenso della comunità, se lo dicono tutti, vuol dire che qualcosa di vero ci sarà, adesso niente meno la fama è diventata la voce di Dio. Ma che strano, perché la fama, il sentito dire, può essere considerata addirittura la voce della divinità? Non è semplicemente perché a volte dietro le parole che gli uomini pronunziano stanno, come dire, inascosti i disegni della divinità, che il Dio può parlare attraverso la voce di qualcuno, un bambino, oppure una persona ignara o innocente. No, qui c'è qualcosa di più. È qualcosa di più che ha a che fare proprio con questo modo del parlare pubblico. Che cos'ha il parlare pubblico che lo rende contemporaneamente così screditato, ma anche così divino, così vox populi? Beh, è proprio la contraddittorietà insita nella fama. Il fatto che da un lato tutti ne parlano, dall'altro non si può dire che abbia detto per prima quella certa cosa, cioè dove abbia il fondamento. Questo circolare delle notizie, questo diffondersi, questo dilagare delle notizie, fino alla creazione di una fama, di un consenso, di persone che dicono tutti, sì sì, è stato lui o un mascalzone, oppure quei due fanno l'amore di nascosto. Ecco, questo dilagare della notizia improvvisamente assume agli occhi di una comunità l'aspetto dell'eccezionale, del divino. Cioè se tutti lo dicono, come mai tutti lo dicono? Come mai tutti sono così d'accordo su qualche cosa che in realtà non si riesce ad accertare. È paradossale questo, come dire, il fatto che l'autorevolezza possa essere fondata sulla non autorevolezza, sul fatto che non si sa di preciso su che cosa si fonda una certa notizia. Del resto, non vorrei esagerare né riportare il discorso all'attualità, ma insomma penso che lo si possa fare. Anche noi non diciamo sempre è vero perché, perché l'ho visto alla televisione. Cioè, come dire, il fatto di comparire in televisione è ancora per noi così magico, così straordinario, così sovrumano, che se è stato detto lì deve essere vero o deve essere buono per forza. È esattamente quello che facevano gli antichi quando dicevano Vox Populi, Vox Dei. La fama era divina, tanto quanto per noi è divina oggi la televisione. Voci. Vorrei parlare ancora di voci, voci che emergono, voci che arrivano, voci che si ascoltano, voci che non si sa di preciso da dove provengono e che come tali sono molto più impressionanti, molto più autorevoli delle voci che si possono accertare. Ma non sto parlando semplicemente di voci nel senso di cose raccontate o udito delle voci o cose del genere. No, proprio di voci, emissioni vocali che possono provocare effetti sconcertanti. Ce n'è una, di cui ci parlano sempre i romani, che lì per lì può non sembrare sconcertante, invece lo è, e i romani giustamente la consideravano tale. Allora, la storia è la seguente. L'erudito romano Varrone ci dice che quando un bambino emetteva la prima voce dotata di senso, questo è importante, cioè non un balbettio qualunque, ma una voce che rassomigliava a pappa, babbo, mamma o quel che sia, quando il bambino dunque emetteva la prima voce significabilis, come dice lui, la prima parola dotata di senso, si diceva iam fatur, questo bambino ormai parla. Ma era un parlare con questo verbo così solenne, for faris, il verbo che si usava per indicare il linguaggio profetico, quello degli indovini o quello dei sacerdoti, lo stesso verbo che si usava per indicare la fama, questa voce pervasiva che circola, che alcuni identificavano con la divinità, e che è abbastanza strano ritrovarlo usato per indicare che un bambino ormai parla. Varrone continuava dicendo è per questo che quando i bambini non parlano si chiamano infanti, infantes, cioè coloro che non parlano, che non hanno la capacità di fare. Quando sono usciti da questo stadio della infanzia, della non capacità di parlare, della non parlabilità, allora si dice iam fatur, ormai parlano, possono emettere voci dotate di senso. Ma che cos'è questo parlare del bambino, questo emettere una voce dotata di senso? Un parlare, come dire, simile a quello dei nostri bambini? Sì e no, nel senso che anche per noi un bambino che per la prima volta dice una parola dotata di senso fa una notevole impressione, c'è poco da fare, come per chi ha avuto o ha dei figli, la prima volta che il bambino o la bambina pronuncia una frase o una parola che sembra dotata di senso, beh è un grande momento, insomma come quando cominciano a camminare, ma forse anche di più. Per i romani la cosa doveva essere però in realtà ancora più profonda e più, come dire, più magica, più delicata. Perché? Perché dietro la prima parola del bambino si annidava qualcosa che noi non mettiamo più dietro alla parola del bambino, cioè un dio. Si racconta infatti che quando i bambini pronunziavano questa loro prima parola, mitica prima parola, si facessero anche dei sacrifici a un dio dal nome abbastanza buffo, si chiamava Fabulinus o Farinus. Vorrebbe dire letteralmente il dio della fabula o il dio del parlare, il dio del dire, che era quello responsabile della prima parola pronunziata dal bambino. La cosa non è sorprendente perché in realtà i romani, soprattutto quelli più antichi, avevano una serie di divinità che, come dire, servivano un po' a tutto. I momenti più significativi della vita di una persona avevano un dio che li rappresentava, quindi c'era un dio per quasi tutte le attività agricole, quando si zappava c'era un certo dio, quando si sarchiava ce n'era un altro, eccetera. Ma c'erano anche delle divinità per i singoli stati fisici delle persone, quindi c'era un dio del rapporto sessuale, un dio che significava il momento in cui la donna restava incinta, c'era, non lo so, un dio dei flussi mestruali, si chiamava Fluvionia, era una dea ovviamente, insomma queste cose se ne occupavano le donne. E così, dato che c'era un dio per tutti, c'era anche un dio per la prima parola pronunziata dal bambino, Farinus o Fabulinus. Ascoltando questa parola allora, il romano non aveva l'impressione di ascoltare semplicemente la prima parola di suo figlio, aveva l'impressione di ascoltare il dio Farinus o Fabulinus che parlava dietro di lui, o meglio, da dentro lui. Ecco perché questa prima parola pronunziata dal bambino veniva solennizzata così tanto. Posso aggiungere che queste prime parole dei bambini a volte erano straordinariamente potenti, come dire, dipendeva un po' da chi le pronunziava queste prime parole. Si racconta per esempio che il piccolo Ottaviano, futuro Augusto, fondatore, come è noto, di un grande impero, quando cominciò a parlare per la prima volta, si trovava nella villa suburbana della sua famiglia e con questa prima parola che pronunziò dette ordine di tacere alle rane che gracidavano intorno. Probabilmente emise qualche borbottio, qualche fischio del genere, tache, tachete, ossile o cose del genere, per cui fu preso come un ordine alle rane perché tacessero e per questo motivo si dice che da quelle parti le rane non gracidano più. La voce di Ottaviano risultò così potente, così magica, probabilmente perché lui era Ottaviano, come dire, la sua biografia fu scritta tanti anni dopo quando lui era diventato imperatore e persino i suoi primi valbetti assunsero un significato straordinario che indicavano il potere superiore di quest'uomo destinato a governare il mondo allora conosciuto. Ma probabilmente non è solo perché lui era Ottaviano che la prima parola pronunziata dal bambino risultò così potente e significativo. Il fatto è che paradossalmente la prima parola del bambino rassomiglia alla parola pubblica, alla parola della fama, nel senso la parola pubblica ha il suo potere proprio in questo fatto che da un lato c'è qualcuno che la dice direttamente e lì lo si ascolta, dall'altro però si sa che lui sta riferendo una parola che viene da altri, viene da altrove, forse viene addirittura dalla divinità. E' questo conflitto tra l'esserci una persona lì viva e presente che parla e un discorso che invece ha una fonte che è molto più vasta, sconosciuta, forse divina, che dà il potere, che crea il potere della parola pubblica che circola. Allo stesso modo anche l'umile, come dire, ingenua, semplice, prima parola del bambino ha però dalla sua questa potente ambiguità. Da un lato c'è un bambino lì che pronunzia papà, mamma o quel che sia, dall'altro si sa che dietro c'è un dio, Farinus o Faulinus, che quella volta parla attraverso il bambino. In questo contrasto, in questo conflitto, in questa ambivalenza della parola che insieme parola umana e parola divina sta lo straordinario, potere della prima parola pronunziata dal piccolo Ottaviano. Come nascono le parole, si sa, escono da una bocca, sono articolate da una lingua. Gli antichi pensavano, a volte forse avevano ragione, che dietro questa bocca, questa lingua, ci fosse un dio che parlava attraverso di esse. Ma come nascono le immagini? Come nasce l'altro strumento di comunicazione per eccellenza che gli uomini hanno, il loro potere di cui gli uomini dispongono? La risposta è abbastanza semplice. Come nascono le immagini? Basta mettersi lì, dipingere, scrivere, disegnare. Ma questa sarebbe la nostra risposta, una risposta legata all'idea di una tecnica, una tecnica che si apprende, che si riproduce, che si perfeziona, dopodiché si creano delle immagini che sono capaci di comunicare. Questa è la nostra risposta, ma la risposta della cultura antica non era semplicemente questa, era anche una risposta di carattere mitico, il che significa che ci troviamo nella necessità di raccontare un'altra storia. È la storia, assai bella e un po' commovente, di come per la prima volta qualcuno creò un'immagine. Siamo a Corinto. A Corinto c'era un vasaio, il cui nome era Butade, per la cronaca, il vasaio aveva una figlia. La figlia del vasaio, beh, sembra un po' un raccontino veristico. C'era una volta un vasaio che aveva una figlia, ma non è così, anzi, un racconto tutt'altro che veristico. La figlia si innamorò, e qui ancora continuiamo con l'apparente verismo del racconto, si innamorò di un ragazzo il quale a un certo punto decise di lasciarla. La ragazza era disperata, piangeva. Il padre, beh, si trovò evidentemente di fronte a un conflitto. In genere dicono che i padri sono gelosi delle loro figlie e quindi si potrebbe pensare che Butade fosse segretamente contento del fatto che la figlia era stata lasciata dal fidanzato. Questo non accadde. Il padre, invece, si schierò dalla parte della figlia, soffriva con lei, e siccome era un bravo vasaio, uno che aveva l'arte della plastica, aveva l'arte del plasmare, escogitò un trucco per consolare la figlia. Dunque la figlia si recò la notte nel luogo dove dormiva il fidanzato, che il giorno dopo sarebbe partito. Portò con sé una lucerna, illuminò il viso e la silhouette del fidanzato dormiente con questa lucerna e proiettò sul muro l'ombra del ragazzo che dormiva. Allora, silenziosamente, la ragazza con un carbone riprese questa silhouette, tracciò questa silhouette. Potremmo anche dire la rubò, rubò l'immagine al fidanzato che dormiva. Dopodiché spense la lucerna e se ne andò. Il giorno dopo il ragazzo partì, la ragazza era ovviamente disperata, Butade, il padre, il vasaio, si avvicinò a quella silhouette e la rilevò e da lì fu capace di estrarre la prima immagine in assoluta mai creata. È il mito di fondazione, il mito di origine delle immagini che dice una cosa molto precisa sulla natura, oltre che sulla nascita delle immagini. Il primo punto è le immagini nascono per riempire un vuoto, quindi per colmare un'assenza. Il secondo punto è le immagini hanno a che fare con le ombre. Le immagini hanno a che fare con le ombre perché ce lo dice il dito, perché la prima immagine in assoluta fu costruita rilevando un'ombra. Ma se così è, se le immagini sono parenti delle ombre che proiettiamo sui muri, qual è la conclusione che possiamo trarre? È questa, che in realtà le immagini contengono, come dire, sono capaci di trasmettere, di veicolare anche un po' della persona che riproducono. Non sono semplicemente dei doppi, delle costruzioni del tutto estranee alla persona che rappresentano, no, perché c'è di mezzo l'ombra, l'ombra è un pezzo della persona fisica che viene riprodotta e se un'immagine è copiata sull'ombra vuol dire che dentro quell'immagine c'è un po' di quella persona. Ecco perché la figlia del vasaio Butade riuscì a consolarsi della perdita del proprio fidanzato, perché aveva un'immagine che tutto sommato dentro di sé aveva anche un qualcosa della persona che aveva perduto. Ma il fatto che l'immagine sia consolatoria è forse ancora più interessante. Questa è una spiegazione, devo dire, molto attraente del perché si sente il bisogno di costruire immagini, di fare immagini, perché le immagini servono a rimpiazzare le persone che non ci sono. Il nostro mondo che è così pieno, così ricco di immagini, a volte mi viene il sospetto che lo sia proprio perché noi abbiamo un gran bisogno di rimpiazzare ciò che non abbiamo o che non abbiamo più. Oggi siamo poi estremamente fortunati rispetto al povero Butade, invece che di un'ombra, di un pezzo di carbone e di un po' di argilla noi disponiamo della macchina da presa di straordinari archivi che ci permettono di tirare fuori immagini di persone, di paesaggi, di oggetti, di cose ormai totalmente dimenticati, scomparsi e con questi in qualche modo colmare l'assenza che a volte percepiamo con dolore di queste cose e di queste persone che non ci sono più. Siamo addirittura capaci di inserire queste immagini di archivio, immagini di persone passate, scomparse, dentro nuove produzioni, nuove immagini, nuove sequenze per cui mescoliamo il vivo al morto, il passato al futuro, al presente, eccetera, in una maniera che sicuramente avrebbe creato spavento presso i nostri antenati, i quali però sostanzialmente avevano già capito come funzionava il mondo delle immagini. Funzionava rubando qualche cosa a chi ne è inconsapevole per consolare, riempire l'assenza di altri che di quella persona sentono la mancanza. Protesilao era un guerriero greco molto giovane che era partito per la guerra di Troia. Un oracolo gli aveva detto che era meglio se stesse attento perché il primo che fosse sbarcato fra i greci sul suolo troiano sarebbe morto. Il povero Protesilao era lui, il prescelto. In realtà il destino aveva già stabilito come sarebbero andate le cose, ma lui non lo sapeva e per aumentare il dolore suo, ma anche nostro, quando sentiamo raccontare questa storia, bisogna sapere che si era appena sposato. Aveva sposato una ragazza di nome Laudamia, che di lui era molto innamorata e lui ne era altrettanto innamorato. Dunque Protesilao arriva a Troia, scende per primo sul suolo troiano, ignorando l'oracolo che aveva ricevuto e muore. Laudamia non seppe mai consolarsene, cominciò a struggersi di amore per quell'assenza e addirittura si racconta che il dio della morte, commosso da questo continuo pianto, da questo dolore continuo di Laudamia, gli permise al fantasma di Protesilao di tornare a trovare la moglie innamorata solo per pochi secondi per poi tornarsene nel mondo dei morti. Secondo alcune versioni del mito, Laudamia morì di lì a poco, però ce n'è una che ci interessa di più perché si torna qui a parlare di immagini. Immagini che non solo comunicano, ma immagini che, come abbiamo detto anche prima, anche in passato, sostituiscono e rimpiazzano. Dunque, il racconto di Protesilao e Laudamia andava anche in questo modo. Sembra che Laudamia fosse rinchiusa in casa sua, che soffriva, ma a un certo punto il padre si accorse che non usciva più di camera. Voleva, pretendeva che il cibo, le bevande le fossero portate in camera. Non usciva, non accettava nessun invito, nessuna sollecitazione. Il padre non era di quei padri buoni come Butade, il padre della ragazza di Corinto, per la quale aveva fatto il ritratto del fidanzato che se n'era andato. Era anzi un padre di quelli antipatici, un po' gelosi della figlia, un po' ostili alla figlia, un padre autoritario si direbbe oggi, che non accettava l'idea che questa figlia si rinchiudesse in camera così. E cominciò a concepire dei sospetti. Arrivò a pensare che avesse addirittura un amante che faceva entrare di nascosto e quindi andò a spiarla. Si accorse che l'audamia teneva nel letto una statua. Una statua di cera che riproduceva perfettamente le sembianze del marito morto. Si era fatta fare un'immagine del povero Protesilao e la teneva nel letto per confortarsi come poteva con quell'immagine. L'immagine, di nuovo, non solo comunica qualche cosa, trasmette delle sembianze o delle rassomiglianze, ma veramente sostituisce a tutti gli effetti l'originale che non c'è più. Quel padre, lo dicevo, era piuttosto cattivo, fece prendere la statua di cera e la fece bruciare. L'audamia naturalmente morì di dolore nel vedere per la seconda volta il suo Protesilao scomparire, non più nel mondo dei morti stavolta, ma disfacendosi nella cera della statua gettata nel fuoco. Ovidio, che racconta anche lui la storia di Protesilao e l'audamia, come sempre ha una bella espressione per definire che cosa sta succedendo. Parlando del ritratto di Protesilao che l'audamia teneva con sé, lui dice, quell'immagine vale di più del suo sembiante, vale di più del suo sembrare. Cioè, un'immagine vale per quello che sembra, per quello che comunica, per quello che trasmette, per il modo in cui appare. Però, nel caso di l'audamia, l'immagine valeva di più di quel che sembrava. Perché? Perché al di là del comunicare le fattezze di Protesilao, era Protesilao per l'audamia. E questo ci fa entrare in un campo di immagini leggermente inquietanti, di cui però vale sicuramente la pena di parlare. La più celebre storia di immagini che rimpiazzano qualcuno è probabilmente quella di Alcesti e di suo marito Admeto. È un mito greco, anche questo, che fu poi trattato in una tragedia di Euripide e la storia molto semplice è questa. Admeto deve morire, di questo abbiamo già parlato molte puntate fa. Admeto deve morire, è condannato, ma il dio Apollo che lo protegge gli dice, guarda, se vuoi io posso farti questo favore, non posso risparmiarti la morte, ma ti posso permettere di scambiare la tua morte. Se trovi qualcuno che muore al posto tuo, io accetto questa sostituzione. Farò in modo che anche il dio dei morti accetti questa sostituzione. Admeto, vada la madre e gli dice, tu che mi hai dato la vita, vorresti adesso, in un certo senso, darmela una seconda volta, morendo per me. La madre dice no. Vada al padre, gli chiede la stessa cosa, il padre pure gli dice no. Finalmente la giovane moglie Alcesti dice, io morirò per te. Ti amo talmente, ti voglio talmente bene che accetterò di morire al posto tuo. Così avviene, Alcesti muore e Admeto si consola appunto con una immagine. Si fa costruire una statua perfettamente identica alla moglie morta, la tiene nel letto e con lei si consola. E immaginando questo momento che già, come dire, prevede nella sua testa, subito prima che la povera Alcesti muoia, le dice guarda io non vorrò mai nessun'altra donna. L'unica donna che vorrò sei tu e la vorrò nella forma di questa statua che terrò nel mio letto, con la quale mi consolerò, a cui rivolgerò parole d'amore, parole dolci e nessun'altra donna mi avrà mai nelle sue braccia. Questa volta l'immagine non solo comunica un ricordo, un'immagine, un viso, un volto, un corpo che non ci sono più, non solo li rimpiazza effettivamente perché sta nel letto, ma addirittura funziona nella forma di una promessa. Prendere un'immagine, tenerla con sé e dire io sarò sempre attaccato a questa immagine, non vorrò mai perderla, in qualche modo equivale a dire io ti sarò fedele. A volte non si pensa che tenere un'immagine nel portafoglio o una fotografia sulla scrivania o appesa al muro ripete in qualche modo il gesto di amleto. Ma che cosa significa quando qualcuno tiene un'immagine di un altro nel portafoglio o sulla scrivania? Significa io non ti ho dimenticato, significa io ti sono ancora fedele, significa io ho ancora un patto con te e questo patto intendo onorarlo. La fotografia nel portafoglio o l'immagine appoggiata sulla scrivania le potremmo proprio definire il gesto di admeto. Siamo tanti admeti quando facciamo questo. Lui lo fece nella maniera diciamo nobile, solenne, un po' misteriosa, magica del mito, facendosi addirittura costruire una statua in bronzo infilandosela nel letto. Noi, moderni o non moderni, molto più modestamente, ci limitiamo a tenere una piccola immagine con noi o nel luogo dove abitiamo. Però ugualmente attraverso il conservare quell'immagine noi proclamiamo a quella persona ti siamo ancora fedeli. Che le immagini esprimano fedeltà del resto basterebbe a dimostrarlo l'uso di erigere delle statue nelle nostre piazze, lo stesso uso che avevano gli antichi, i greci, i romani, i quali ugualmente erigevano delle statue nelle loro città o nelle loro piazze. Che cosa significa erigere una statua a qualcuno? Ma sicuramente significa onorarlo, ritenerlo degno di essere riprodotto, il che significa dargli uno statuto superiore a quello di una persona normale. Ahimè, non tutti siamo degni di essere riprodotti in statue e piazzati in una piazza che porta il nostro nome. Ma oltre a questo c'è qualche cosa, c'è un significato antropologico più profondo. Ammettiamo che alla fine del secolo scorso, o meglio, ahimè, di due secoli fa, alla fine dell'Ottocento intendo dire, qualcuno erigesse una statua a Garibaldi o a Cavour. Che cosa voleva dire? Beh, voleva dire, io onoro Garibaldi o Cavour come personaggi straordinari, ma anche voleva dire, noi cittadini manteniamo aperto con te un patto di fedeltà, noi ti siamo fedeli, ti siamo grati, la tua persona, la tua opera è ancora riconosciuta da noi, noi siamo fedeli ai tuoi ideali, eccetera, eccetera. Proprio per questo motivo, per questa diciamo espressione di un vincolo, di un patto bilaterale fra la persona rappresentata e i cittadini attraverso l'immagine, gli antichi usavano fare qualcosa che noi moderni pure abbiamo fatto in maniera drammatica, e cioè la damnazio memoria. Al momento in cui con quella persona non si riconosceva più il patto che era stato costituito prima, si tendeva ad abbattere le immagini, addirittura in periodi particolari della storia ci si limitava a cambiare le teste, cioè si prendeva la testa di qualcuno, la si toglieva, se ne metteva un'altra in modo da riutilizzare almeno il corpo della statua per stabilire il nuovo patto. Ma direi che noi moderni abbiamo fatto lo stesso dopo la caduta di alcuni regimi, come in Italia la caduta del fascismo, come è successo nell'Unione Sovietica dopo il crollo del comunismo, quando è noto che si trovavano statue di Lenin, di Stalin, addirittura in vendita, c'erano delle società che vendevano queste statue perché i russi non volevano più averle evidentemente nelle loro cittadine o nelle loro piazze, per quale motivo? Ma perché avevano rotto il patto con queste persone, di conseguenza non volevano più la loro immagine. Come dice così bene Uvidio, l'immagine vale più di quel che sembra, cioè sarebbe ingenuo ritenere che le immagini significassero soltanto la loro capacità di comunicare le fattezze di una persona, la sua bellezza, i suoi caratteri interiori. C'è sempre qualche cosa di più dietro un'immagine, ci può essere il desiderio di rimpiazzare in tutti i modi la persona che non c'è e che questa immagine rappresenta, ci può essere addirittura l'intenzione di manifestare un patto attraverso la presenza di un'immagine con qualcuno che in quel momento non è presente perché è scomparso, perché è lontano, perché è defunto, ma di cui si vuole mantenere viva, diciamo, la funzione di carattere sociale. Non so se ce ne siamo resi conto, ma imboccando questa strada si può finire niente meno che nel Don Giovanni. Quello che viene chiamato più o meno propriamente il mito di Don Giovanni, non so se sia veramente un mito, di sicuro però è un grande racconto, quello di Don Giovanni, pieno di significati, che come è noto culmina in una scena delle più impressionanti e delle più agghiaccianti. Dunque Don Giovanni ha ucciso il commendatore di Siviglia, che è il padre della donna che intendeva sedurre, tempo dopo, passando della stesso luogo in cui ha commesso quel terribile omicidio, vede la statua di Costui eretta. A questo punto, per Massimo di Scherno, che cosa fa? Invita a cena la statua del commendatore e la statua del commendatore, come è noto anche dal melodramma di Mozart e da Ponte, la statua del commendatore viene. Viene e provoca in questo modo la punizione e la rovina del libertino punito. Proviamo a riflettere per un attimo su questa scena, che è una delle più perturbanti, delle più sconvolgenti dell'invenzione letteraria. La sfida, l'insulto, lo sberlefo a una statua, una statua non si invita a cena, e l'inattesa risposta di quella statua. Io verrò. Il fatto che la statua viene, si manifesta. Che cosa succede? Succede che evidentemente i cittadini del luogo avevano fatto un patto con il commendatore, avevano voluto che il commendatore restasse fra loro, se non altro nella forma di una statua e di un'immagine, che Don Giovanni sfida questo patto e ne fa un altro, ne propone un altro alla statua. Perché non diventi mio commensale. Io sono il tuo assassino? Se sono il tuo assassino, in un certo senso facciamo pace, facciamo finta di niente, vieni. L'invenzione letteraria, la fantasia artistica di chi ha creato per primo questo racconto, fa sì che la statua risponda affermativamente, cioè accetta il nuovo patto e va, si reca da colui che l'ha sfidata a quel modo. C'è una lunga storia dietro questo cosiddetto mito di Don Giovanni. Una serie di racconti, anche greci antichi, che dicono come la statua di qualcuno che era stato ucciso si vendicò della morte per esempio cadendo addosso all'omicida un certo giorno e seppellendola sotto la rovina dei marbi e delle pietre. O storie di questo tipo. Quello che manca naturalmente nelle storie greche è questa sublime mascalzonaggine di Don Giovanni che arriva, diciamo dell'omicida, che arriva a insultare per l'ennesima volta il morto invitandola a cena e la risposta in attesa della statua che viene. Don Giovanni, soprattutto la statua del commendatore, ci dicono un'altra cosa a cui in genere non si pensa quando si guardano delle statue e delle immagini, che alle statue e alle immagini bisogna prestare attenzione. Cioè le statue e le immagini non sono innocue. Le statue o le immagini possono a un certo punto vendicarsi, possono far rispettare in extremis una legge che pareva violata da tutti. Le immagini sono come dire una sorta di incarnazione della legalità, della giustizia. Non bisogna come dire non solo non bisogna scherzarci ma bisogna avere anche fiducia che prima o poi le immagini, le statue riporteranno l'ordine, o perlomeno questo è il pensiero della letteratura o dei miti quando si occupano di immagini. Se dovessimo metterci qui a fare l'elenco di tutti coloro che si portarono appresso l'immagine di un amato o di un amata, di un innamorato o innamorata che avevano perduto e che in qualche modo cercavano di rimpiazzare attraverso un dipinto, una statuetta o un disegno, credo che la faremo abbastanza lunga perché la storia antica e moderna pullola di questi racconti. Si pensa immediatamente per esempio a Petrarca che di Laura si era fatto fare un ritratto, ma si può pensare anche a un personaggio un po' più inquietante, un po' più triste, un re di cui parla il libro della sapienza nella Bibbia, che era così afflitto e così triste per la morte del figlio che se ne fece fare una statua per il desiderio di consolarsi con questa presenza in forma di immagine. Ma a tal punto egli cominciò a venerare la statua del figlio morto che da questa pratica di questo re della sapienza nacque, si diceva, l'idolatria, cioè l'uso di adorare gli idoli come se fossero il vero Dio. A tal punto l'amore per una statua, la venerazione per una statua si era trasformata in una passione totalizzante, come dire quasi paralizzante per questo re che aveva dimenticato Dio e si era dato agli idoli per il desiderio del figlio morto. I greci avevano addirittura una parola che esprime bene questo sentimento che può alleggiare attorno all'immagine di qualcuno che non c'è più. I greci la chiamavano, infatti questo sentimento lo chiamavano pozzos. Pozzos è una forma di desiderio inappagabile. Si chiama così tutto ciò che si desidera sapendo che non si potrà mai avere, quindi è un misto di desiderio e noi diremmo di rimpianto. Quel re della sapienza era finito in pieno pozzos, in latino avrebbero detto che era finito nel desiderium che è sostanzialmente la stessa cosa. Noi desideriamo ciò che possiamo avere, anzi la nostra società è tutta costruita sul desiderare e sull'appagare, ma per un latino questo non avrebbe senso perché desiderare vuol dire bramare qualcosa quando si sa di non poterlo avere. In tutta questa turbinio, in questa, come dire, pullulare di storie di gente che si costruì l'immagine di qualcuno che non poteva avere, ci sta anche un personaggio abbastanza inatteso e cioè Paride. Paride, il principe troiano che si era innamorato di Elena, come tutti sanno, sanno i lettori dell'Iliade, insomma lo sanno tutti coloro che amano un po' il mito e la cultura greca, rapì Elena e se la portò via, tant'è vero che i greci fecero poi la guerra di Troia per riportarsela a casa. Si narrava però, c'erano, come dire, delle varianti un po' strane, un po' inattese di questa vicenda. Una di queste varianti era la seguente, che in realtà Paride non si era portato via Elena da Troia, neanche per idea, si era portato via semplicemente una immagine di Elena, cioè una tavola dipinta con la quale si era imbarcato frettolosamente lasciando la città in cui aveva rapito Elena e proprio assieme a questa tavola si era rifugiato di nuovo a Troia, il che apre poi tutto a una serie di domande abbastanza curiose, ma insomma se a Troia era stata portata solo un'immagine di Elena, ma perché i greci si misero a fare la guerra, visto che Elena non era stata rapita, e perché i troiani non dissero ai greci che lì avevano soltanto un bel dipinto di Elena, ma Elena non c'era, chi lo sa. Sono le ragioni del mito, le ragioni del racconto, che diventano tanto più ardue a penetrarsi quando non si possono leggere più questi racconti, come spesso accade con i racconti antichi, ma si trovano solo dei piccoli frammenti, delle notizie, delle varianti un po' inespresse, un po' paralizzate dall'oblio. Questa è una delle varianti paralizzate dalle oblio di cui sto parlando. Elena, che non andò veramente a Troia, ma ci andò in forma di immagine dipinta. Una variante invece molto più esplicita e ancora più intrigante del racconto di Elena e di Paride è la seguente. Dunque si diceva che Elena non era andata a Troia, e fin qui va bene, come l'altra, salvo che non si trattava di un ritratto. Non è che Paride si fosse portato a Troia un ritratto, un'immagine dipinta di Elena su cui spargeva evidentemente calde lacrime e sospiri d'amore. No, no, niente affatto. A Troia lui si sarebbe portato un perfettissimo doppio di Elena. Era accaduto infatti che era, la dea era, per proteggere Elena da questo seduttore fricio, che era noto come mascalzone, aveva costruito un doppio d'aria perfettamente somigliante alla Elena medesima e Paride, tratto in inganno da questa similitudine, si era portato via il doppio. Elena Vera in realtà non era rimasta neanche a Sparta, ma era stata portata in custodia presso un saggio re egiziano che si chiamava Proteo, che abitava a Memphis, e lì era rimasta per tutto il tempo in cui si era svolta la guerra. La storia è delle più, come dire, sconvolgenti, ma anche delle più istruttive per noi, nel senso che qui abbiamo un'immagine che effettivamente sostituisce in tutto e per tutto l'originale, proprio perché non è un'immagine qualunque, è un'immagine animata. Così infatti ci viene descritto questo doppio, come un'immagine che si muoveva, come un doppio d'aria che aveva la capacità di respirare, di muoversi, agire, parlare. Un'automa perfettissimo, come lo poteva fare una dea. È talmente perfetto da sedurre Paride, il quale se ne andò a Troia portandosi appresso semplicemente un doppio d'aria, da sedurre tutti quanti i troiani, i quali a dispetto dei lutti, della guerra, delle morti che la guerra di Troia si portò con sé, vollerò tenere Elena a tutti i costi. Come se non bastasse, è capace anche di sedurre Menelao, il marito tradito. Perché? Beh, qui c'è un po' la malignità ironica di Euripide, che è lui che sviluppa questa variante nell'Elena. Era infatti accaduto che quando Menelao finalmente riuscì a penetrare dentro Troia incendiata, andò a cercare la moglie infedele, la trovò, che cosa fece? La prese per i capelli e se la portò sulla nave come forma di punizione, nella trascinò per i capelli, trascinandosi in realtà un doppio, non la vera Elena, che se ne stava tranquilla da proteo. Il che, come dicono alcuni, depone per la buona qualità dei doppi che si facevano una volta, che avevano evidentemente dei capelli così sani, così buoni, che se anche uno le trascinava per i capelli, non succedeva niente. Dopodiché Menelao ci visse insieme per ben sette anni, quando i due vagarono sul mare, come tutti gli eroi greci che tornavano da Troia, anche Menelao ebbe un sacco di sventure, quindi vagò a lungo sui mari, e Menelao mai si accorse che conviveva con un doppio, finché sbarcato per caso sulla spiaggia del regno di Proteo, trovò la vera Elena, la sua vera moglie, e quindi si trovò di fronte a due Elene perfettamente uguali, delle quali una si dileguò nell'aria con un semplice soffio, perché come sappiamo era un doppio d'aria. Menelao restò ovviamente allibito, stupito di ciò che gli era accaduto, ma il più saggio di tutti fu certo lo schiavo che era lì presente, che assistette a questa storia, perché disse, ma dunque, allora noi abbiamo combattuto a Troia per Elena, questa Elena che era un doppio? Sì. Dice, ma allora noi abbiamo combattuto per un fantasma. Ecco che la storia di Elena e del suo doppio si trasforma in un modo straordinario di criticare la guerra. La guerra di Troia, la più grande, la più sanguinosa di tutte le guerre antiche, dice Euripide, in realtà si fece per un fantasma. Probabilmente tutte le guerre si fanno sempre per un fantasma. Se Menelao prese un'immagine per cosa vera, trattando l'ombre come cosa salda, dice il padre Dante, insomma anche lui trattò le ombre come cosa salda, come dire, era giustificato, nel senso che quel doppio era così perfetto che avrebbe tratto in inganno chiunque, trasse in inganno chiunque, aveva tratto in inganno pari dei troiani, tutti quanti. Però ce ne furono altri che trattarono le immagini come cose vere, ma erano alquanto meno giustificati, nel senso che si innamorarono, presero con sé immagini che erano palesemente delle immagini, non dei doppi. Il più celebre di tutti costoro, come dire un po' l'archegeta, l'alfiere di quelli che si innamorarono di una immagine, fu Pigmalione. La storia è narrata da Ovidio e le metamorfosi ed è la storia di un grande artefice che si innamorò della statua che aveva appena finito, cominciò a supplicare Venere perché gliela trasformasse in una donna vera e alla fine Venere accondiscese e trasformò questa bellissima statua nell'innamorata di Pigmalione. La cosa, come si sa, divenne poi metafora per parlare in vero e maniera assai maschilista di tutte le storie in cui c'è un uomo che in qualche modo crea lui una donna, cioè prende una donna che non valeva nulla e poi, educandola amorevolmente, insegnandogli, eccetera, la trasforma in un essere umano. Una storia che io trovo, quindi un'interpretazione di questa storia che io trovo abbastanza vieca. In realtà lì si trattava semplicemente di uno che si era innamorato di una statua e che ottenne di trasformarla in persona vera. Anche se devo dire che Ovidio stesso un po' di, come dire, angolazione maschilista ce l'aveva perché fa dire al suo Pigmalione io non riesco mai a innamorarmi di nessuna donna perché non ce n'è nessuna che mi piace, sono tutte piene di difetti. Vorrei tanto che questa statua fosse vera, il che non era propriamente un complimento per le donne in carne e ossa che circolavano a quel tempo. I miti, si sa, sono sempre, come dire, ambigui perché circolano non in una forma unica ma in tante forme, perché esistono, come si dice, delle varianti. Conosciamo in questo senso un'interessante variante del mito di Pigmalione che ci avvia alle altre storie che dovremmo raccontare adesso. Si diceva infatti che Pigmalione non fosse affatto un artista, questo in un certo senso è una specie di scuppo. Pigmalione non era un artista. Ci viene detto che Pigmalione era un re di Cipro ed era un re di Cipro pazzo che non sapeva scolpire, non sapeva dipingere, non sapeva fare nulla, era proprio un re che regnava e che si innamorò di una statua. Si innamorò di una statua e non riuscì però a farla trasformare in una persona vera, tutt'altro, anzi non lo chiese nemmeno, e si accontentava di abbracciare ed amare questa statua come se fosse stato quel pazzo che era. E l'autore cristiano che ci racconta questa storia, Arnobio, per l'appunto lo definisce tale, un demens, un folle, perché una cosa andrebbe detta chiaramente, quelli che si innamorano di statue e di immagini sono un po' dei pazzi, e forse proprio per questo ce ne furono molti. Un retore antico definiva questi amori per una statua o per un'immagine in questo modo, amori paradossali, anzi amori ridicoli. In effetti c'è qualcosa di comico l'idea di qualcuno che si innamora di una statua o di un'immagine, perché per definizione la statua o l'immagine non può ricambiare questo amore. L'idea di pensare che qualcuno è lì affannato, innamorato attorno a una statua può fare anche ridere. In realtà sembra molto chiaramente che chi prova questi sentimenti non ride affatto. Non ride affatto come dimostra la storia, forse la più celebre degli amatori di statue, di un certo Alceta di Rodi. Sappiamo tutto stavolta, sappiamo il nome dell'innamorato, sappiamo dove la storia si svolse, insomma abbiamo tutte le informazioni del caso, perché ce le dà Luciano, che era un tipo abbastanza indiscreto e curioso e quindi prese la storia molto sul serio anche nei dettagli. Allora questo Alceta di Rodi si innamorò di una bellissima Afrodite, nuda, che era stata fatta da Prassitele. Se ne innamorò al punto tale che la notte si infilò nel Tempio e cominciò a fare delle proposte alla dea, una cosa tra l'altro anche di grande fibri, se direbbero i greci, insomma una roba molto offensiva, ma come si va da una dea forse a dirgli vuoi fare all'amore con me? La dea non rispondeva, non fosse altro perché era una statua e allora lui cominciò a insistere e disse vabbè facciamo così, se tu non mi vuoi rispondere giochiamo almeno a dadi, se io faccio il colpo che si chiama il colpo di venere vuol dire che tu sei d'accordo che facciamo all'amore, se invece il colpo sarà un colpo negativo vuol dire che tu non sei d'accordo e non mi vuoi amare. Lui cominciò a giocare a dadi, naturalmente il colpo di venere non gli veniva mai, gli venivano sempre i colpi più bassi, meno significativi, ma lui non se ne dette per inteso e alla fine, travolto dalla sua passione, realmente, fisicamente, amò quella statua lasciando anche un segno sul marmo bianco, così almeno raccontavano le guide dell'isola di Rodi. Quel segno era la traccia dell'amore folle, pazzo di Alceta di Rodi, il quale, poverino, una volta amata la statua di Afrodite a quel modo, non trovò di meglio che salire in cima a un dirupo e buttarsi di sotto nel mare. Evidentemente, come innamorato, come amante di statue, si considerava una persona che non aveva più luogo nel mondo, che non poteva più esistere, trovarsi da nessuna parte, poteva solo scomparire. Forse, come dire, fu un po' troppo severo con se stesso Alceta di Rodi, ma non bisogna dimenticare quello che diceva Arnobio, bisogna ben essere pazzi per innamorarsi di una statua di pietra. Di tutti coloro che si innamorarono di un'immagine, certamente il più pazzo di tutti fu Narciso. Fu Narciso perché si innamorò della sua. Gli altri, tipo Alceta di Rodi, quello che si innamorò della statua di Afrodite, fatta da Prassitele, o Pigmalione, il mitico artefice che si innamorò della statua che aveva fatto lui. Almeno si innamorarono di qualche cosa che c'era, anche se, a dir la verità, un po' freddo e alquanto incapace di ricambiare il sentimento, cioè una statua. Però innamorarsi addirittura della propria immagine riflessa è un po' troppo. Ma è esattamente questo che accadde a Narciso, un giovanetto greco di cui il solito video ci racconta la storia. La storia per la verità è piuttosto nota, diceva André Gide in una delle sue opere, che si chiama appunto Il trattato nel Narciso, diceva la storia la sapete eppure io la racconterò ancora. Dice, il fatto è che tutte le cose sono state già dette, ma siccome nessuno sta mai a sentire, bisogna sempre ricominciare da capo. E allora anche noi questa volta ricominciamo da capo, cioè riraccontiamo la storia di Narciso. Narciso aveva una compagna, si chiamava Eco. Eco era innamorata di lui, ma Narciso non la ricambiava. Allora la poverina cominciò a struggersi d'amore fino al momento in cui restò nella forma di pura voce, quella che appunto anche noi oggi chiamiamola Eco. In realtà una ninfa che si era sciolta d'amore per il bellissimo Narciso e che resiste nella forma di sola voce. Un video ci racconta questa storia, ci fa sentire con una serie di abili giochi di parola quello che fa Eco, cioè che ripete semplicemente il finale delle frasi che le vengono rivolte e quindi dà l'illusione di essere una persona vera, mentre è semplicemente un rimbalzo, è semplicemente appunto un Eco di quello che si ascolta. Tanta crudeltà costò Cara a Narciso perché in un certo senso ebbe anche lui una fine analoga. Come quella che lo amava e che lui non ricambiava si ridusse a pura voce, a pura icona sonora, a pura immagine sonora di se stessa, anche lui in un certo senso si ridusse a pura immagine di se stesso perché si innamorò di quella che proiettava in una fontana. Ovidio, che è sempre un grande narratore, un grande descrittore, ce lo descrive lì questo Narciso sopra la fontana che prende se stesso per un altro, per un bellissimo giovane di cui ci si può innamorare e che alla fine però capisce quello che gli sta accadendo e dice Narciso io ho già quel che desidero, la mia stessa ricchezza mi fa povero, cioè il fatto di avere già me stesso mi rende povero perché non posso amare me stesso. E preso da questo folle amore per sé medesimo, alla fine Narciso reclinerà il capo sopra la fontana, morirà e si trasformerà nell'omonimo fiore in Narciso. La storia di Narciso ha dato il via a una straordinaria quantità non solo di varianti del racconto ma anche di interpretazioni di questo racconto, la più celebre senz'altro almeno ai tempi nostri è quella di Freud, il quale da questo mito trasse appunto ciò che ancora chiamiamo narcisismo, ossia quella pulsione ad amare se stessi, ad amare troppo se stessi che secondo lui rispecchiava l'antico mito che voleva appunto Narciso innamorato della sua immagine. Queste sono come dire interpretazioni, varianti nobili, varianti colte, rudite di questo straordinario racconto di Ovidio. Ce ne sono però di varianti un po' più popolari ma tutto sommato più divertenti. Per esempio, che effetto vi farebbe scoprire che è esistito anche un Narciso sostanzialmente imbecille? Anche i Narcisi possono essere imbecilli, non tutti, non ne arriverei a dire questo, però certo ne sono esistiti i Narcisi imbecilli e ahimè devo dire che questo Narciso sciocco era un professore, era uno scolasticos come dice il testo greco da cui trago questa storia, era un professore, non con questo che voglia dire che i professori sono spesso Narcisi e un po' stupidi anche perché direi male di me stesso, però in un certo senso a volte i professori grammatici un pochino ingenui sono, ma insomma lasciamo perdere questi preamboli e raccontiamo la storiella. Viene dal Filoghelos, praticamente una raccolta di barzellette di età bizantina. Allora, il figlio di un professore, di uno scolasticos, giocava a palla. La palla cadde in un pozzo e il ragazzo si chinò per riprenderla. Vista la sua immagine le chiese la palla, ma quella non gliela diede. Il ragazzo cominciò a dire alla sembrale scusi per favore mi può dare quella palla, ma l'immagine non dava la palla. Allora il ragazzo si lamentò con suo padre perché non riusciva a ottenere indietro quel che voleva. Il professore si chinò a sua volta sul pozzo, vide la sua propria immagine e disse signore, per favore vorrebbe dire a quel ragazzo se ridà indietro la palla a mio figlio. A un Narciso così sciocco non poteva che fare riscontro un Narciso brutto. Beh, uno dei Narcisi se li immagina sempre belli, invece sono esistiti nella tradizione antica anche dei Narcisi brutti. E questo viene dall'antologia palatina, una raccolta di epigrammi greci, molto belli e anche molto famosi, in cui ce n'è uno in cui si fanno delle raccomandazioni a un certo olimpico, il quale evidentemente tanto bello non era. Dice il poeta, con quel muso che hai, olimpico, non andarci alla fonte e non guardarti in un'acqua chiara. Anche tu, infatti, come Narciso, vedendo il tuo viso chiaramente potresti morirne, ma non di amore, bensì di odio. Narciso non la smette mai di stupire. Perché? Abbiamo visto che esiste un Narciso sciocco, che esiste un Narciso brutto, ma che cosa direste se io vi raccontassi la storia di un Narciso cavallo, un Narciso animale. Sembra strano, ma la storia ci viene da un erudito romano, Columella, persona abbastanza seria, almeno quando racconta come si fa a coltivare questo e quell'altro, quando bisogna raccogliere il grano e così via. Stavolta, invece, parla di animali, parla di cavalli e ci dice che cosa può accadere alle cavalle. Dice Columella, è raro, beh, meno male che è raro, è raro, ma talvolta prende le cavalle un furore di questo tipo. Vista la propria immagine riflessa nell'acqua, sono colte da vano amore e per causa di ciò dimentiche del pascolo muoiono, sfinite da questa brama. Le cavalle si vedono nella fonte e si innamorano di se stesse, proprio come Narciso. La passione, continua Columella, la passione si manifesta allorché le si vede recorrere qua e là per i pascoli, come perseguitate da un tafano, e guardandosi attorno sembrano cercare e rimpiangere qualcosa. Questo errore della loro fantasia si dissolve se si taglia in modo ineguale la criniera della cavalla e la si conduce all'acqua, perché allora, vista finalmente la sua deformità, essa cancella il ricordo dell'immagine precedente. Ma guarda un po' che è strano, come si guarisce dal narcisismo secondo Columella. Se la cavalla si innamora di se stessa e non riesce più a fare a meno della propria immagine, impazzisce, basta tagliuzzare la criniera in modo che sembri brutta. Vedendosi brutta, la cavalla guarisce dalla sua folle, passione per sé medesima. Evidentemente il narciso vero, quello di Ovidio, non ebbe la forza di vedersi brutto. Se si fosse visto brutto, avesse avuto il coraggio di spettinarsi, di fare delle smorfie, delle linguacce, probabilmente sarebbe guarito dal suo attacco di narcisismo. Invece lui rimase lì a contemplare se è medesimo e così morì. Con Narciso si potrebbe continuare all'infinito. Altre storie ci sono, quella per esempio del giovinette Utelida, che anche lui si innamorò di se stesso, soprattutto si innamorò dei suoi riccioli. Ma qui il poeta greco che ci racconta di questa vicenda di Utelida aggiunge un particolare per noi di estremo interesse. Guardandosi a quel modo, Utelida, proprio il modo di Narciso che si specchiava nella fontana, guardandosi a quel modo, Utelida si gettò il malocchio. Per questo fu colto dalla passione per sé stesso, per questo poi morì di consunzione, perché guardandosi si affascinò, cioè si gettò il fascinum, lo sguardo cattivo, lo sguardo che fa morire. Questa potrebbe essere un'altra appassionante interpretazione del mito di Narciso. In realtà Narciso sarebbe morto di consunzione per sé stesso, non tanto perché era un narcisista, quanto perché non fece caso, non vadò alla potenza dei suoi stessi occhi. Alcune persone infatti posseggono, secondo la cultura, la mentalità degli antichi, il potere di affascinare attraverso i loro occhi. Hanno il malocchio, come ancora oggi noi possiamo dire. Forse Narciso aveva anche lui questo dono, aveva il potere di affascinare gli altri e poi impadronirsi di loro, farli morire di consunzione, ma il caso volle che lui stesse guardando dentro i suoi stessi occhi, in questo modo affascinò se stesso e morì di consunzione. Di tutte le varianti che possediamo del racconto di Narciso, forse la più sottile, la più elegante, ma anche la più profondamente ironica, è quella di Oscar Wilde. Anche Oscar Wilde scrisse un breve Narciso e che prevedeva stavolta un dialogo fra lo scrittore e la fontana, in cui Narciso si era specchiato. In effetti non ci si pensa mai, ma c'è almeno un testimone, se non un interlocutore importante nel racconto di Narciso, che è questa famosa fontana in cui lui si specchiava. E allora Wilde immagina di rivolgersi alla fontana e di chiedergli, ma ascolta, tu che hai avuto in te, sulla tua superficie, l'immagine di Narciso, dimmi, ma Narciso era veramente così bello? E la fontana dice, ma quale Narciso? Wilde, il narratore, obietta, ma per pacco, quale Narciso? Narciso, il famoso Narciso, quella che si è specchiata in te, quel giovanotto bellissimo che è venuto, si è specchiato nella tua superficie, si è innamorato di se stesso, è morta e c'è. La fontana gli risponde, ma no, io non mi sono accorto di nulla, perché in realtà ero io che mi specchiavo negli occhi di Narciso. Dunque lasciamolo lì, il nostro Narciso sul bordo della fontana, mentre si contempla, Wilde insinua il sospetto, il dubbio, che in realtà sia tutto il contrario, che la vera narcisista sia la fontana, la quale si specchia lei dentro gli occhi di lui, lasciamolo lì, che sia la fontana, che sia Narciso, il narcisista, non ci importa molto, sappiamo come andrà a finire, sappiamo che Narciso è condannato a morte, sappiamo che da questa morte, da questa consunzione dovrà nascere un fiore bellissimo, il Narciso, dovrà nascere anche una teoria psicoanalitica, il narcisismo, però lasciamoli lì, ma non pensiamo che sia finita qui la storia, perché in realtà i miti greci, per la straordinaria ricchezza del loro dispositivo narrativo, hanno sempre in serbo delle sorprese. Prepariamoci ad ascoltare una storia la quale prevederà l'ingresso di un secondo personaggio. Sembrerebbe impossibile che nel mito di Narciso ci fosse qualcun altro che non è lui. Qui vorrei, se mi riuscisse, preparare, suscitare un po' di attesa da parte dell'ascoltatore, dicendogli questo. Esiste una storia in cui nel mito di Narciso, il mito dell'io per eccellenza, che è solo io, io, io innamorato di io, in cui entra un tu, ma in cui entra un tu che, paradossalmente, è pure lui, quasi un io. E questa sarà la variante del mito di Narciso che ha in serbo per noi il geografo e viaggiatore Pausania. Al viaggiatore Pausania, infatti, il mito di Narciso, così come gli veniva raccontato, pareva stupido. Ecco perché, lui dice, esiste un'altra variante del racconto, meno nota, ma estremamente più convincente per lui. La variante era la seguente. Narciso aveva una sorella gemella, in tutto simile a lui, nella capigliatura, nel vestire, andavano sempre a caccia insieme, e Narciso, di questa sorella, era in realtà profondamente innamorato. Ma un giorno la fanciulla morì. E Narciso fu preso da un tale dolore, da un tale dispiacere, che si recava ogni volta, ogni giorno, sul bordo di quella famosa fontana, non per guardare se stesso, ma in realtà per vedervi l'immagine di sua sorella. Quella gemella era talmente simile a lui che, guardandosi in medesimo, egli vedeva l'altra, di cui era innamorato. Questa improvvisa triangolazione che si apre in questo rapporto che è solo bilaterale, fra io e io, insomma, fra me e me in medesimo, rilancia un discorso più ampio e forse ancora più affascinante di quello di Narciso, che è il discorso che riguarda i gemelli. Un po' di tempo a questa parte ci stiamo occupando di Narcisi, ci stiamo occupando cioè di persone che si innamorano di sé in medesime attraverso la contemplazione della propria immagine, in uno specchio, in una fontana e via discorrendo. Abbiamo visto un po' di tutti di questi Narcisi, il Narciso vero, quello malinconico, quello di Ovidio, che si consuma di fronte alla fontana guardando la sua propria bellezza. Abbiamo visto un Narciso stupido, un Narciso brutto, un Narciso cavallo. Per ultimo abbiamo visto un Narciso che in realtà non contemplava se medesimo in quella fontana ma altro. Dunque, la storia narrataci da Pausani era la seguente. Un Narciso aveva una sorella gemella di cui era innamorato, lei era morta e Narciso, contemplandosi nella fontana, in realtà voleva rivedere non l'immagine sua di sé in medesimo, ma l'immagine della sorella. Potrebbe sembrare una variante, come dire, del mito un po' lambicata, un po' bizzarra, anche se personalmente la trovo bellissima, ma in realtà non è così perché ne possediamo anche altre di storie simili che riguardano i gemelli e la loro immagini. Addirittura una storia relativa a Romolo e Remo, in cui Romolo avrebbe sì ucciso Remo, secondo la buona tradizione della fondazione di Roma, ma poi si sarebbe accorto che senza questo suo gemello non riusciva in realtà a regnare. Come dire, era come se la sua regalità fosse monca. E allora aveva fatto costruire un'immagine che riproduceva in tutto e per tutto il fratello ucciso e in questo modo aveva potuto ricominciare a esercitare la sua regalità sulla città. Ce ne sono altre di storie simili, per esempio si raccontava che Atena, anche la dea Atena, avesse una sua sorella gemella di nome Pallade, che Pallade fosse morta, Atena fosse piombata nel più profondo dolore e a questo punto fosse stato costruita la statua del Palladio, che era una celebre statua che riproduceva Atena, che in realtà di nuovo non era l'immagine della persona in questione, cioè di Atena, ma era l'immagine che sostituiva il gemello, anzi la gemella morta e anche qui si era potuta ricostituire in qualche modo l'unità psicologica interiore di Atena che altrimenti senza questa sua gemella non aveva più senso, non riusciva più a esistere. Questo tema del rimpiazzare il gemello con una sua immagine, sia essa l'immagine che Narciso va elegantemente a proiettare sulla fontana oppure l'immagine proprio artificiale, la statua costruita, ci fa riflettere, o meglio ci inviterebbe a riflettere su che cosa sono i gemelli, questa coppia che a quanto pare si può pensare solo come coppia. Gli psicologi che si sono occupati lungamente dei gemelli, ci sono dei veri e propri specialisti della gemellarità come lo psicologo francese Zasot, presentano dei casi molto interessanti da questo punto di vista, è come se i gemelli non fossero capaci di concepirsi separatamente. Un caso famoso di gemelli studiato da Zasot prevedeva due sorelle gemelle che non dicevano mai io e tu parlando, ma dicevano sempre noi, voi, cioè si pensavano al plurale, si pensavano come una identità doppia, un'identità multipla e quando qualcuno domandava il loro nome loro rispondevano ci chiamiamo Josette Monique, come dire ci chiamiamo con i nomi di tutti e due, è che i gemelli pongono, come dire, un enigma alla cultura, un problema, ma noi chi siamo? Siamo soli o siamo doppi? Esistiamo separatamente o esistiamo soltanto quando siamo insieme? Ecco perché queste storie mitiche di cui abbiamo parlato, Narciso che riproduce la sorella gemella attraverso se stesso, attraverso, proiettando la sua immagine nella fontana, oppure Romolo che fa ricostruire l'immagine di Remo perché altrimenti non poteva governare, ecco assumono un significato psicologico molto profondo, probabilmente rispondono proprio a questo enigma posto dai gemelli, noi siamo due e uno nello stesso tempo, in un certo senso non possiamo esistere se siamo separati, se uno di noi due viene meno deve essere rimpiazzato come minimo da un'immagine. A suon di viaggiare fra i Narcisi ci siamo imbattuti addirittura nei gemelli che certo con i Narcisi sembrerebbero non avere niente a che fare e in effetti non ce l'hanno se non fosse per quel mito di Pausania che abbiamo raccontato. Il viaggio fra i Narcisi, come dicevo, è un viaggio piuttosto lungo, rischia di diventare interminabile, mi voglio arrestare a un'ultima stazione, facendo però una specie di avvertenza. L'ascoltatore deve sapere che sto per descrivere un Narciso abbastanza svergognato. Abbiamo visto che esistono Narcisi stupidi, Narcisi brutti, Narcisi animali, c'era anche un Narciso sporcaccione. Mi sento autorizzato a raccontare questa storia non tanto per il fatto che oggi c'è una certa libertà di costumi, ma semplicemente perché la raccontava il più moralista forse di tutti gli autori latini, che era Seneca. Allora, se Seneca racconta la storia di questo Narciso sporcaccione, vuol dire che sono autorizzati anch'io a riprodurla. Dunque, questo Narciso svergognato di cui sto per parlare si chiamava Ostioquadra. Ostioquadra era preda di una passione che oggi definiremmo autoscopia, cioè gli piaceva guardarsi, ma con un narcisismo tale da moltiplicare addirittura la propria immagine, da ingrandirla, da dilatarla. Infatti, sembra che Costui, che era un riccone, avesse l'abitudine di contemplarsi mentre, proprio mentre, si abbandonava ai vizi più perversi. E lo faceva attraverso un sofisticato marchigegno, una serie complicata di specchi, che non solo gli permettevano di vedere più grandi le parti del corpo che altrimenti sarebbero state piccole, ma addirittura gli permetteva di contemplare se stesso e i suoi partner anche da punti di vista che non sarebbero stati accessibili al suo sguardo normalmente, proprio perché lo specchio, come è noto, permette non solo di vedere la propria immagine, ma anche di vedere laddove normalmente non si vedrebbe, non si arriverebbe ad arrivare. Ostioquadra era dunque uno specializzato dell'autoscopia. Seneca era tutto contento che poi alla fine gli schiavi uccisero Ostioquadra, perché era un uomo crudele che oltretutto si viziava i propri schiavi e commentava che avrebbero dovuto immolarlo sotto il suo specchio. L'oggetto preferito da Ostioquadra era infatti uno specchio, anzi un insieme di specchi. Seneca lo biasimava molto, però bisogna dire che un certo Louis Fromont, che è stato un commentatore di Seneca nel 600, biasimava invece Seneca perché aveva raccontato questa storia. Nella nota a piedi pagina di questa edizione del Lettere all'Ucilio, il Fromont diceva «Avresti fatto meglio a tacere, Seneca, mi vergogno di leggere e commentare queste cose, e dunque lo faccio di corsa e con gli occhi chiusi». Gli specchi sono oggetti in vero molto, molto singolari. Non ci si pensa perché siamo circondati da specchi e è difficile che ci mettiamo a riflettere su che cosa sia veramente uno specchio. Se lo facessimo scopriremo una serie di cose interessanti. La prima sicuramente è questa. Lo specchio, si dice, rimanda le immagini di coloro che vi si specchiano. Le chiamiamo tranquillamente immagini, ma sono immagini. In altre parole, possiamo dire che lo specchio produce un sembiante, un'immagine, allo stesso modo in cui un pittore dipinge un quadro o un fotografo fa una fotografia? Probabilmente no. Probabilmente no per un motivo molto semplice. Immaginiamo il fotografo che ritrae una coppia che si sta sposando. È una delle pratiche, come si sa, più diffuse nel mondo moderno, fare fotografie riprese di ogni tipo, eccetera, in occasione dei matrimoni. Ma questo sarebbe un altro discorso. Allora, immaginiamo che questo fotografo abbia fatto la fotografia, abbia fatto la ripresa, poi la coppia non c'è, se è andata a pranzo, alla cena, parte per il viaggio di nozze, nel frattempo sono nati dei bambini, oppure sono separati, vabbè, qualsiasi cosa. Quell'immagine però è sempre lì. La si può tirar fuori, contemplare, rivedere il filmato, eccetera. Ma immaginate di aver messo un grande specchio di fronte a quei due sposi. Si è prodotta un'immagine, ma se quei due sposi se ne vanno, l'immagine anche se ne va con loro. Quindi quella che lo specchio produce non è una vera e propria immagine, è un riflesso della persona, dell'oggetto, del referente, non ha una natura autonoma. Apuleio, uno scrittore latino-romano del secondo dopo Cristo che si occupava di specchi, aveva già fatto questa osservazione e diceva, sì, le immagini concrete, le immagini fatte, le immagini artificiose, hanno un grande vantaggio su quella che si proietta negli specchi, che loro durano, restano lì, però, aggiungeva, gli specchi hanno anche loro a loro volta un'immagine, un grande vantaggio sulle immagini artificiose, e cioè che riproducono sempre immagini adeguate alla condizione presente della persona. Cioè, mentre l'immagine vera e propria, lui non pensava alla foto, ovviamente, pensava alla statue o al quadro, riproducono un certo stadio della persona e lo bloccano lì, lo specchio necessariamente dà sempre una versione attuale della persona, cosa estremamente affascinante, ma anche, direi, un po' triste, perché lo specchio, a differenza dell'immagine, è immerso nel ritmo del tempo e, come dire, fa danzare le persone di cui riproduce le immagini allo stesso ritmo a cui danza il tempo e l'avanzare dell'età. Chi pensasse però che gli specchi producono soltanto immagini di persone o di cose che sono lì di fronte a loro, cioè che hanno un po' la funzione che ha l'eco per le parole, cioè quella di far rimbalzare le persone o gli oggetti su se stessi, probabilmente sbaglierebbe. Lo specchio, in realtà, è molto di più di questo, è molto di più della semplice riflessione di ciò che c'è di fronte. Gli antichi, i greci e i romani, sapevano questo molto bene perché il modo stesso in cui definivano gli specchi invitava a una riflessione più acuta e anche un po' più sorprendente su questi oggetti. Per esempio, i romani, i ratini, chiamavano lo specchio speculum, da cui deriva appunto il nostro specchio. Ma che cosa significa una parola molto simile a speculum, cioè specula? La specula, per i romani, è il punto di osservazione, la vedetta, in un certo senso anche la spia, cioè da cui si guarda, non visti, qualche cosa che non è facile vedere. Allo stesso modo anche noi continuiamo a dire speculare per dire fare dei ragionamenti arzigogolati, immaginare, fare ipotesi, eccetera. Lo specchio, in realtà, oltre che riflessione di ciò chi è di fronte, è anche potente strumento di esplorazione. Strumento di esplorazione che serve a vedere più in là, a vedere di più, a vedere più in profondità le cose che altrimenti rischieremmo di contemplare in maniera superficiale. Tant'è vero che i greci lo chiamavano catoptron, lo specchio, e il catoptes, che è una parola estremamente simile al catoptron, il catoptes è direttamente lo spione. L'agente segreto, insomma, dei greci era un catoptes. Veniva disegnato quasi allo stesso modo dello specchio. Perché? Perché lo specchio è una sonda, in realtà. Lo specchio serve a guardare più addentro. Di questo, naturalmente, si impadronì ben presto, o meglio, fin dall'inizio, anche il mito, il racconto e la pratica magica. Lo specchio, infatti, era uno degli strumenti della divinazione. Ci si serviva degli specchi per conoscere il futuro. Anche noi, in un certo senso, lo facciamo. I nostri maghi, anche quelli dei fumetti, contemplano il futuro dentro delle sfere di cristallo, che, appunto, questi sono degli specchi. E si immagina che questi specchi abbiano la capacità di polarizzare, di captare, in qualche modo di far coagulare l'immagine di ciò che ancora deve venire, che ancora deve realizzarsi. Questo, per esempio, era la specialità del mago Nectanebo, un mago di cui si sussurrava che fosse il vero padre di Alessandro Magno, uno stregone potentissimo, che nella sua reggia in Egitto possedeva un grande bacile nel quale contemplava il proprio futuro. E anzi, una volta vide in questo bacile avanzarsi una grande quantità di navi, una flotta potentissima, che intuì essere quella dei suoi nemici che venivano ad ucciderlo. E proprio questo gli dette il modo di fuggire e di rifugiarsi altrove. Questo è il racconto di Nectanebo, così come sta nel romanzo di Alessandro, una vita romanzesca di Alessandro Magno, che comincia appunto con le avventure del suo padre. Però sappiamo che i greci, in particolare, usavano realmente gli specchi come strumento di divinazione, e lo facevano in un modo un po' crudele, in questo modo. Prendevano un bambino o addirittura, ahimè, una donna incinta, bendavano queste persone, li mettevano pancia in giù e le facevano stare lì a lungo. Poi li sbendavano improvvisamente e mettevano di fronte a loro una superficie riflettente. Il malcapitato o la malcapitata vedeva delle cose, uno può dire, beh, per forza aveva delle allucinazioni dopo tutta quella sofferenza, e dentro quegli specchi vedeva, individuava, dei messaggi segreti. Questo si chiamava catoptromanzia ed era appunto la pratica della magia della divinazione attraverso gli specchi. Come nascono i sogni? È una bella domanda di cui si sono occupati un po' tutti. Un po' tutti hanno cercato di rispondere, i filosofi antichi, i teorici dell'interpretazione dei sogni, gli scrittori, i moderni psicologi o psicanalisti, gli studiosi ovviamente di fisiologia, fisiologia del sonno e così via. Perché ci interessa il sonno e il sogno? Beh, perché il sogno produce immagini, o meglio, è esso stesso immagine. I greci, per esempio, ma anche i romani, dicevano vedere un sogno, non fare un sogno. Questo è molto interessante. Noi diciamo fare un sogno in qualche modo, immaginiamo che il sogno lo produciamo o lo subiamo, ma insomma, come se il sogno fosse una vera e propria azione. I greci lo vedevano, honor idein. Perché? Perché era un'immagine. Quindi il sogno ci riguarda, ci riguarda perché produce, come dicevano i greci, eidola. Eidolon è per l'appunto la stessa parola che si usa per indicare un quadro, una statua, insomma, un'immagine artificiosa. Immaginiamo dunque un mondo in cui fra i sogni e le immagini dipinte, scolpite, le visioni, quello che si produce in uno specchio, eccetera, in realtà non c'era grande differenza, almeno dal punto di vista linguistico. Erano tutti eidola. I latini avrebbero detto che erano tutti simulacra, tutti immagini, che percuotevano in qualche modo la mente e la percezione delle persone. Allora, come nascono i sogni? Secondo gli antichi, i sogni potevano nascere in tanti modi. Per esempio, c'erano teorie più materialiste, anche Platone in parte la pensava così, per cui si diceva che se uno ha mangiato troppo, non digerisce bene, eccetera, questi residui producono dei sogni. Quindi il sogno altro non è che una manifestazione dell'organismo umano quando non è perfettamente funzionante. C'erano poi teorie diverse, in cui il sogno aveva un significato molto più ricco, più profondo. Ugualmente Platone parlava di queste cose e anche lui aveva i sogni una certa rilevanza. Perché? Perché attraverso il sogno poteva accadere che si insinuasse in qualche modo la divinità, la quale produceva dei messaggi, dava delle informazioni che venivano deformate o camuffate o comunque che si insinuavano nelle immagini dei sogni, per cui il sogno diventava poi estremamente rilevante, doveva essere interpretato e forniva strumenti per il comportamento futuro. C'erano poi altre teorie che semplicemente dicevano che nel sogno l'anima, dato che il corpo è addormentato, è più libera e quindi può vagare, può incontrare altre anime, può ricevere visite, può ricevere impressioni esterne, immagini che la notte percorrono l'aereo, eccetera, eccetera. Quindi il sogno sarebbe in un certo senso una sorta di azione animata di immagini o di anime che si aggirano nell'etere quando non ci sono più i vincoli del corpo e quindi certo il sogno diventa un potente strumento di conoscenza. Di tutte le interpretazioni, le teorie dei sogni che sono state date nell'antichità, certo la più suggestiva, almeno dal punto di vista narrativo, è però ancora una volta quella che dà Ovidio nelle Metamorfose. Ovidio infatti ci descrive la casa del sonno e nella casa del sonno lui colloca anche giustamente i sogni e spiega come nascono, come si producono. Io vi leggo adesso dalle Metamorfosi la descrizione della casa del sonno. Spero di non produrre il sonno negli ascoltatori perché in effetti è estremamente soporifera questa descrizione. Vi è presso il paese dei Cimmeri una spelonca nascosta, profondamente scavata in un monte, la dimora segreta del sonno inerte. Lì Febo con i suoi raggi non ha accesso, né quando sorge, né quando è a metà o alla fine della sua corsa. Foschi vapori esalano dal suolo, mantenendo un'incerta luce da crepuscolo. Lì non c'è a vegliare il volatile munito di cresta, che evoca col suo canto l'aurora, e l'abbaiare dei cani solerti o lo strepito delle oche, ancor più attente, non rompe il silenzio. Insomma, non c'è nemmeno un rumore. In quel luogo non si odono versi di fiere, né di animali domestici, non rumore di rami mossi dal vento, né vivace prorompere di voci umane. Vi domina una calma assoluta. Tuttavia, dalla base della roccia sgorga un rivolo proveniente dal fiume Lete, e per forza il sonno è oblio, dimenticanza di tutto, quindi se c'è un'acqua non può essere quella dell'Ete. Fiume Lete le quei acque scorrono mormorando con un acciottolio di sassolini che invita il sonno. Davanti all'ingresso della grotta c'è un'abbandante fioritura di, ovviamente, papaveri, insieme ad altre svariate erbe da cui l'umida notte estrae un lattice che produce sopore e lo sparge sulla terra immersa nell'oscurità. Non c'è porta che strida sui cardidi, non ce n'è affatto in tutta la casa, come non c'è chi stia a guardia di essa. Nel mezzo si trova un letto alto sui piedi di nero ebano, imbottito di piume, tutto di un solo colore, coperto da veli scuri, sul quale sta sdraiato il dio in persona, col corpo languidamente abbandonato. C'è il dio sonno che dorme in un letto tutto scuro, tutto nero, coperto di veli neri. E intorno a lui, qua e là, riproducendo le forme più svariate, giacciono i sogni inconsistenti, tanti quante sono le spighe in un campo di grano, o le fronde in un bosco, o i granelli di sabbia in una spiaggia. Dunque questa è la casa del sonno, una casa estremamente soporifera, piena di papaveri, però piena anche di visioni, piena di sogni, che sono tanto numerose quante sono le spighe in un campo di grano. La storia Ovidio la racconta perché viene mandata da lui, dal dio sonno, iride, la messaggera degli dèi, per realizzare un certo compito, che altro poi non è che ingannare una povera donna che si chiama Alcione e farle credere che il marito è morto. In realtà poi il marito è morto davvero, ma si costruisce tutta una messa in scena come se effettivamente apparisse ad Alcione l'anima del marito che è appena affogato. È una storia abbastanza curiosa, perché uno potrebbe dire, ma perché non viene mandata direttamente l'anima, la psichè di questo marito che si chiamava Ceice da Alcione? Perché non appare direttamente quest'anima? Eh no, Ovidio inventa un meccanismo assai più complicato per esprimere e descrivere l'origine dei sogni. Nei sogni non accade semplicemente che l'anima di tizio o il dio tale si muovano e si rechino nella mente di un altro, cioè appaiono a qualcuno. A svolgere questa funzione c'è qualcun altro. Dunque, spiega Ovidio, in realtà quando si sogna accade questo. Ci sono tre dèi che si aggirano sempre attorno lì alla casa dove dorme, veatamente, veato lui, il sonno, in quel buio continuo e perenne, ci sono tre dèi che si chiamano uno Morfeo, o Morfeo, chiamiamolo Morfeo, uno Fantaso e uno Fobetore. Allora, Morfeo, quello che poi diventa il sinonimo del dio del sonno nella tradizione successiva, ma che tale non è, francamente, perché in Ovidio si occupa di altro. Morfeo che funzione ha nei sogni? Beh, lui ha la funzione di interpretare le persone. In altre parole, se a qualcuno appare l'ombra del marito morto, oppure qualsiasi altro personaggio, un amico, anche se è vivo, chiunque, insomma, non bisogna pensare che sia effettivamente l'anima di quell'amico, ma nemmeno una vana immagine di lui, un'immagine falsa. No, è Morfeo. È Morfeo, il quale è una specie di dio imitatore, diciamo, che entra nella testa delle persone, imitando il personaggio del sogno. Morfeo è un attore. Del resto, lui deriva, il suo nome deriva da Morfeo, che in greco vuol dire sia forma, sia anche, come l'italiano, smorfia. La nostra smorfia, altro non è che un derivato del greco Morfeo. Quindi Morfeo, chi è? Colui che fa le smorfie, letteralmente, colui che si atteggia, atteggia il suo viso ed è capace di imitare, a tutti gli effetti, i personaggi che entrano nei sogni delle persone. Insomma, una sorta di, se volete, di Sabina Guzzanti, non so, di questi imitatori così bravi che ci sono oggi che sanno imitare tutti. Morfeo era, per l'appunto, un personaggio del genere. Come se non bastasse, c'era poi quest'altro dio, Fobetore, il quale era invece quello che si occupava di interpretare gli animali. Se uno sogna degli animali, non sta sognando effettivamente degli animali, sta sognando piuttosto Fobetore che interpreta degli animali per lui. Infine c'era un altro dio, che si chiamava Fantaso, che era quello paesaggista, che si occupava di creare, di simulare nella percezione dei dormienti i paesaggi, i luoghi in cui questi sogni si realizzavano. Tutti e tre, Morfeo, Morfeo, Fobetore e Fantaso, formavano i tre attori, la triade, che creava e produceva i sogni. Se dobbiamo credere a un video, dunque, che cosa sono i sogni? Non sono niente e sono tutto, nel senso che non c'è nulla di vero nei sogni. Nei sogni non appare nessuna vera e propria anima, non appare nessun vero e proprio dio. Quello che appare nei sogni sono delle imitazioni, sono delle finzioni. I sogni, dunque, sono prodotti falsi. Non c'è niente di buono là dentro. In un certo senso, Ovidio dà ragione a quello che tanti secoli dopo dirà Rojeka Iwain, un celebre libretto sui sogni, il quale sosteneva contro Freud e contro la psicanalisi che i sogni non significano proprio niente. Ma non è semplicemente questo, meglio, non è del tutto questo. Da un lato i sogni per Ovidio sono falsi perché non c'è nessun personaggio vero che all'interno sono tutti degli attori, degli imitatori, però contemporaneamente sono anche veri perché funzionano in base a un piano divino. Cioè, quando si dorme, si alberga, noi alberghiamo nella nostra mente, nella nostra fantasia, alberghiamo degli spettacoli, degli spettacoli organizzati dagli dèi, i quali fanno danzare queste forme prodotte da Morfeo, da Fantaso, da Fobetore, e come dire, organizzano dei spettacoli di rivista dentro la nostra percezione e così noi crediamo di assistere a scene, a premonizioni, a incubi spaventosi. Per esempio, Fobetore, che è il dio che produce gli animali, è per l'appunto il dio degli incubi, il dio che produce l'animale che si siede sopra il petto del dormiente e produce il terrore, come nel famoso quadro di Fusli, in cui si vede l'incubo nella forma di una cavalla, di un cavallo che grava addosso al mortale. Insomma, questi tre dèi hanno la capacità di simulare tutto, ma proprio perché hanno la capacità di simulare tutto, alla fin fine diventano veri, nel senso che se è falso ciò che essi rappresentano, contemporaneamente però essi rappresentano questo in base al preciso volere degli dèi, in base alla scelta che essi medesimi fanno e loro sono a loro volta degli dèi. Che cosa fanno dunque gli uomini quando sognano? Subiscono la fantasia altrui, subiscono la fantasia divina, i piani, le scelte, tutto quello che gli dèi escogitano per loro e che, come dire, gli dèi si servono della capacità di sognare della fantasia del sognatore proprio per proiettarvi dentro i loro desideri, i loro piani segreti. Se volete possiamo sviluppare un parallelo con la società contemporanea a questo punto, però dobbiamo uscire dal mondo dei sogni per entrare dentro un mondo che certo col sogno ha ancora molto a che fare, ma che noi abbiamo il torto o la ragione, la fortuna o la sfortuna, ricollegare invece nell'esperienza diurna, nell'esperienza reale, ossia la televisione. La televisione somiglia terribilmente al mondo dei sogni così come era stato escogitato da Ovidio. Anche nella televisione infatti abbiamo una serie di morfei, di fantasi, di fobetori che per noi interpretano una quantità di visioni, di azioni virtuali e quindi possiamo dire di sogni, i quali realizzano quelle che sono le volontà, il piano, la regia, come ancora noi oggi diciamo, di coloro che organizzano per noi questi spettacoli. La grande differenza qual è? La grande differenza l'abbiamo già detta, che mentre Ovidio immaginava che tutta questa fantasia, creata appunto da fantasi, da fobetori, da morfeo, eccetera, si riversasse solo nella mente, nel cuore, nella fantasia dei dormienti, oggi per noi questa grande macchina da sogni che è la televisione o il cinema, riversa tutto ciò, riversa i moderni morfei, fantasi e fobetori nel mondo della veglia. E questa è effettivamente una grande differenza, a volte il nostro mondo rassomiglia molto a un mondo in cui si sogna moltissimo ad occhi aperti durante il giorno, si sogna per ore e ore proprio di fronte a schermi di sogno con moderni morfei, fantasi e fobetori, i quali operano, realizzano la regia del nostro mondo interiore. In questo senso noi continuiamo a dare ragione a Ovidio, i sogni non significano nulla, così come nulla significano molto spesso gli spettacoli a cui assistiamo in televisione, ma nello stesso tempo significano molto, significano moltissimo, significano la volontà di coloro che tutto ciò realizzano per imprimere con esso la nostra fantasia. E da questo schermo del sonno e del sogno e da questo schermo della moderna televisione io torno conclusivamente a questo mondo senza schermi, ma con molti sogni però, che è la radio. La radio attraverso la quale io ho potuto parlare con voi per molte settimane e non posso che esprimere tutta la mia gratitudine avverso questo mezzo che permette di parlare ancora con tanta semplicità e tanta facilità e non posso soprattutto che esprimere la mia gratitudine, la mia simpatia per tutti coloro che mi hanno ascoltato e che idealmente hanno dialogato con me per tutte queste settimane e arrivederci.